La seduta è aperta. Invito al senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta di ieri. Grazie, Presidente. Verbale della seduta del 20 luglio 2021, numero 348. Presidenza dei vicepresidenti La Russa e Rossomando. Aperta la seduta alle ore 16.34, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 15 luglio 2021. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto e comunica le determinazioni assunte dalla conferenza dei capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 30 luglio 2021. Sull'ordine dei lavori interviene il senatore Marcucci, cui risponde il Presidente. Il Senato passa al seguito della discussione generale del disegno di legge numero 2003. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Totaro, Iannone, Ferrero, Aimi, Biti, Toffanin, Faggi, Mangialavori, Urraro, Puglia, Garnero, Santanchè, Rizzotti, Pepe, Verducci, Abate, Paroli, Bruzzone, Calendo e Ripamonti. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Lunesu, Verducci, Naturale e Quarto. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 21 luglio 2021 alle ore 9.30 con l'ordine del giorno di cui da lettura. La seduta è tolta alle ore 20.03. Perché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori incongiati e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato via resoconto della seduta odierna. Informo che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113,2 del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. Comunico che in data 20 luglio è stato presentato il seguente disegno di legge. Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dal Ministro della Cultura e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, conversione in legge del Decreto Legge 20 luglio 2021 numero 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge e conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 25 maggio 2021 numero 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Grazie Presidente. Come noto, il 17 luglio la Commissione europea ha inviato al governo italiano, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, una lettera con la quale mette in mora l'Italia in ordine al vergognoso trattamento che sta riservando nei confronti dei magistrati onorari. Magistrati onorari, secondo la Commissione dell'Unione europea e secondo giurisprudenza ormai pacifica della Corte di giustizia dell'Unione europea e anche della giurisprudenza italiana, sono privati degli elementari diritti che spettano a ogni lavoratore, in tema di previdenza, di assistenza, di maternità e anche in ordine a un decoroso trattamento economico che sia corrispondente all'alta funzione che essi svolgono. Pertanto le chiedo, Signora Presidente, che ai sensi dell'articolo 15 della legge 234 del 2012 lei inviti il Ministro Cartabia a riferire con urgenza al Parlamento e a quest'Aula lo stato della situazione in ordine alle condizioni dei magistrati onorari e come intende risolvere le gravi questioni sollevate dalla Commissione europea. La ringrazio. Senatore Balboni, ovviamente prendiamo atto della sua richiesta. Come sa, per il funzionamento dell'Aula si richiede sempre di anticipare alla Presidenza quello che vuole essere un intervento sull'ordine dei lavori. Comunque è presente il Governo. Il sottosegretario Pichetto Fridina. Proseguiamo quindi. La relatrice, senatrice Modena, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Buongiorno, Presidente, buongiorno, Governo. Dunque, noi arriviamo ovviamente con un atto di cui non sono stati potuti esaminare gli emendamenti e quindi si è provveduto al ritiro, ma questo faceva anche un po' parte di un lavoro interparlamentare che è stato svolto sicuramente fra il sostegno 1 e il sostegno 2. Sono stati peraltro esaminati una serie di ordini del giorno da parte sia di chi l'aveva predisposti che da parte del Governo. Quindi possiamo descrivere il provvedimento immaginando una sintesi che attiene ovviamente i contenuti dello stesso. Dunque, intanto è necessario segnalare che il disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del Decreto-Legge numero 89 del 2021 e del Decreto-Legge numero 99 del 2021 con salvezza degli effetti. Per quanto riguarda il contenuto del Decreto-Legge, come è stato modificato dalla prima lettura dalla Camera, il titolo 1, che comprende gli articoli da 1 a 11 octies, reca misure di sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi. Si segnalano in particolare alcune disposizioni. L'articolo 1, commi 1 e 4 riconosce e disciplina un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quelli previsti dai provvedimenti precedenti a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva, alla data del 26 maggio del 2021, che è la data di entrata in vigore del provvedimento in esame. I commi da 5 a 15 riconoscono un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui hai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti commi 5 e 6. I commi dal 16 al 27 disciplinano un diverso contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti indicati nei commi 16 e 17. Il comma 28 concerne l'obbligo per le imprese di presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stati a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. L'articolo 1 bis abroga il comma 9 dell'articolo 6 bis del Decreto-Legge numero 137 del 2020, presenti il cosiddetto Decreto di Stori, pur mantenendo ferma la detassazione dei trasferimenti in favore dei lavoratori autonomi di elencati, in quanto ricompresi nel disposto dell'articolo 10 bis del medesimo Decreto di Stori. L'articolo 1 terra, erogazione dei contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il limite massimo di spesa alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore cosiddetto oreca. L'articolo 1 quater incrementa di 60 milioni di euro per 2021 il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore. L'articolo 1 quinquese istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 per il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza negli anni 2020 e 2021, sempre in ragione dell'emergenza Covid. Il contributo straordinario è riconosciuto a titolo compensativo a favore di ciascuna delle IPAB sulla base dei costi sostenuti per la sanificazione dei locali, l'adozione di dispositivi di protezione personali per ospiti e operatori e l'adeguamento strutturale dei locali. L'articolo 1 sexties rimodula i tempi di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di definizione agevolata di cariche affidati alle gente di discussione. L'uno sexties contiene delle disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel primo semestre del 2021. Il d'articolo 2 per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2021 e la data di conversione istituisce al primo comma, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021. Nel corso dell'esame, in prima lettura alla Camera dei deputati, sono stati aggiunti tre commi ulteriori che incrementano di 50 milioni per il 2021 il fondo destinato alle perdite derivanti dall'annullamento, rinvio e ridimensionamento di fiere congressi. L'articolo 3 incrementa al comma 1 di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal decreto sostegni per la concessione di contributi in favore di soggetti, esercenze, attività di impresa, di vendita, di beni o servizi al pubblico. L'articolo 3 autorizza la spesa di 35 milioni per il 2021 al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei giochi olimpici, paraolimpici, invernali, Milano e Cortina. L'articolo 4 proroga al 31 luglio lo specifico credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, previsto per le imprese turistiche ricettive, le aziende di viaggio e tour operator che hanno una diminuzione del fatturato dei corrispettivi. Il comma 2, introdotto durante l'esame presso la Camera dei Deputati, estende il credito a determinate condizioni e anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore dal decreto, nonché soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019. L'articolo 4 ter esenta da limo dovuta nel 2021 gli immobili ad uso abitativo posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida disfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, da cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione si applica nel caso in cui per il 2021 la convalida sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Si prevede di corrispondere un ristoro ai comuni per le migliori entrate e minori entrate derivanti dall'agevolazione. L'articolo 5 bis conferisce alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'importo complessivo di 1.200 milioni di euro anche al fine del contenimento degli oneri in bolletta, derivanti dagli adeguamenti delle tariffe nel settore elettrico, fissati dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e per il terzo timestre dell'anno 2021. L'articolo 6 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un fondo con una dotazione di dei 600 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzata la concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie oppure dalle restrizioni L'articolo 7 reca una serie di misure rivolte al sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle città d'arte, tra cui il rifinanziamento di 160 milioni di euro per il fondo nel 2021 finalizzata a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane. Include inoltre i servizi offerti dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, tra quelli il cui pagamento è coperto dalla tax credit vacanze. L'articolo 7 bis consente l'utilizzabilità del credito riconosciuto per il pagamento dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale anche per il pagamento dei pacchetti turistici. L'articolo 8 modifica la condizione del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. Rifinanzia inoltre di 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito nello stato di previsione del MEF da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19, in particolare le imprese esercenti, le attività commerciali o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. L'articolo 9 posticipa dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma prevede inoltre che fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo. Il comma 1 bis proroga al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutesi dal 24 agosto 2016. I commi successivi modificano la disciplina delle attività che sono svolte dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il comma 1 sepsis stabilisce che i fabbricati ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatesi nell'agosto del 2017 a Ischia sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati. Il comma 3 di questa disposizione differisce al 1 gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta plastic tax, ovvero dell'imposta di consumo dei manufatti con il singolo impiego. Abbiamo poi anche un termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili verso i soggetti che non abbiano provveduto a fare delle dichiarazioni al catasto edilizio urbano per i terreni che sono ubicati nel settore del sisma e la Camera ha anche ampliato la possibilità di aumentare i quantitativi di rifiuti non pericolosi. Poi il 9 bis proroga il 30 giugno fino al 31 luglio il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti che attengono la Tarai da corrispondere nel 2021. Il 9 ter che è stato introdotto... Senatrice Modena, ha terminato il suo tempo, se vuole può consegnare il documento, la prego di la ringrazio, è molto gentile. No, ringrazio lei, io consegno il documento che ha tutta la relazione completa. Grazie senatrice Modena, ha ora la parola del relatore di minoranza, senatore De Carlo. Senatore De Carlo, non è che è così cortese di prendere posto ai banchi delle commissioni in maniera tale che al centro dell'emiciclo la possiamo seguire meglio? La ringrazio. No, ringrazio... Prego. Presidente, ringrazio io lei che mi lascia seduto tra i banchi della minoranza laddove c'è meno dispersione e meno difficoltà a parlare, visto che lì c'è un continuo via vai e per me è quasi impossibile farlo. Quindi resto comodamente nel nostro nido d'aquila e sono sicuro che lei apprezzerà sia il fatto che non faccio polemica su questo, ma anche che intervenga oggi in aula, perché capisco che a voi piacerebbe, ormai a tutto l'emiciclo, che la minoranza fosse ridotta a un qualcosa di così... La senatore De Carlo, la faccio poi intervenire e sicuramente lei considera a cosa gradita che io le chiedo di andare nel posto dei relatori esclusivamente per una comodità dell'aula a seguire la sua relazione. Se lei preferisce rimanere lì, ma non è certo una discriminazione che facciamo a livello di aula, io le indicavo solo quali sono i corretti svolgimenti di una relazione, di un relatore di minoranza. Dopodiché, prego. La ringrazio, però le rinnovo la mia decisione di rimanere qui proprio a beneficio dell'aula, che può sicuramente ascoltarmi in maniera molto più semplice e accurata di quanto io possa fare lì disturbato da un continuo via vai, dimostrato anche da questo da adesso. In realtà, Presidente, avrei voluto intervenire e rimanere zitto, non fare nemmeno una parola. Tanto inutile per voi è il pensiero, il convincimento e le motivazioni e qualsiasi contributo che l'opposizione può darvi e lo dimostrano i fatti. Io ricordo da spettatore, da sindaco, quando nella legislatura precedente, non nei governi precedenti, ma nella legislatura precedente, una grande parte dell'opposizione si di fatto lagnava, lamentava, giustamente, per il ricorso ossessivo e compulsivo al voto di fiducia. Quella stessa minoranza che oggi è maggioranza e che non si vergogna nemmeno più, perché è quasi diventato assodato che qualsiasi provvedimento che abbia un minimo o che voi rettiniate assolutamente urgente debba, visto che il vostro governo è il governo che salverà la nazione per forza eliminare il bicameralismo. Lo abbiamo visto su tutti i provvedimenti. Ormai è naturale che ciò che votiamo contro, cioè l'eliminazione del Senato, oggi è diventata una prassi. Esiste una Camera sola, con una compressione anche lì della possibilità di discussione, e poi un provvedimento che arriva blindato nell'altra Camera, dove il relatore di minoranza ha un ruolo assolutamente pleonastico, un esercizio di retorica inutile dal punto di vista dell'incidere sul provvedimento, ma utile a ricordare a tutti, qua dentro, e vedo le teste che si abbassano, perché tanti hanno fatto parte anche dell'opposizione anche in questa legislatura e dicevano le stesse cose che dico io. E oggi invece sono costretti a farsi andare bene anche questa prassi ormai consolidata che svilisce o vorrebbe svilire il ruolo dell'opposizione e renderle così assolutamente inutili. Noi invece crediamo che anche il fatto solo di esistere, il nostro esistere, sia per voi una fonte di grandissimo imbarazzo, perché siamo qui a ricordarvi che la democrazia è un'altra cosa. Siamo in pochi, interveniamo da qui, apposta, siamo in pochi a ricordarvi che la democrazia ha altre regole scritte, mentre queste sono prassi che voi avete introdotto per giustificare i vostri ritardi atavici nell'emanare i provvedimenti, che poi devono correre in aula altrimenti pena la loro decadenza. Ecco, io credo che la vergogna che dovreste provare basterebbe oggi al relatore di minoranza a dire che si sta discutendo di un provvedimento di 40 miliardi con dei tempi assurdi, con la possibilità di incidere pari a zero, mentre faccio un esempio banale, dall'altra parte giustamente si discute di un decreto, il decreto ZAN, per ore in aula, giustamente per altro, non che sia meno importante. Tutto quello che viene discusso qua dentro e che viene proposto da persone democraticamente elette è importante, ma forse non è una priorità rispetto invece a quello che ci chiedono le imprese, tanti operatori, le partite IVA, che vorrebbero che le priorità di questo Parlamento fossero appunto il loro sostegno. E allora cos'è? In questo provvedimento discussione zero, nel DL ZAN discussione infinita. Dico infinita e non uso le parole a caso, perché tenderete a portarla al di là, a scavallare le ferie d'agosto, perché così riuscirete a fare un po' di campagna elettorale e proseliti tra quelli che pensate essere ormai i vostri elettorato di riferimento, che in realtà sempre più si sta rendendo conto di quanto bisogna uscire dai temi ideologici e simbolici per entrare nei temi pratici, concreti e che afferiscono ai diritti della persona in senso generale, non solamente di una parte dei diritti di una parte delle persone. Vedete, i diritti sono inalienabili, ma appartengono a tutti. Non esistono persone che hanno più diritti degli altri, non esistono nemmeno persone ghettizzate più degli altri. La persona è una e a queste persone non dovremmo occuparci come con questo decreto. In realtà il decreto che la Camera ha approvato mercoledì scorso, il 14 luglio, e che arriva al Senato oggi blindato, come ho già avuto modo di spiegare, è un decreto che è sostanzialmente la continuità dei governi che hanno preceduto il governo Draghi. La stessa metodologia, il contributo a pioggia, la scarsità di visione, la mancanza di una strategia di uscita da questa pandemia. Già il fatto che dopo un anno e mezzo si stia ancora parlando di emergenza, dimostra il fallimento di un anno e mezzo di politiche dell'emergenza. Perché un'emergenza ha un tempo limitato e contingentato, la visione e il futuro dovrebbero avere un tempo decisamente diverso. In realtà, già col dire che è un decreto d'emergenza, implicitamente abdicate al vostro ruolo e manifestate la vostra palese incapacità di risolvere i problemi di questa nazione. E ve lo diciamo da opposizione patriottica, qui non siamo mai venuti senza una proposta, mai. Abbiamo sempre aggiunto alla protesta la proposta. Ed è per questo che fuori, nel mondo reale, questo, stando ai sondaggi, è il primo partito della nazione, mentre qua dentro è ridotto a uno spicchio senza la possibilità di incidere sui provvedimenti. Non è perché noi, come ha fatto una parte di Emiciclo la legislatura scorsa, abbiamo raccolto il mal di pancia di tutti. Noi, in questa legislatura, abbiamo detto chiaramente qual era il nostro pensiero. E attorno a questo pensiero concreto si è creato il consenso. Non abbiamo raccimolato dai Novax, ai Vax, a chi era contro la Tav, a quelli a favore della Tav. No, no, no. Noi siamo sempre stati coerenti da quando eravamo al 2%, al 3%, al 4% sulla nostra linea. Ed attorno a questo si è creato il consenso. Oggi purtroppo però uno su cinque degli italiani non ha la possibilità nemmeno di incidere su un provvedimento da 40 miliardi. Ecco, credo che, al di là del merito nel quale non voglio nemmeno entrare, perché i colleghi alla Camera che hanno avuto un po' più di tempo hanno fatto un grandissimo lavoro, il capogruppo Trancassini, ma chiunque si sia alternato in commissione bilancio abbia tentato di migliorare questo provvedimento. Però il miglior miglioramento per questa nazione e per questo provvedimento è andare a votare, cambiare l'assetto di questa nazione e di questo governo. Se si vota nelle maggiori città italiane non c'è nessun motivo per cui non si possa votare anche per questo Parlamento. E vi accorgerete che probabilmente quel consenso che qua dentro in maniera bulgara credete di esercitare al di fuori, fuori, tra la gente, non esiste. Grazie Presidente. Grazie Senatore De Carlo. Dichiaro aperta la discussione generale. È scritto a parlare il Senatore De Bertoldi, ne ha facoltà. Grazie, grazie Presidente. Io, dopo la brillante, chiara, esaustiva intervento come relazione di minoranza del collega De Carlo, vorrei dire che innanzitutto la sottoscrivo. La sottoscrivo non tanto e non solo come collega e amico del Sindaco e Senatore De Carlo, ma la sottoscrivo come cittadino che, di fronte a tante oggettive verità, non può che essere condiscendente. Vede, Presidente, io credo che di aver affrontato con una certa durezza nei giorni scorsi il tema che appunto il collega De Carlo ha sottolineato, il tema del monocameralismo. Ho chiesto, Presidente, e quindi in questo momento rivolgo anche a lei, nel suo ruolo di Presidente facente funzioni, rivolgo anche a lei e quindi alla Presidente Casellati e quindi a tutti i Presidenti di Commissione l'appello che ho espresso alla Presidente D'Alfonso e al Presidente Pesco nelle commissioni competenti alle quali ieri ho partecipato. Mi rivolgo agli organi che rappresentano le istituzioni democratiche della Repubblica, i quali hanno il dovere di tutelare la Costituzione. Noi siamo di fronte ad un'inaccettabile violazione della Costituzione italiana. Siamo di fronte ad un monocameralismo di fatto, dimenticando peraltro che c'è un referendum che, rappresentando gli italiani, ha bocciato la riforma della scorsa legislatura. Quindi, a prescindere da quelle che sono le convinzioni di ciascuno, noi siamo tenuti, in quanto rappresentanti del popolo, a rispettare la Costituzione. Dal momento che ciò non accade, perché ormai il Parlamento sta viaggiando su due binari, quello della decretazione d'urgenza, e sappiamo benissimo che se è d'urgenza non può essere ordinaria, almeno per terminologia e per vocabolario, e quello del voto di fiducia. Allora, dal momento che questa è una ripetuta, ormai consolidata violazione della Costituzione, io chiedo che le cariche istituzionali che rappresentano il Parlamento tutto si rivolgano, e lo chiedo formalmente, al Presidente della Repubblica. È inaccettabile che si proceda violando la Costituzione. È inaccettabile che provvedimenti che investono miliardi vengono di fatto approvati da una sola Camera, vedono in questo caso il Senato completamente delegittimato e costretto ad un mero voto, senza poter toccare palla, come si suol dire, senza poter modificare nulla. È inaccettabile nel buon senso, ma è soprattutto illegittimo, perché contro la Costituzione italiana. Signor Presidente, c'è un altro aspetto, sempre preliminare, ma di sostanza, che io voglio affrontare, ed è quello dei decreti attuativi. Allora dovremmo spiegare a chi ci ascolta, agli italiani, un po' di numeri. Io adesso cito tre numeri. 3 su 32, 1 su 41, 5 su 149. Cosa sono questi numeri, cari colleghi? Sono i numeri dei decreti attuativi, 3 che sono stati realizzati sui 32 previsti dal decreto sostegni 1. 1 su 41. È un decreto attuativo realizzato sui 41 previsti dal decreto sostegni bis. 5 su 149 sono i decreti attuativi realizzati su tutta la normativa Draghi. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire per chi ci ascolta? Vuol dire che è un po' come andare a spendere dei soldi, ma invece che tramutarli in atti concreti, perché il decreto attuativo serve a tramutare la norma in qualcosa di concreto, vengono messi e isolati in frigorifero. È un po' come una persona che vuole andare in macchina dalla mia città da Trento a Roma, fa il pieno di benzina o di gasolio e poi invece che mettere il gasolio nel serbatoio lo mette nelle tanniche e lo tiene nel baule della macchina. Quella macchina non arriverà mai a Roma. Quindi i miliardi che stiamo investendo, i miliardi con i quali ci stiamo indebitando, in gran parte sono nel frigorifero, sono nel baule della macchina, non finiscono nell'economia, non finiscono nelle tasche delle imprese, degli artigiani, dei commercianti. Ecco i numeri, questi sono numeri che parlano chiari, lo ricordo, cinque decreti attuativi su 149 della normativa Draghi, del governo Draghi, che tutta l'Aula sta sostenendo. Allora quei colleghi, e mi rivolgo ai colleghi del centrodestra, che insieme a noi lottavano contro i decreti attuativi. Perché? Perché? Perché perseverano ancora nella decretazione, da una parte nella decretazione d'urgenza e dall'altro nel prevedere nelle norme decreti attuativi ad abbundanza che poi non si trasformano, come da numeri che ho letto, in atti concreti. Allora vede, Presidente, che ce n'è ben d'onde per dire il perché Fratelli d'Italia è, non critica, ma di più su questo modo di legiferare, su questo consolidato modo di legiferare. Entrando poi nel merito, perché certamente, come abbiamo già detto, come ha detto il collega De Carlo, noi siamo una forza che è fieramente di opposizione, ma anche altrettanto orgogliosamente, fieramente di proposta. Noi veniamo qui da da sempre, tutti i giorni, con le proposte concrete per aiutarvi a migliorare le sorti di questo Paese. E allora, nel merito, io vorrei capire il perché continuiamo a distanza di un anno e mezzo dall'inizio della pandemia, di 18 mesi, continuiamo a lavorare sull'emergenza, perché da 18 mesi siamo ancora qui a parlare di sostegni, di ristori e di fatto, e di fatto, non solo non li traduciamo in atti concreti, come ho detto prima, ma non abbiamo ancora la benché minima sostanza di politiche costruttive, attive. Blocchiamo i licenziamenti, ma le politiche del lavoro dove sono? Fratelli d'Italia ha proposto, ha proposto un regime premiale per le imprese che non licenziano, per le imprese che assumono. Perché non ci rispondete? Perché il Governo non cerca di passare dal blocco dei licenziamenti ai regimi premiali per chi accresce l'occupazione, per quegli imprenditori che tengono duro, mantengono i dipendenti e magari ne assumono di nuovi. Ecco le proposte concrete per andare oltre l'emergenza, per costruire un percorso e un futuro. E allora sul fisco, vede, sono poco più di 20 miliardi i soldi che tra il decreto sostegni 1 e sostegni 2 vanno alle imprese. La CGA di Mestre, il centro studi della CGA di Mestre, lo ha dimostrato oggettivamente. Con una mano date il denaro e con l'altra ve lo siete ripresi o ve lo state riprendendo con i saldi e gli acconti delle imposte. Ma allora non era più intelligente, se davvero si voleva dare benzina e fiato all'economia, accettare un'altra proposta di Fratelli d'Italia, quella di fare l'anno fiscale unito, unificare l'anno 2020 e l'anno 2021 con dichiarazione e pagamenti nel 2022. Noi avremmo avuto un anno fiscale riunito che avrebbe permesso alle imprese, agli artigiani e ai cittadini, a quelle persone che avete tenuto chiuso nonostante tanta contrarietà anche nostra e che hanno dovuto però continuare a pagare i contributi, le imposte, gli affitti, i costi fissi. Queste sono le proposte che noi abbiamo fatto, queste sono le proposte che noi ci aspetteremo e vado verso la conclusione, Presidente, ai professionisti. Perché? Perché verso i professionisti di fatto c'è attenzione. Nel mentre noi vediamo che da settimane, da mesi, giaceva la legge sull'eco compenso, adesso sembrava un passo, però tutt'oggi alla Camera non risulta in votazione. Abbiamo il disegno di legge sulla malattia e l'infortunio dei professionisti. Io mi rivolgo anche alla Vice Ministro Castelli, che è qui presente, e chiedo che si decida di dare una mano a quei professionisti che non vogliono assistenzialismo, ma vogliono essere sostenuti quando purtroppo capitano loro infortuni e malattie. Quindi l'appello è perché si rispetti la Costituzione, il Presidente della Repubblica ponga fine a questa delegittimazione delle istituzioni, delle regole democratiche e perché tutte le forze politiche presenti in Parlamento passino dall'assistenzialismo, dall'emergenza alle fasi costruttive ed operative nell'interesse del Paese. Grazie. È scritto a parlare il Senatore Ferro, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Colleghi e colleghe, per stemperare un po' il clima direi, così come abbiamo fatto in Commissione stamattina, impegniamoci a valutare l'opportunità di vaccinarci. Lo dico perché esco da un isolamento volontario, lasciando ampia libertà, ma valutiamo l'opportunità. Al di là di questo, la valutazione che noi diamo come Gruppo di Forza Italia al provvedimento Sostegni BIS è una valutazione sostanzialmente positiva. Ci sono alcune criticità però che dobbiamo evidenziare. La prima, non dobbiamo abituare il Paese, l'economia, il sistema produttivo alla politica dei sostegni, alla politica degli aiuti, perché se questo è comprensibile in una fase emergenziale, lo è stata in parte e lo è ancora, non può essere in una situazione normale. Ho la sensazione che il Paese si stia abituando troppo ai sussidi economici che arrivano e che non potranno arrivare. Ce lo ha richiamato anche il Governatore della Banca d'Italia, Visco, in occasione delle conclusioni finali. È stato chiaro, non si può andare avanti a vivere di sussidi. Io so che c'è l'attenzione del Governo, del suo Presidente, delle forze della maggioranza. Ci sarà lo stimolo anche dell'opposizione per far sì che si possa uscire in fretta da questa situazione. Vorrà dire che avremo superato l'emergenza sanitaria e saremo usciti dalla emergenza economica, normale conseguenza di questa. Mi auguro, ripeto, ci auguriamo che questo sia l'ultimo intervento che facciamo in termini di sostegni, perché vorrà dire che la crisi in parte si è superata. Ci sono moltissimi aspetti di questo decreto che ci piacciono. Ricordo tra tutti anche l'accordo, la mediazione intelligente che è stata trovata sugli ammortizzatori sociali, sullo sblocco dei licenziamenti per quei settori, per fortuna che ce ne sono, economici che stanno andando bene, il manufattoriero e l'edilizia. Ecco, ci piacerebbe, lo diciamo, non ce ne vogliano i colleghi del Movimento 5 Stelle, ci piacerebbe per esempio che i fondi cospicui destinati a reito di cittadinanza fossero convertiti a fondi per esempio per ridurre le tasse sul lavoro, per creare opportunità di lavoro anziché favorire politiche sociali secondo noi poco positive. Sblocchiamo le tasse sul lavoro se vogliamo ripartire, sblocchiamo le tasse sul lavoro se vogliamo passare da una politica sostenuta, sussidiata a una politica che vive e si sostiene con le gambe proprie. Attenzione, questo è un decreto che ha una valenza in termini economici e finanziari di una legge finanziaria pre-Covid, ha il peso economico di una legge finanziaria ed è un debito. Io quando ho l'opportunità di parlare dico attenzione, sono tutte manovre a debito e i debiti prima o poi bisogna riportarli a casa, bisogna ripagarli. O il Paese cresce e allora ha la capacità e la forza di poter ripagare il debito o attualmente questa situazione può creare un sistema inflattivo molto pericoloso. Ci servono per far questo, per uscire da questa situazione, da questo cane che si morde la coda, servono delle riforme buone, servono debiti buoni e servono riforme buone. Questo è un compito della maggioranza del Parlamento a provare in fretta le riforme per portare a terra il prima possibile i fondi del PNR. Crescita, scusi signora Presidente, lo dico sempre e lo dico anche questa volta. Un sistema così messo porta la nostra economia a far sì che chi sta bene sta meglio e chi sta male sta peggio. Attenzione perché questo dal punto di vista della tensione sociale è una bomba che abbiamo sotto il sedere. Grazie. È iscritta a parlare la senatrice Faggi, ne ha a facoltà. Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno colleghi. Arriva qui in aula un altro provvedimento molto importante, licenziato dai colleghi della Camera e devo dire purtroppo abbiamo avuto poco tempo per una disamina anche qui in Senato. Ovviamente siamo in un momento di emergenza, ci sono delle regole ben precise, dettate da regolamenti, da situazione politica per cui spesso provvedimenti importanti riescono a vederli solo un ramo del Parlamento. Sarebbe opportuno magari rivedere un attimo questa posizione, guardarla un attimo per poter avere anche un pochino noi un po' più di contezza. Io cosa ho fatto allora per cercare di riuscire a comprendere nel merito bene quello che è stato portato? Mi sono andata anche a leggere gli interventi dei colleghi alla Camera che sono molto importanti, soprattutto in fase di approvazione. Io riporto alcuni dati del collega Massimo Bitonci della Lega che ha fatto una disamina ben precisa e che sarebbe importante ascoltare anche per riuscire a comprendere come loro hanno lavorato. Riporto testualmente Stralci del suo intervento. Un lavoro devo dire svolto in sinergia, un lavoro di commissione che ha portato ad integrare, a modificare le misure, estendendo nel campo a molte realtà in crisi che erano state escluse dai contributi aiuti concreti. Questo è stato il tema che ha affrontato la commissione con emendamenti comuni, emendamenti condivisi da tutti i movimenti e partiti politici. E questo è un dato importante. Lo dice Massimo Bitonci, lo dice l'estensore, il relatore del provvedimento e ci dà la contezza di come sono andate le cose. Un decreto che immette 44 miliardi complessivi nel mondo reale, aiute alle imprese, al lavoro, ai giovani, alla salute, al territorio. Due volte una legge di bilancio che se sommato sostegno 1 supera i 70 miliardi di misure atte ad aiutare il sistema produttivo, le famiglie, le associazioni, il volontariato, per superare la grave crisi economica che ha colpito la nostra nazione durante la pandemia. Alla fine del 2019 l'economia italiana presentava già evidenti segnali di stagnazione. Poi, a partire da fine febbraio, il dilagare dell'epidemia Covid e i conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal Governo precedente hanno determinato un impatto profondo sull'economia, alterando le scelte e le possibilità di produzione, investimento e consumo e funzionamento del mercato del lavoro. Inoltre, la rapida diffusione dell'epidemia a livello globale ha drasticamente ridotto gli scambi internazionali. Allora, quanto di più urgente sostenere le nostre aziende con sostegni dirette alle imprese? 14 miliardi di erogazioni dirette con un'importante novità. Si introduce un correttivo che tiene conto non solo del calo di fatturato, ma anche delle perdite dei costi fissi di esercizio per le aziende con volume d'affari aumentato dalla Lega di oltre 15 milioni. Dalla Lega un vero sostegno all'Italia. Abbiamo prorogato al 15 settembre il saldo e l'acconto delle tasse di giugno e luglio, un abboccato di ossigeno e di liquidità per le piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, professionisti. Oltre a questo abbiamo ottenuto un'ulteriore proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'agente di riscossione. 163 milioni di cartelle giacenti per 18 milioni di italiani e un ulteriore differimento della rateizzazione del pagamento della rottamazione ter e saldo e stralcio entro l'anno in corso. Non bastano però, dice sempre Bitonci, bisogna pensare a misure strutturali, deflattive del contenzioso. Una nuova pace fiscale che cancelli definitivamente quanto non è più esigibile. Non parla di furbetti di turno che vanno stanati, ma di aziende. E la Lega continuerà a ripeterlo. Hanno pensato anche ai dimenticati dei ristori, al turismo che produce il 13% del PIL nazionale, agli hotel, ristoranti, bar, al settore del wedding, agli eventi con 70 milioni, alle fiere nazionali che sono ancora oggi luoghi messi a disposizione per la vaccinazione di massa, al terzo settore, case di riposo, aree termali, centri riabilitativi, alle guide turistiche, agenzie di viaggio, settore delle crociere, bus turistici, città d'arte, impianti di risalita sciistici minori, all'editoria, al ristoro per l'attività. Non si sono neanche dimenticati dei connazionali terremotati e delle aree colpite dal sisma, estendendo al 31 dicembre il credito d'imposta per le imprese che effettuano gli investimenti e per chi ha il coraggio e la forza di fare ancora impresa in quelle zone gravemente colpite, come che per i contributi per gli agricoltori, colpiti pesantemente, oltre che dalla pandemia anche da gelate, alluvioni e calamità naturale. Per lo sport hanno destinato 112 milioni di euro a fondo perduto per gli operatori del settore, per la gestione e manutenzione delle piscine e per gli interventi infrastrutturali su impianti sportivi per le Olimpiadi di Milano Cortina 2006. E non si sono dimenticati neanche dalla sanità e del sociale, delle cure palliative, del fondo per gli oncologici, per gli istituti oncologici e pediatrici e per l'inclusione e finanziamento delle scuole di infanzia paritaria. Ce ne sono ancora tante di cose. Ho letto il suo intervento perché non si può solo dire che non è arrivato qui. Non è arrivato qui, non abbiamo avuto il tempo. E allora proviamo a invertire. Guardiamo quello che hanno fatto i colleghi alla Camera, che hanno lavorato insieme. Tutti i gruppi politici hanno emendato, hanno costruito e hanno aiutato. Per cui io sono contenta di questo lavoro, orgogliosa che un collega della Camera abbia fatto questo lavoro anche per noi. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Croatti, ne ha facoltà. La ringrazio, Presidente. Colleghi, nel corso del 2020 sono state introdotte, per fronteggiare l'emergenza economica causata dalla pandemia Covid-19, forme di sostegno che hanno superato in termini economici di 100 miliardi, una cifra corrispondente all'incirca al 7% del PIL nazionale. Quest'ultimo decreto, che ci apprestiamo a trasformare in legge, mette sul piatto ulteriori 45 miliardi di euro distribuiti capillarmente a tutte le categorie economiche che hanno subito pesanti ripercussioni dell'emergenza epidemiologica. Questo decreto corrisponde a una vera e propria legge di bilancio, un imponente pacchetto di misure necessarie e doverose per rimaneggiare gli eventi negativi e disastrosi della pandemia. Considerate le moltissime modifiche e novità che sono state introdotte nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, desidero soffermarmi soltanto su alcuni suoi aspetti. Il decreto introduce un importantissimo pacchetto di misure economiche a sostegno del settore turistico e delle attività economiche e commerciali adesso legate, che in quest'ultimo anno hanno subito fortemente e sono state danneggiate e necessitano assolutamente di rimettersi in moto perché l'Italia è un Paese che vive di turismo, noto in tutto il mondo per le sue immense nature, bellezze e culturali. Il nostro Paese è senza alcun dubbio una delle mete turistiche europee e mondiali più attraenti per le sue condizioni climatiche, naturalistiche, socioculturali, archeologiche, termali e no gastronomiche, ma dobbiamo consentire agli operatori del settore di poter avere delle solite basi su cui sostenersi e poter affrontare al meglio questa complessa stagione turistica. Un pacchetto importantissimo che introduce ad esempio 150 milioni di euro per l'anno 2021 per il Fondo Sostegno delle Agenzie di Viaggio, dei Tour Operator, delle Guide Turistiche, degli accompagnatori turistici e ancora un'indennità di 1.600 euro a favore delle diverse categorie di lavoratori del settore e ancora altri interventi e sostegno delle strutture alberghiere e ricettive. Tra queste misure di rilevante interesse di sicura è sicuramente quella legata ai boost turistici, per i quali è stata introdotta una soluzione di quasi 10 milioni di euro da destinare come contributo a fondo perduto per l'intero comparto. Un altro punto sul quale vorrei soffermarmi all'attenzione di questa discussione sono le misure pensate per il commercio sulle aree pubbliche. Il cosiddetto commercio ambulante, uno dei principali pilastri della distribuzione italiana, in grado di dare lavoro ad oltre 190.000 imprese e più di 217.000 addetti, un fatturato complessivo di 11,1 miliardi di euro. Anche questo comparto sta vivendo una crisi gravissima. Già 6.000 piccole aziende e attività ambulanti hanno cessato la loro attività da giugno 2019 a giugno 2020. Con l'articolo 56 bis si attribuisce in comune la facoltà di concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quello che è stato previsto nella legge del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre del 2020. Entro il termine di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello Stato di emergenza epimediologica. La disposizione determina il fatto, la possibilità di prorogare il procedimento di rinnovo delle concessioni sulle repubbliche si pone l'obiettivo di ridare certezza ad un settore che negli ultimi anni hanno già visto penare incertezze causate dalla direttiva Bolkestein che aveva distrutto praticamente il settore e messo in difficoltà tantissime famiglie lavorative. Altro importante traguardo riguarda il rifinanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2021 quando il sostegno delle attività particolarmente colpite dall'emergenza, quelle degli eventi e dei catering, quelle dei parchi tematici e degli acquari, quelle dei parchi geologici e dei giardini geologici, il wedding e le attività commerciali come la ristorazione che operano all'interno dei piccoli centri dell'entroterra. L'articolo 1 ter pone l'attenzione alla filiera dell'Oreca, imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e di cerimonie del settore dell'hotelleria e del restaurant catering con l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro. La filiera rappresenta oltre 60.000 lavoratori e 3.800 aziende, la maggior parte a conduzione familiare sparsa sull'intero territorio familiare, microimpese familiari patrimonialmente deboli e finanziariamente inconsistenti. Le misure di ristoro alle imprese non sono riuscite a contenere gli ingenti danni subiti dal comparto della distribuzione e che ha visto calare il fatturato di ben 7 miliardi di euro, da un 17 miliardi del 2019 ai 10 miliardi del 2020, un crollo circa del 37,6%. Dobbiamo essere consapevoli che nonostante le misure adottate sono necessari ulteriori sforzi per risollevare le aziende e gli operatori del settore, che hanno esplicitamente chiesto aiuto a questo Parlamento per contestare la crisi economica che da oltre un anno la sta colpendo duramente. La distribuzione food and beverage non è stata chiusa. Di fatto con i precedenti decreti i sussidi sono stati esclusi per la questione del codice a teco che li ha mantenuti aperti, ma in realtà il loro settore non aveva possibilità di operare perché la ristorazione e tutti i settori dell'accoglienza erano praticamente chiusi. Ancora l'articolo 2 al 4 bis al 4 quater del decreto incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, il fondo destinato al ristoro e alle perdite derivanti dall'annullamento del rinvio di tutte quelle che sono state le fiere e i congressi su tutta l'area nazionale. Un problema che ha colpito in maniera forte anche la logistica, il trasporto e l'allestimento che hanno operato all'interno di questo settore. Spero che questo sia l'ultimo decreto necessario per fornire sostegni e sussidi alle tante categorie economiche colpite duramente dall'emergenza epidemiologica. I segnali di ripresa sono dovuti soprattutto all'ottimo andamento della campagna vaccinale, ma è su questo che il Paese non deve demordere, deve ancora migliorare. La migliore misura per il rilancio dell'economia e per il ritorno alla completa normalità al momento è solamente quella della strada della vaccinazione, che sarà l'unica soluzione che ci porterà fuori da questa situazione che stiamo vivendo in questo momento. Queste misure vero unitamente alla campagna vaccinale ci hanno concesso di portare tutto il Paese e tutta la nostra paesola in zona bianca, con conseguente aperture di bar, ristoranti, musei e di riacquistare dei piccoli spazi di libertà che sembravano normali fino a alcuni anni fa, ma adesso sono molto difficili da raggiungere. È importante continuare su questo percorso, ma rimanere assolutamente prudenti e fare molta attenzione, perché questa situazione è molto sottilmente labile l'area su cui ci stiamo muovendo e tutta la popolazione deve essere estremamente attenta in questo momento. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Perosino, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Ieri in Commissione Sesta Finanze si è sviluppato un interessante dibattito trasversale tra i commissari, tra i senatori, a riguardo del sistema procedurale di questi mesi, per me direi di questi anni. Si sta verificando uno scollamento tra Parlamento e Governo nel modo di procedere all'approvazione dei decreti legge, già in numero esorbitante rispetto alla normativa, ma in valsa questa consuetudine direi che sia quasi costituzionalizzata, ma che in questo Governo di larghe intese, un Governo che è nato da esigenze di difficile soluzione dell'interesse nazionale, arrivi con tutti i decreti di importanza grandissima, troppo invasiva della vita dei cittadini in in una situazione post-guerra, perché questa è la situazione, e che si arrivi o alla fiducia o al ritiro degli emendamenti pare una prassi esagerata, non conforme, una prassi che non rende alla democrazia. Praticamente gli emendamenti che vengono presentati nella seconda Camera, che mette caso sovente e troppo sovente nel Senato, oltre la consuetudine dell'incardinamento a rotazione tra le due Camere, pone questi problemi. Ci sono degli emendamenti che sono di ordine normativo e che quindi possono essere esaminati e possono essere positivi a soluzione di problemi. Ci sono degli emendamenti di spesa che patiscono la situazione di difficoltà che il MEF esprime con un parere negativo. Ci sono degli aggravanti su questa situazione perché si persegue e si arriva, e lo dico in tono costruttivo, sia chiaro, seppure in maniera ferma. Ci sono degli settori che non sono ancora partiti, che hanno delle difficoltà, altri che faticano a partire. Ci sono delle situazioni in cui i sostegni, di cui al decreto che approveremo oggi o domani, non hanno avuto riconoscimenti per una serie di motivi giusti o sbagliati, dimenticanze e valutazioni. Ma ci sono dei settori che hanno patito veramente di più la situazione. Faccio un esempio che non è banale. Le sale e le orchestre da ballo hanno chiuse per primo e apriranno per ultime. Ma sono settori che aggruppano decine di migliaia di persone tra lavoro diretto e lavoro indiretto. Penso, l'avevo detto in un intervento precedente su uno dei tanti provvedimenti economici, che superata la questione del codice Ateco, che si potesse arrivare, è una provocazione ma non tanto, è una questione di prendere una decisione, che i sostegni andassero a tutte le partite IVA, senza domanda. È successo in tanti Stati, eliminando così burocrazia pubblica e privata. Faccio un esempio degli emendamenti che ho presentato e che non saranno ovviamente discursi perché sarà posta la fiducia. Ma ci sono delle attività che hanno aperto nel 2020, per loro fortuna o sfortuna, subito dopo il primo lockdown, perché avevano le aperture in previsione, avevano fatto degli investimenti e dei contratti. Qual è il fatturato di riferimento di queste imprese? È il 2019, non c'erano. Io ho fatto un emendamento dicendo che potrebbero avere anche loro un sostegno che sarà basato su criteri che stabilisca il MEF, faccia la media del settore. C'è la questione degli sfratti sui quali le associazioni dei proprietari, che non sono dei ladri, sono delle persone che hanno risparmiato in tanti modi, lavorando duro, perché per mettere da parte un alloggio l'italiano medio lavora duro se non vince al totocalcio. Ma gli sfratti sono una punizione per i proprietari. Ad esempio è stata introdotta la norma che permette di non versare l'IVA sulle fatture che sono entrate nei fallimenti a partire dal 19 maggio, ma è probabile che sarebbe stato più giusto partire da tutti i fallimenti in essere. Il super bonus potrebbe comprendere gli alberghi e perché no? Il cashback è stata una bella intuizione di Draghi o di chi per lui è sospeso e va agli ammortizzatori sociali. Avevo poi due emendamenti molto importanti che ho già presentato altre volte, ma che nei dieci secondi che mi rimangono si intitolano disalvei e sovraspessori. Sono cose tecniche, ma interessano gli italiani. I fiumi sono pieni di residui dalle alluvioni, vanno disalveati, ma non ci vogliono i permessi dei dieci enti. Quando mi toglie la parola io smetto e la ringrazio. I sovraspessori in edilizia, questi sono i temi di cui dobbiamo discutere in quest'Aula. Vi ringrazio e chiedo scusa di essere andato fuori. Grazie, senatore Berlusino. È scritto a parlare il senatore Bruzzone, ne ha facoltà. Presidente, la ringrazio. Siamo di fronte a un provvedimento importante, ricco di contenuti, ma soprattutto ricco, come quasi mai abbiamo visto, di concretezza, di azioni volute, richieste, diciamo un po' che in quest'epoca questo è il tipico esempio che mette in evidenza la differenza tra il precedente governo giallorosso e quello attuale, dove la differenza si vede, si nota, grazie al nuovo contributo all'inserimento all'interno della maggioranza della Lega e di Forza Italia. Quello che oggi sta scritto in questo decreto non c'era in iniziative simili precedenti. Io voglio però toccare un tasto, un argomento, un tema che ho iniziato ad affrontare il 23 luglio del 2019, quindi già prima del Covid, con una interrogazione che non ha avuto ancora risposta fino ad oggi e che era tesa a fare chiarezza sulle interpretazioni discordanti che tuttora ci sono, tra uffici pubblici e studi commerciali, in merito all'applicazione dell'IVA sulle operazioni di cessione di selvaggina da parte degli allevatori. Oggi, all'articolo 18 bis di questo decreto, si legge che negli animali destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per attività venatoria, e cioè l'IVA scende al 10%. E vi do alcuni dati per farvi capire che non è una roba marginale. In questo Paese, nel nostro, quello con la più alta concentrazione di fauna selvatica d'Europa, sono circa 3 milioni i capi allevati e messi a disposizione di circa 2.500 aziende faunistiche e agrofaunistico-venatorie e allevamenti, tutti privati. Per un dato, quello dello 0,8% del PIL nazionale, come facevo riferimento ieri, intervenendo sul tema della venofobia. Sono 244 nel nostro Paese gli ambiti territoriali di caccia, 75 i compressori alpini, 492 le riserve alpine e 20 i distretti venatori. Ebbene, hanno fatto coloro che hanno avviato lo sviluppo della filiera alimentare di carne di selvaggina nel rispetto della sicurezza alimentare e nel rispetto dell'ambiente. Ebbene, ha fatto Regione Lombardia a siglare un apposito protocollo d'intesa su questo tema. Si tratta di carni impregiate, come dimostra il forte interesse nazionale dei ristoranti stellati. Si tratta di un settore dell'agroalimentare che merita un razionale intervento del legislatore. Dobbiamo agevolare lo sviluppo del consumo di queste carni, anche con la modifica di norme esistenti abbondantemente superate. Noi diciamo meglio le carni della nostra fauna selvatica piuttosto che gli insetti che ci propina l'Europa. E concludo. Nella temporaneità prevista dal Decreto per la riduzione dell'IVA al 10% per l'anno 2021, sta scritto nel Decreto il riconoscimento che la fauna selvatica allevata è destinata all'alimentazione. Inito pertanto tutti i colleghi, ma soprattutto il Governo, a chiarire definitivamente che l'aliquota da applicare alla selvatina allevata è del 10%, come chiesto con la mia interrogazione di due anni fa. Oggi abbiamo, cari colleghi di Fratelli d'Italia, perché mi pare di aver capito che siete intenzionati a votare contro, abbiamo su questo tema un risultato importante, portiamo a casa un risultato concreto e immediato che aiuta le nostre aziende in questo settore, ma soprattutto apriamo una porta importante. E allora gli stessi consensi che voi di Fratelli d'Italia avete dato sul territorio, ad iniziare da Regione Lombardia su questo tema, su quello dell'agora alimentare per la carne di selvaggina, auspicherei che trovasse una risposta positiva e non negativa in quest'Aula. Grazie per l'attenzione, ma soprattutto grazie a chiunque vorrà tenere conto dei contenuti, delle cose che ho appena detto, perché inizia un percorso nuovo e credo che sia un percorso sano, anche se di chiara contraposizione ad alcune proposte alimentari che arrivano dall'Europa. È iscritta a parlare la senatrice Binetti, ne ha facoltà. Presidente, governo, colleghi, certamente le misure che sono contenute in questo decreto e che riguardano in modo particolare la sanità, sono gli aspetti su cui io mi voglio soffermare in questo mio breve intervento, sono oggettivamente molto interessanti. Sono molto interessanti perché in qualche modo vengono a sanare quelle che sono state, da un certo punto di vista, le pressioni maggiori che si sono riversate sulle strutture ospedaliere, proprio in concomitanza con il covid che ha creato una situazione di trascuratezza da parte di pazienti non covid. Noi abbiamo tutti quanti seguito durante questi due anni la difficoltà che hanno trovato i pazienti affetti da qualsivoglia patologia, che non fosse una patologia definita come patologia caratterizzante questa pandemia, la difficoltà che hanno avuto sotto il profilo della diagnosi, quindi sotto il profilo degli screening che si potevano fare, sotto il profilo concreto delle visite e quindi del monitoraggio delle loro patologie e poi sotto il profilo di quella che possiamo chiamare la riabilitazione. Bene, questo decreto interviene positivamente a finanziare l'attività dei laboratori, dei laboratori di ricerca avanzata, anche di quei laboratori capaci di procedere a indagini sotto il profilo genetico molto sofisticati, interviene a incrementare quello che è, potremmo chiamare il tagliafile, sappiamo quanto è lungo il tempo di attesa che hanno i pazienti per poter accedere alle visite ambulatoriali, alle visite specialistiche e quindi in questo modo anche attraverso l'assunzione di personale, la remunerazione di personale che era in servizio e che adesso si trova in pensione attraverso tutta una serie di misure, questo dovrebbe fornire ai malati e quindi rimuovere l'ostacolo che loro si trovano a volte a dover affrontare quando chiedono la prenotazione di una visita. E poi quello che ci interessa anche molto e che questo decreto affronta direi con una serietà non indifferente è quello che riguarda il follow up dei pazienti che hanno, che si sono ammalati di covid in questo periodo e che potranno per due anni senza costi a carico loro affrontare un controllo costante e continuo, ma si rivolge anche a quei pazienti che durante questo periodo hanno dovuto soffrire sotto il profilo psicologico tutto il disagio che deriva dal lockdown, quindi anche dalla rifazione dei rapporti interpersonali, dall'ansia che ne può essere scaturita, compresa l'ansia che deriva dalla perdita di opportunità professionali. Adesso stiamo tutti quanti leggendo con grande compartecipazione, non solo sotto il profilo emotivo, ma anche sotto il profilo della ricerca delle soluzioni, queste persone che dovranno affrontare il rischio licenziamento. E quindi l'idea di un supporto di tipo psicologico che possa essere offerta a queste persone rappresenta una chiave positiva. Quali sono le misure che in qualche modo ancora ci sembrano davvero interessanti in questo decreto? Quelle che riguardano la ricerca, non solo per il potenziamento e quindi anche di strutture accreditate come lo stesso Enea e quindi a cui viene riconosciuta un ampliamento delle funzioni che può svolgere attraverso anche un miglioramento dei finanziamenti, ma anche perché sono particolarmente interessanti le altre due misure, quelle che vanno nella chiave del credito d'imposta e quelle che vanno nella riduzione dei costi IVA per l'acquisto dei materiali di base. Ci sembra che da questo punto di vista anche la ricerca potrà avere uno sguardo più lungo sulle cose e quindi anche la possibilità di arrivare a quello che poi è l'oggetto specifico di ricerca che viene in qualche modo in questi paragrafi messo in evidenza che è la ricerca che guarda ai nuovi farmaci compresa la possibilità di avere nuovi vaccini. Attenzione che quando noi pensiamo ai nuovi farmaci sicuramente ci sono i nuovi farmaci, finisco subito Presidente, non ci sono solo i nuovi farmaci oncologici, ci sono tutti i nuovi farmaci, i cosiddetti farmaci orfani che riguardano la malattia rara, ci sono i nuovi vaccini ovviamente, ma ci sono anche un grande filone di farmaci che abbiamo scoperto essersi come dire un po' depotenziati nel tempo, abbiamo bisogno di nuovi antibiotici, quindi abbiamo bisogno di una ricerca che vada anche in questo senso accanto a quella che riguarda gli anticorpi monoclonali. Quindi nell'insieme questo è un decreto positivo che viene incontro a bisogni reali, che li affronta razionalmente e quindi è un positivo e concreto segnale di speranza per il prossimo futuro. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Bergesio, ne ha facoltà. Grazie Presidente, membro del Governo. In questo provvedimento che se non approvato scadrebbe niente meno che tra tre giorni, ha un'importanza vitale per tutta l'economia del nostro Paese, è stato detto bene anche prima, però sul tema sul quale mi vorrei soffermare, per l'agricoltura questo provvedimento vale un miliardo di euro di aiuti diretti. Con misure con cui noi, come Lega Salvini Premier, abbiamo contribuito attraverso i nostri colleghi della Camera, con gli emendamenti, con le nostre proposte, anche con degli ordini del giorno che verranno approvati. Un sostegno vero, non solo parole, per l'anello più debole della filiera agroalimentare italiana, cioè il contadino, l'agricoltore, il pescatore, quelle figure straordinarie che anche in questo anno e mezzo di pandemia non hanno mai smesso di lavorare, di sostenere, di procurare il cibo e di dare dignità a quel ruolo che hanno di coltivatore e custode della terra, di pescatore e custode del mare. Questo lo dobbiamo riconoscere a tutti i nostri produttori. Noi vediamo qualche misura che abbiamo approvato. Noi assegniamo con questo provvedimento ad Ismea 80 milioni di euro al fine di rafforzare uno strumento importantissimo, quello della garanzia a favore degli imprenditori agricoli e della pesca. A questo si aggiunge un altro importante emendamento che è stato approvato, che è quello della garanzia, del fondo centrale di garanzia accumulabile con le altre garanzie. Molti nostri imprenditori non riuscivano a finire gli investimenti perché non potevano accumulare una garanzia con un'ipoteca. Invece sarà possibile, abbiamo dato la stessa possibilità che è stata data alle imprese turistiche ed alberghiere. Abbiamo aiutato in concreto, aiuteremo, guardate, importantissima la misura per l'imprenditoria femminile in agricoltura. Abbiamo esteso alle donne la stessa misura che è attuata per il ricambio generazionale. Perciò le donne, qualsiasi età abbiano in agricoltura, possono poi godere di un contributo a fondo perduto del 35% sugli investimenti, naturalmente con la pratica adeguata, e il resto 60% di copertura a 10 anni a tasso zero. Sono misure concrete anche sul settore zootecnico, è un settore che sta soffrendo tantissimo. Sono in discussione il futuro di generazioni che sta lavorando, derivati dalle tensioni del mercato nazionale e internazionale sugli alimenti per il bestiame. E noi abbiamo incrementato il fondo per lo sviluppo e sostegno alle filiere di ben 5 milioni di euro da erogare nel corso del 2021 con aiuto diretti agli elevatori di bovini. Un ulteriore aiuto, sostegno importante arriva dalla compensazione IVA applicabile all'eccezione di animali vivi, bovini, suini. L'abbiamo innalzata al 9,5%, 28 milioni di euro destinati a questa misura importante. Però ricordiamo a quest'Aula che tutta la filiera del latte, della carne, delle uova, del settore ortofrutticolo sta soffrendo, ha bisogno di aiuti concreti e lo dico ai Ministri, bisogna subito attuare quello che è il provvedimento attuativo, i decreti attuativi di questo, perché se no rimaniamo sempre fermi con le risorse che rimangono nei Ministeri. E' stato istituito poi, questo è importantissimo, un fondo per il sostegno bieticolo saccaripero, con una dotazione di 25 milioni di euro ai produttori italiani, particolarmente danneggiati dalla pandemia e dalle riduzioni dei volumi di ESPO. Il contributo verrà erogato sulla base delle superfici coltivate, questo è fondamentale perché andiamo a aiutare il produttore primario. Viene istituito e finalmente istituzionalizzato il sistema di anticipazione a 70% del pagamento dei premi PAC in presenza di situazioni di crisi determinate da avverse condizioni meteorologiche, grave patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori. Abbiamo aggiunto a questa disposizione anche le perturbazioni di mercato con la modifica del cosiddetto quadro temporaneo. L'anticipazione viene erogata compensando le relativi interessi con una sovvenzione diretta. Poi, questa credo sia la misura più importante del provvedimento, le indennità per i lavoratori del settore agricolo che abbiano svolto almeno 50 giornate lavorative per il 2020. Pari a un unattantum di 800 euro. La platea è di 500.000 lavoratori agricoli che potranno beneficiare di queste risorse. E anche per i pescatori autonomi che non avevano non titolari di pensione di indennità è stata prevista, che sono qualche migliaio, un'indennità di 950 euro. Per quanto riguarda poi il tema dei birrifici che sovente viene ripreso nei vari emendamenti, nelle varie misure, poi naturalmente dalla Commissione bilancio e dal Governo arrivano dei no. Abbiamo, oltre all'esonaro del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, così come è fatto anche per le aziende produttrici di vini, è riconosciuto finalmente un contributo a fondo perduto pari allo 0,23 euro per ciascun litro di birra magazzino, in base alla dichiarazione riepilogativa. Abbiamo poi implementato di 105 milioni di euro a favore del Fondo di Solidarietà Nazionale, indennizi per riuscire a risarcire le imprese agricole danneggiate da gelate, brinate e verificate si nell'aprile 2021. Importantissimo è stato ampliato il tempo di questa misura, il periodo temporale di applicazione, aggiungendo anche i mesi di maggio e giugno e aggiungendo le grandinate che, come avete potuto vedere in questi ultimi tempi, hanno devastato gran parte del nostro Paese. Lo stanziamento finale sarà di ben 160 milioni di euro. C'è un tema, Presidente, che mi sta particolarmente a cuore e che oggi pochi ne parlano, è quello dei danni che sta provocando la siccità nel nostro Paese. Noi abbiamo presentato un ordine del giorno per proporre una soluzione su questo tema importantissimo, è stato approvato e ringrazio la Commissione Bilancio questa mattina. L'estate 2021 è stata la peggiore dell'ultimo decennio, per ripetersi, di 517 eventi estremi. Nubifrace, alluvioni, trombe d'aria, grandinate, ondate di calore e soprattutto siccità. Tale situazione nell'ultimo decennio ha determinato un periodo di perdite pari a 14 miliardi di euro. Noi abbiamo proposto per fronteggiare questo tema importante il poter accedere al Fondo di Solidarietà Nazionale da parte delle imprese danneggiate. Ricordo anche che c'è una misura importantissima nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, laddove c'è la possibilità di attingere delle risorse per contenere l'acqua. Noi conteniamo solo l'11% dell'acqua piovana o che arriva dai ghiacciai delle montagne. Allora anche qui bisogna dar modo ai nostri consorzi, alla nostra associazione, l'Ambi l'ha chiesto più volte a gran voce, di poter attuare delle misure in grado di poter portare avanti questi progetti con una tempistica più lunga di quella che è prevista attualmente, cioè il 23 settembre. Perciò, per aiutare l'agricoltura italiana, le misure da fare sono ancora molte. Qualcosa è stato fatto e noi siamo qui per approvare questo. Grazie, Presidente. È scritto a parlare il Senatore Maldegni, ne ha facoltà. Buongiorno ai colleghi, al Governo. Stamani è la mattinata delle feste, siamo tutti entusiasti dell'obiettivo raggiunto, 44 miliardi di nuovo debito da aggiungere agli altri 150 che abbiamo già maturato. Siamo tutti felici di parlare del presente. Non ho sentito una parola, se non quella del collego Ferro e di qualche altro, sul futuro. È evidente che anche io sono soddisfatto di questo cambio di passo che oggi porta in approvazione anche al Senato un provvedimento che se fosse stato fatto con questa filosofia dal maggio dello scorso anno, probabilmente avremmo avuto molti meno problemi. Questo è un dato di fatto, perché non possiamo far finta di nulla, non possiamo dire che siamo tutti uguali. Non credo. L'elemento caratterizzante è stato quello che più volte noi di Forza Italia abbiamo rilevato come questione banale. Qual è? Bastava capire quali erano i bisogni delle imprese, che sono l'unica struttura che crea lavoro e crea prospettiva e crea futuro e crea prodotto interno lordo e a quelle erogare un sensibile sostegno, una sensibile copertura, non soltanto per il momento in cui si stava maturando la questione, ma per metterle nelle condizioni di salvarsi e ristrutturarsi ed essere pronti domani quando la mamma Stato non sarà più lì a pompare denaro nelle casse e sul territorio e anche agli enti locali. Questo è l'elemento sul quale noi dobbiamo ragionare. Forza Italia si è subito posta l'obiettivo di avere con una visione, mi spiace per i colleghi, ma forse l'unico partito che ha presentato un pacco alto così di proposte di visione per i prossimi dieci anni, a partire dalla riforma fiscale, a partire dalla riforma del lavoro. Questi sono gli elementi che oggi caratterizzano una prospettiva per uno Stato serio, che guarda avanti. E quindi noi abbiamo cercato di dare una visione al sistema. Abbiamo parlato spesso di quelli che ci guardano da fuori per vedere di poter tornare ad investire nel nostro Paese. La prima cosa sulla quale si sono scontrati è la questione della giustizia. Oggi ha aperto un dibattito significativo. Mi fa piacere che il Ministro Cartabia, tra poco lo sentiremo sulle questioni di Santa Maria Capavetere, ma ha detto che questa è la riforma e andiamo avanti così. Io spero che il Governo ponga la fiducia su quel testo, che non è quello esattamente che volevamo noi, ma quantomeno è sicuramente un passo avanti per un ripristino di alcune questioni che in questi anni, non certo grazie ai nostri voti, dall'inizio di questa legislatura, con quella ignominia del cosiddetto spazza corrotti, ha disintegrato il sistema della giustizia in questo Paese, probabilmente perché nessuno di voi ci è cascato nel mezzo, perché basterebbe soltanto averlo provato. E allora ce l'ho anch'io la lista della spesa. Ho una listina della spesa che è di tutto rispetto. Forza Italia ha portato 60 milioni per il wedding, 70 milioni per le piscine, 30 milioni per i bus turistici, altra questione. Devo dire che questo Parlamento è stato bravo, ha scoperto dopo 30 anni che esisteva un settore, quello dei bus turistici, che era un fatto significativo. E avanti così 100 milioni, terme, città portuali, sud, automotive, eccetera. Sulla questione del turismo mi soffermo un istante. La costa sta andando bene, l'interno sta morendo. Ancora ci sono imprese che fanno meno 40, meno 50 rispetto al 2019. Dobbiamo ragionare sulla prospettiva. Dico due cose al volo. La prima, abbiamo capito che siamo l'unico Paese nel mondo che fa pagare stipendi per 160% alle imprese e ai dipendenti non tocca nemmeno la metà. Questa è una prospettiva importante. Siamo uno dei pochi Paesi che distrugge, che punta alla prospettiva del lavoro, distruggendolo, tassandolo per un complessivo 160% alle imprese. Questo è il futuro, non ce lo potremo più permettere. Parleremo della riforma fiscale fra qualche tempo, ma prima di tutto parliamo della riforma del lavoro. E ovviamente non portiamo a casa più, assolutamente più, una ignominia altrettanto come quella della giustizia che è stato il decreto di dignità, che ha disintegrato il lavoro, cancellato il tempo determinato, tolto la flessibilità, ucciso la questione dei voucher e messo in ginocchio il sistema dell'impresa italiano. Abbiamo scoperto che per il 70% è stagionale. Evviva! Quando lo dicevamo noi, tre anni e mezzo fa, ci prendevate tutti a risate. Bene, adesso la prospettiva è questa. Siamo contenti del sostegno IBIS? Certo, ovviamente, sì, ma non vogliamo né redditi di cittadinanza, né assistenzialismo, né nulla di tutto questo. Vogliamo un mercato libero, serio, con le imprese al centro. Questa è la prospettiva di Forza Italia. Speriamo che lo capiate anche voi. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Il provvedimento in discussione oggi è il decreto numero 73 del 2021 che prevede misure urgenti connesse all'emergenza Covid per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Quindi un complesso di misure eterogenee finalizzate ad intervenire in tanti di quei settori che hanno necessità di sostegno. Evidentemente il poco tempo che ho a disposizione mi impedirebbe di affrontare il testo nella sua interezza, quindi mi limiterò ad approfondire alcuni articoli di mio interesse, come ad esempio l'articolo 1.7 che prevede delle misure a favore finalizzate a fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime. Questo è un problema che qui in aula conosciamo bene, è stato affrontato più volte, ma che conoscono bene anche nel Paese, perché alcuni erroneamente potrebbero pensare che si tratta di un problema limitato ad un settore specifico, che è quello delle costruzioni, ma in realtà non è così, perché se pensiamo che il gas naturale ha quasi triplicato il suo prezzo negli ultimi mesi è evidente che diventa un problema che va ad incidere sulla vita quotidiana di tutti. Non a caso infatti le bollette del gas sono aumentate del 15%, ma dovrei dire solo del 15%, perché grazie all'intervento di questo Governo si è riusciti a limitare l'onere a carico delle famiglie ad una percentuale di dieci volte inferiore a quella che invece è stata la percentuale di rivalutazione del prezzo della materia prima. Altri due articoli di mio interesse, perché vengo da un comune montano che è sede di Parco Nazionale, che è uno di quei comuni, di quei borghi che a mio avviso potrebbero diventare un valore aggiunto per la nazione, sono gli articoli 3,1 e 7 ter. L'articolo 3,1 nello specifico prevede 100 milioni in più per i comuni montani a favore dei comprensori sciistici. Sappiamo bene che quello è un settore che ha sofferto moltissimo a causa del Covid, la chiusura di fatto sostanzialmente ha reso impossibile lavorare anche solo per un giorno e quindi il colpo che hanno subito è molto duro, ma quello è un tipo di turismo che invece potrebbe dare molto alle nostre realtà, innanzitutto perché destagionalizza il periodo, visto che la maggior parte dei turisti nel nostro Paese viene d'estate, quindi questo comunque già da solo sarebbe un elemento molto importante, ma spesso rappresenta la differenza tra la vita e la morte per quelle realtà montane. Quindi prevedere un intervento a favore dei comprensori sciistici è stato sicuramente utile e opportuno. L'articolo 7 ter invece prevede il recupero, la riconversione e la valorizzazione dei beni demaniali ad uso militare sito all'interno dei parchi nazionali. I parchi nazionali sono una realtà importantissima per il nostro Paese. Il nostro Paese ha il 10% di aree del territorio in aree protette che hanno per competenza la possibilità di intervenire sul 20% del territorio nazionale, quindi tutto ciò che serve a valorizzare queste aree evidentemente non può che avere poi una ricaduta positiva sul resto del Paese. Propongo quindi uno spunto di riflessione. Come dicevo prima, i nostri borghi potrebbero diventare un valore aggiunto per il nostro Paese, occorre però che questi vengano resi idonei non solo per un turismo che spesso poi è di tipo mordi e fuggi, di tipo giornaliero, ma anche per coloro che dovessero o volessero decidere di rendere la propria vita compatibile appunto con un tenore, uno stile di vita completamente diverso da quello che sarebbe possibile invece delle nostre realtà cittadine. Quindi dobbiamo realizzare infrastrutture, dobbiamo far sì che si potenzino i servizi, dobbiamo far sì che chiunque decida, soprattutto una famiglia che decida di andare a vivere in maniera stanziale in quei borghi, possa avere quanto necessario per far sì appunto che la propria famiglia possa crescere e prosperare. Quindi è solo uno spunto, come dicevo prima, bene che siano state previste già adesso delle misure, ma a mio avviso la lungimiranza che un Governo dovrebbe avere dovrebbe portarlo a prevedere un ulteriore investimento importante a favore di quelle realtà. Soprattutto in considerazione del fatto che l'obiettivo di consumo zero di suolo previsto all'Unione Europea per il 2050 potrebbe far sì che quell'edificato acquisti valore anche in ottica appunto di salvaguardia e tutela del nostro territorio, appunto perché si tratta molto spesso di aree già edificate che necessitano solo di interventi infrastrutturali. Un'ulteriore possibilità evidentemente per far sì che quelle realtà raggiungano l'autosufficienza economica sta nel potenziare e valorizzare le piccole produzioni locali che a livello europeo spesso vengono pregiudicate ma che sono invece uno dei nostri valori aggiunti. Chiudo con il riferimento all'articolo 9 che prevede misure a favore dei terremotati. Ci sono molti interventi a favore di queste realtà. Io vengo da uno dei comuni che ha dato la denominazione allo sciame sismico del 2016 che si chiama appunto di Amatrice Norceavvisso. Non è stato possibile prevedere degli emendamenti a questo articolo perché come già detto da alcuni colleghi la scadenza del decreto lo ha reso sostanzialmente impossibile. C'è già molto in questo decreto quindi sarebbe stato imperdonabile che venisse fatto scadere però un intervento secondo me era necessario e per questo ho presentato un ordine del giorno. Sostanzialmente le attività produttive delle aree terremotate non ricevono un contributo per l'IVA. I privati sì, le attività produttive no perché potendo recuperare l'IVA avrebbero un vantaggio doppio appunto qualora gli venisse riconosciuta anche l'IVA. L'IVA però pur essendo recuperabile da questa attività evidentemente verrebbe recuperata in un arco temporale successivo e se consideriamo che si tratta di attività produttive che sono appunto in un'area devastata dal terremoto e ulteriormente penalizzata dal Covid è evidente che quell'onere che in alcuni casi potrebbe superare le centinaia di migliaia d'euro per alcuni non è sostenibile. Quindi in una prima stesura all'ordine del giorno addirittura chiedevo l'esonero al pagamento dell'IVA. Le difficoltà che avremmo avuto per arrivare a quello mi hanno portato a rimodularlo e chiedere una riduzione. Spero che il Governo accolga questa richiesta perché per quell'attività spesso si tratta appunto dell'unico modo per poter ricostruire. Grazie per l'attenzione. Presidente, Governo, colleghe e colleghi, tralascio le considerazioni politiche su un decreto che il nostro ramo del Parlamento e il Senato esamina in soli due giorni. Mi concentro appunto su quelle che sono invece le considerazioni più puntuali sul provvedimento. Il decreto al nostro esame è dedicato a temi del sostegno al reddito e al lavoro. A quest'ultime sono dedicate anche diverse norme di tipo ordinamentale raccolte in un unico titolo. Buona parte dei 43 miliardi di euro previsti sono impegnati per sostenere le attività economiche e al contempo per sostenere la ripartenza di chi è motore di queste aziende oppure ci lavora. Insomma, questo è ancora un provvedimento d'urgenza, ma tendente ad uscire da un'emergenza, guardando poi alla ripartenza del Paese. Il valore di questo decreto è proprio nelle norme iniezioni di danaro che il Governo ha fornito complessivamente al sistema Italia, dando ossigeno ad un'economia che in parte è reentrata in terapia intensiva e che ora potrà uscire in piedi. La conseguenza del lockdown totale o parziale ha causato un ralentamento dell'economia che ha avuto un effetto domino su tutta una serie di filiere e settori tra loro collegate. C'è nel decreto quindi il tema del blocco parziale dei licenziamenti. Lo sblocco ha interessato aziende, la cui attività è limitata dal lockdown, ma ha coinvolto anche tantissime altre aziende. Adesso, senza entrare nel merito delle differenti situazioni di crisi aziendale, una cosa va detta anche dalla mia parte politica. Non si può licenziare senza che venissiano le condizioni, senza preavviso e senza avere prima attivato gli ammortizzatori sociali a disposizione. Usciremo da questa emergenza e dobbiamo capire che servono disposizioni nuove che non lasciano a casa i lavoratori, ma li ricollocchino preparandoli a nuovi lavori. Occorrono norme che premino la produttività, che incentivi l'innovazione e che quindi rendano più competitive tutte le nostre attività economiche. Inoltre è fondamentale un sistema di ammortizzatori sociali che copre sia il lavoro dipendente che quello autonomo. Ma alla base di tutto è necessaria anche una pubblica amministrazione più snella, più digitale, più efficiente, più colloquiante con i cittadini e le imprese. E va secondato l'ottimo lavoro del Ministro Brunetta in tal senso. Noi non di meno riteniamo che dalle disposizioni di questo decreto si debba partire non per creare una nuova stratificazione normativa, ma per adottare una legislazione a regime che sia anche resiliente per eventuali ulteriori situazioni di emergenza. Andando sul concreto, il reddito di cittadinanza è una misura di cui attendiamo una riforma per destinare le risorse in parte ad un nuovo sistema di ammortizzatori sociali e in parte alla formazione continua dei lavoratori, tema per noi prioritario. E che il reddito di cittadinanza abbia funzionato solo in parte come misura di contrasto alla povertà lo dimostra il fatto che è servito anche un reddito di emergenza che pure è rifinanziato in questo decreto. Quindi sono da rivedere le risorse pubbliche per Ampa, le CPI, al fine di destinare realmente alle politiche attive attraverso le imprese e le agenzie private di collocamento che con le aziende dialogano quotidianamente e puntualmente. Alle tradizionali macrovoci di spesa pubblica, che sono appunto i redditi pubblici per 174 miliardi, alle pensioni per 236 miliardi, si è aggiunta quella voce che ha raggiunto nel 2020 i 244 miliardi di oneri IMS per gli interventi sociali, che sono già a carico della Fiscalità Generale. Allora, poiché con questo decreto siamo di fronte ad una vera e propria manovra economica, è necessario ragionare anche in termini di programmazione di bilancio. L'invito quindi a lasciare le bandiere ideologiche che, come abbiamo visto, corrispondono solo ad un consenso temporario. È necessario ragionare in termini di riprogrammazione a lungo periodo, pianificando quelle riforme del mercato del lavoro che lo rendano più dinamico e non più ingessato. Lo dicevano anche i colleghi di Forza Italia che sono intervunti prima di me. Ce lo hanno dimostrate le grandi economie, come quella americana, che è un esempio per tutti, dove il lavoro è ripartito con la ripartenza delle imprese, al contempo preparando un sistema di ammortizzatori che sia predisposto, ma che venga attivato solo in caso di necessità. Questa pandemia e i tanti interventi nomativi che l'hanno accompagnato ci hanno insegnato che l'essere cittadini e l'avere dignità di esserlo ci viene dal possedere un lavoro vero ed equamente retribuito. E la possibilità di cambiarlo, migliorando la propria preparazione professionale, si realizza con una reale strutturazione di una formazione continua per tutti, ma proprio per tutti i lavoratori. Insomma, ripartiamo dai 42 articoli del titolo quarto di questo decreto, dalle buone norme esistenti e utilizzando al meglio le risorse del PNRR, realizziamo una riforma duratura e condivisa sui temi del lavoro e della Presidenza. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Oggi qui in Aula discutiamo del decreto sostegni bis, un provvedimento che vale 40 miliardi, un provvedimento importante e molto atteso da aziende e lavoratori. Ne discutiamo oggi e domani verrà posta la fiducia. Certo, avrei voluto che il dibattito parlamentare di queste ultime settimane fosse incentrato sulla situazione attuale, sul benessere o sulle problematiche delle attività e sulla tenuta dei posti di lavoro. Invece qui in Senato, in queste ultime settimane, è stato orientato su un disegno di legge che riguarda i temi importanti come i diritti civili, ma forse non così impellenti come la necessità di garantire a tutti, e ribadisco a tutti, il primo e fondamentale diritto, il lavoro. Questo provvedimento consta di 77 articoli con più commi e questo dà una fotografia su quanto il lavoro del Governo e della Camera, in questo caso, sia stato importante per riuscire a capire, a coprire tutti i comparti e settori colpiti dalla pandemia. Se facciamo una somma di tutte le risorse che lo Stato ha stanziato in questo ultimo anno, anno e mezzo, ci rendiamo conto che tra ristori e sostegno le cifre erogate non si allontanano molto dall'importo previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sappiamo bene che ristori e sostegni, come il differimento delle scadenze fiscali, non sono sufficienti a colmare le perdite subite dalle chiusure e quindi dal blocco delle attività produttive. Sono esclusivamente dei pagliattivi, in attesa che la ripartenza riporti questa ruota, che si è bloccata a girare meglio per tornare alla normalità o ad una pseudonormalità. In questo provvedimento trovo con favore le misure contenute nell'ordine del giorno che le commissioni bilancio e finanze del Senato avevano approvato nel sostegno 1, focalizzate soprattutto a garantire liquidità, tenendo conto dell'effettivo calo di fatturato nel periodo pandemico, quindi aprile 2020 e marzo 2021. Grazie alla Lega la soglia di fatturato per le aziende è stata alzata da 10 a 15 milioni, garanzie dello Stato su mutui. È stato ampliato di ulteriori 100 milioni il fondo per la montagna, la montagna penalizzata per la mancata stagione invernale e che grazie al Ministro Garavaglia e chi ha portato la voce preoccupata e allarmata del settore sono stati stanziati nei due decreti sostegno 800 milioni e grazie sempre alla Lega sono stati inseriti ulteriori 30 milioni ai comprensori sciistici da destinare alla sicurezza e all'innovazione tecnologica di piste e impianti. Bene anche il fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse con una dotazione iniziale di 100 milioni incrementata di ulteriori 40 milioni e positiva anche la modifica relativa ai tempi di chiusura necessarie per accedere ai fondi che da quattro mesi previsti inizialmente si riduce a 100 giorni. Bene anche il contributo a fondo perduto di 77 milioni per piscine e palestre, questo solo per citarne alcuni. Certo la perdita della stagione invernale ha di fatto messo la parola fine su diverse attività. Nella lettura questa mattina dei giornali viene data rilevanza la notizia della vendita di ben 100 alberghi in Trentino. Alcune attività di fatti erano già in difficoltà pre-pandemia, altre invece stante alle difficoltà hanno alzato le mani e abbassato le serrande. Un segnale forte e importante ma soprattutto impattante per comunità piccole dove il turismo è il settore economico principale. Perdere un'attività economica non può essere rilegato ad una mera perdita economica perché di fatto lei è dell'equilibrio di una comunità. Mi riferisco alla salvaguarda di tradizioni, cultura e visto che provengo da una minoranza linguistica anche la perdita della stessa. Questo tutto per mancanza di liquidità che porta anche i più convinti a cedere davanti all'inevitabile. In questi giorni la stagione turistica è partita e se da parte dei nostri connazionali c'è grande voglia di raggiungere le località turistiche, gli albergatori, ristoratori e esercenti si trovano ad affrontare un'altra difficoltà, la carenza di personale. Il turismo rappresenta un settore fondamentale per l'economia del Paese, vale il 13% del PIL occupando il 7,1% degli occupati. Il settore lamenta forti criticitare per dire forza lavoro, mancano 350.000 e 200.000 lavoratori, c'è un quarto della forza lavoro richiesta. Una delle motivazioni indicate è l'esistenza del reddito di cittadinanza, che per come è stato pensato e strutturato rappresenta diverse criticità, che seppur nel momento pandemico è stato sicuramente uno strumento utile al sostentamento dei cittadini, ha di fatto dimostrato tutte le criticità per quanto riguarda l'aspetto delle politiche attive nell'inserimento del mondo del lavoro. Il Presidente di Ampal, Domenico Parisi, riferisce che al 31 ottobre 2020, su un totale di 1.369.000 persone tenute alla sottoscrizione del patto di lavoro, solo 352.000 persone hanno avuto almeno un rapporto di lavoro, pari al 25,7 del totale. Sempre al 31 ottobre, però, i contratti di lavoro attivi erano solo 192.000, in quanto solo il 15,4% dei beneficiari, ha firmato un contratto a tempo indeterminato, mentre il 4,1% ha avuto un contratto di apprendistato e il restante 65% un contratto a termine. Questo sta a significare un'inadeguatezza del sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il compito del legislatore, in questo caso, è quello di mettere in campo le modifiche necessarie affinché le criticità che emergono trovino soluzioni, senza buttare su lavoratori o imprenditori, sentenze di parte. Concludendo, Presidente, per il rilancio della nostra economia serve dare certezze per il futuro, garantendo continuità alle attività produttive che a loro volta generano lavoro. Grazie, Presidente. Allora, sospendo due minuti perché è arrivata la il Ministro Cartabia, quindi sospendiamo il tempo proprio del Ministro di arrivare, perché mi dicono che è qui già nel Palazzo. Grazie. Seduta e ripresa. L'ordine del giorno recca informativa del Ministro della Giustizia sui gravi fatti occorsi nella Casa circondariale di Santa Maria Capuavetere. Ha la parola il Ministro della Giustizia, professoressa Cartabia. Grazie, Presidente. Grazie, signori onorevoli senatori. Vi ringrazio molto di aver sollecitato questo mio intervento in Aula su fatti che sono gravissimi e questo è necessario per darmi la possibilità di condividere con tutto il Parlamento una ricostruzione dell'accaduto, una ricostruzione dei fatti, degli interventi dell'autorità giudiziaria, degli interventi del Ministero e soprattutto di condividere alcune linee di intervento che stanno maturando a un po' più ampio spettro presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero Tutto sui problemi del carcere per aggredire le cause più profonde, più radicate che hanno permesso o quantomeno non hanno impedito fatti così gravi. oggi c'è una data che recca una coincidenza storica che non possiamo non ricordare. È il 21 luglio. Il 21 luglio di venti anni fa esattamente a Genova durante i giorni del G8 succedevano fatti di una violenza altrettanto inaudita. E allora è nostro dovere, oggi parleremo di Santa Maria Capuavetere, riflettere sì anzitutto sulla contingenza, ma anche sulle cause profonde che hanno portato un anno fa in quel carcere a un uso così smisurato e insensato della forza. fatti di questa portata richiedono la risposta immediata da parte dell'autorità giudiziaria che deve far luce su tutto e accertare le responsabilità penali. Ma fatti di questa portata sono spie di qualche cosa che non va, che dobbiamo indagare, dobbiamo intervenire con azioni di lungo periodo perché non accada mai più. Come ho già avuto modo di dire proprio lì a Santa Maria Capuavetere durante la visita con il Presidente del Consiglio, questi gravissimi fatti, oltre a sollecitare la nostra più ferma condanna, reclamano un'indagine più ampia perché si conosca quanto è successo in tutti gli istituti penitenziari nell'ultimo drammatico anno, un anno in cui la pandemia ha esasperato le condizioni del carcere, già difficili per il sovraffollamento, per la faticenza delle strutture, per la carenza del personale e per tante altre ragioni. E allora guardiamo in faccia tutti i problemi, spesso cronici, dei nostri istituti penitenziari affinché non si ripetano atti di violenza né contro i detenuti, né contro gli agenti della polizia penitenziaria troppo spesso aggrediti, né contro tutto il resto del personale che opera in condizioni difficili. Il carcere è specchio della nostra società ed è parte della nostra Repubblica. Non possiamo rimuoverlo dallo sguardo e dalle nostre coscienze. Violenze e umiliazioni si sono viste a Santa Maria di Capoavetere. Violenze e umiliazioni inflitti ai detenuti che recano una ferita gravissima alla dignità della persona, alla persona di chi le ha subite, ma sono in spregio anche alla dignità di chi le ha commesse. La dignità è pietra angolare della nostra convivenza civile, come ci chiede la Costituzione che è nata, ricordiamolo sempre, è nata dalla storia di un popolo che ha conosciuto e pagato sulla sua pelle il disprezzo del valore della persona e per questo si pone a scudo di tutti specie di chi si trova in posizione di maggiore vulnerabilità. Allora l'uso della forza, anche da parte di chi legittimamente lo detiene, sia sempre strumento di difesa, di difesa soprattutto dei più deboli, mai di aggressione, mai di violenza, mai di sopruso. I fatti sono noti, sono tristemente noti anche per il meritorio lavoro della stampa che ringrazio perché ha acceso davvero i riflettori su una vicenda che non poteva rimanere nascosta. Il 6 aprile dello scorso anno è stata disposta una perquisizione straordinaria nel reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capoavetere. Le accuse che hanno coinvolto agenti della Polizia Penitenziaria e personale dell'amministrazione sono gravi. Riguardano delitti di concorso in torture pluriaggravate, maltrattamenti, lesioni personali, falso in atto pubblico, calugna, favoreggiamento, frode processuale, depistaggio. E tutti i delitti sono pluriaggravati dalla minorata difesa, dall'aver agito per motivi abietti o futili, con crudeltà, con abuso di poteri, violazioni dei doveri inerenti alla funzione pubblica, con l'uso delle armi e per l'aver concorso negli eventi un numero di persone superiore alle 5 unità. In vero, le notizie della stampa già dallo scorso autunno riferivano di violenze e indagini in atto all'interno di quell'istituto. E c'era già stata un'interrogazione parlamentare in proposito. Mi sono chiesta e ho chiesto all'amministrazione penitenziaria come mai i fatti emersi non avessero dato luogo ad un'azione da parte del Ministero. Mi è stato spiegato nelle ultime settimane, ed è stato confermato dall'autorità giudiziaria, che l'amministrazione penitenziaria aveva chiesto informazioni ai giudici che procedevano, ma il giudice procedente non poteva rispondere per ragioni di segreto investigativo. È per questo che, come spiegherò più avanti, tutte le iniziative di cui darò conto nell'ambito del Ministero sono successive ai fatti emersi alla luce della cronaca da parte dei giornali. Di quali fatti si tratta lo sappiamo. Non voglio insistere sulle immagini che tutte conosciamo, ma non posso togliermi dallo sguardo e dalla mente, ad esempio, l'immagine di un detenuto costretto ad inginocchiarsi prima di essere colpito. Non è solo violenza, è proprio il gusto dell'umiliazione. Un altro era un detenuto in carrozzella. E tutto avveniva sotto le videocamere che hanno ripreso tutto. Non c'era nessuna sommossa in atto. Non si trattava di una reazione necessitata da una situazione di rivolta. Si è trattata di violenza freddo. Secondo quanto emerge dagli atti giudiziari, la perquisizione straordinaria del 6 aprile è stata disposta fuori dai casi sentiti dalla legge. Non sono state rispettate le forme richieste. Non c'è stato alcun provvedimento del direttore che è l'unico che può disporre che ha il potere di farlo. Secondo quanto emerge dagli atti, e cito dall'ordinanza, vi sarebbe stato solo un provvedimento orale, cioè un ordine verbale, per svolgere una perquisizione a scopo dimostrativo, preventivo e satisfattivo, finalizzato a recuperare il controllo del carcere e a pagare presunte aspettative del personale della polizia penitenziaria. Così le parole dell'ordinanza del GIP. Il giorno prima c'era stata una rivolta in carcere e nella sua ordinanza il GIP riporta alcune intercettazioni che per esempio parlano di un segnale per riprendersi d'istituto. In ogni caso, sempre dalla lettura degli atti, emerge che non era una perquisizione volta a ricercare strumenti atti all'offesa presuntivamente detenuti dai detenuti o altri oggetti che non potevano essere tenuti in carcere. Ma nella quasi totalità dei casi, leggo testualmente dal provvedimento, era mera copertura fittizia per la consumazione di condotte violente, contrari alla dignità e al pudore delle persone recluse. Sono contestazioni di una gravità inaudita. Ancora sui fatti, permettetemi di fare riferimento alla situazione di un detenuto. Forse lo avrete letto di nuovo sui giornali. Si chiama Lamin Hakimi, un detenuto affetto da schizofrenia, morto un mese dopo, il 4 maggio successivo, nella sezione da nubio del carcere. Il GIP scrive che non ci sono le evidenze che dimostrino che il detenuto sia morto in conseguenza ai colpi, alle ferite riportate il 6 aprile, ma soggiunge anche che è possibile che il sopravvenuto decesso sia da ricondurre all'assunzione di farmaci, di farmaci resi necessari per curare quelle ferite, quelle contusioni, che sommati i farmaci che assumeva per la sua malattia la schizofrenia hanno provocato un arresto cardiaco. Mi è stato chiesto, e ripeto qui, ma cosa ci faceva un malato di schizofrenia in carcere? E questo apre un altro capitolo, un'altra riflessione, anche questa resa ancora più drammatica ed esasperata dopo l'anno di pandemia. La tutela, la cura della salute mentale, dentro e fuori dal carcere. Abbiamo davvero strutture necessarie. Questo punto meriterà un grande approfondimento. Tra l'altro la Corte Costituzionale ha chiesto al Ministero della Giustizia, alle Regioni, al Ministero della Salute, dati e approfondimenti per un'istruttoria che sta conducendo. Non possiamo lasciare le cose così come sono. Sono stati fatti passi molto importanti con la chiusura degli OPG, ma attualmente le attività di cura e di supporto ai malati sono altamente insufficienti. Ma torniamo al nostro caso. Che cosa è successo dopo che l'autorità giudiziaria ha reso noto una serie di misure cautelari che sono state prese nei confonti di agenti della Polizia Penitenziaria e anche di personale dell'amministrazione. In seguito a ciascuno di quei provvedimenti, di cui risparmio la lettura per pura ragione di tempo, non li leggo analiticamente, ma chiedo sin da subito alla Presidente se poi posso consegnarli in modo tale che in totale trasparenza ci sia l'analitica descrizione di tutti i provvedimenti assunti, posso dire sinteticamente che tutte le unità di personale penitenziario che sono state raggiunte da una misura cautelare sono state anche immediatamente sospese dal servizio. È stato sospeso dall'esercizio di pubblico ufficio per otto mesi anche il provveditore regionale della campagna e alcune ulteriori misure di sospensione dal servizio hanno riguardato altre persone indagate pur non coinvolte dai provvedimenti di sospensione cautelare. Quindi era una sospensione facoltativa che è nella facoltà del Ministero decidere di assumere. analogamente è stato sospeso il direttore reggente protempore del carcere e il vice direttore preciso che l'attuale direttrice non era presente il giorno dei fatti perché assente per malattia e non è indagata. Di queste misure cautelari alcune sono anche state revocate per vari motivi, in particolare una per un errore di identificazione dell'indagato, un'altra perché il GIP ha ritenuto non necessario proseguire con la misura cautelare. In breve, il totale complessivo delle unità di personale dell'amministrazione sospese a vario titolo è di 75. Rimangono altri indagati per il quale il GIP ha specificato che non v'è certezza della loro presenza e per questo ha respinto la richiesta di misura cautelare e ovviamente su questo punto si attendono gli sviluppi dell'indagine prima di ogni altra valutazione. Per quanto riguarda i detenuti, tutti coloro che sono stati coinvolti sono stati trasferiti, come si fa normalmente per ragioni anche di sicurezza in altre sedi dentro o fuori dal territorio. La richiesta di trasferimento immediato ha riguardato 44 detenuti. Davanti alla contestazione di questi fatti, quando abbiamo ricevuto il provvedimento dell'autorità giudiziaria e quando sono emerse le immagini sui giornali, immediatamente abbiamo convocato una riunione straordinaria al Ministero, ho convocato una riunione straordinaria con i sottosegretari, con i vertici del DAP e con il garante dei detenuti. Qual era l'esigenza? L'esigenza era innanzitutto capire come fosse stato possibile, quali fossero le informazioni a disposizione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, chiedere di allargare la prospettiva, perché lo sappiamo tutti che in molte carceri italiane ci sono state tensioni che hanno messo in grande agitazione il carcere, sia per le aggressioni che hanno riguardato il personale, sia per il contrario, sia per riflettere un po' sulle cause più profonde, perché se sono successi come fatti di quelli di cui stiamo parlando in quest'Aula è perché troppe cose non hanno funzionato e non hanno funzionato non da ieri, non da un anno fa, ma da un tempo più lungo. Quello che è accaduto a Santa Maria di Capoavetere, lo ha detto il Presidente Draghi durante la visita, è una sconfitta per tutti noi. Le responsabilità penali sono individuali, personali, non si vuole lenire nulla da questo punto di vista, non ci sono giustificazioni attenuanti, ma noi non avvertiamo la responsabilità del contesto in cui è stato vissuto il carcere, soprattutto nell'ultimo anno. Io ho voluto approfondire personalmente, sentendo i rappresentanti sindacali della Polizia Penitenziaria, ho voluto confrontarmi con tutti i provveditori, che sono le articolazioni territoriali dell'amministrazione penitenziaria sul territorio. È stata disposta una commissione ispettiva interna, in modo tale che la stessa amministrazione possa andare, anche prima, anche indipendentemente dall'attività giudiziaria, a ricostruire problemi e situazioni di tensione, soprattutto in riferimento a quelle realtà di cui sappiamo già che ci sono delle spie di tensioni avvenute nell'ultimo anno. E così la Commissione visiterà tutti gli istituti penitenziari interessati da manifestazioni di protesta, denunce o segnalazioni inerenti ai gravi eventi occorsi dal marzo del 2020. Occorre approfondire la dinamica, occorre verificare la legittimità e la correttezza di ogni iniziativa adottata. Io credo che sia davvero importante che, soprattutto in un'amministrazione chiusa, com'è l'amministrazione penitenziaria, il Ministero nelle sue articolazioni sappia indagare al suo interno. Deve capire e portare alla luce le eventuali violazioni e criticità. Io credo che su questo punto qualcosa sia mancato. Ci sia stata una mancanza da parte del Dipartimento e dell'amministrazione ministeriale, almeno in questa occasione. Occorre indagare sia sugli episodi critici, ma andare anche alla ricerca delle cause più profonde e soprattutto creare condizioni materiali e normative per evitare ogni ulteriore nuova violenza. Il confronto con la Polizia, con l'amministrazione, con i provveditori, con i vertici del DAP mi ha dato molti spunti di riflessione. Ad esempio mi segnalavano che molti degli agenti coinvolti in questa brutta vicenda era personale della Polizia Penitenziaria che normalmente non era più adibito alla sorveglianza, aveva altre funzioni. Mi hanno sottolineato l'età avanzata di molti di loro e in generale un innalzamento dell'età media di tutta la Polizia Penitenziaria anche per le difficoltà del turnover e di assumere nuove personale. Tutti mi hanno ribadito la fortissima tensione che in quei mesi di pandemia si viveva negli istituti penitenziari. Io credo che bisogna capire e cogliere tutto questo. Capire e agire. Oltre a ciò che vi ho detto a riguardo della salute mentale, io ho individuato almeno tre linee di priorità che debbono impegnare il Ministero sin da subito. Strutture materiali, personale, formazione. Strutture materiali sono un problema enorme non solo per il sovraffollamento, per gli spazi, ma per il degrado di moltissimi ambienti. Mettere piede in un carcere, come di nuovo mi è capitato di fare per esempio a Santa Maria di Capoavetere, è istruttivo. Non mi stanco mai di ripetere una frase che ha segnato profondamente il mio sguardo verso quel mondo che è quella di Piero Calamandrei quando inizia sul carcere dicendo «Bisogna aver visto». È difficile descrivere le condizioni, ma una volta che si è visto le immagini si conficano nella memoria. I tanti di voi, che hanno visitato le carceri italiane lo sanno, quelle immagini di tutti i detenuti attaccati alle grate che cercavano di salutare il Presidente, la vista di un istituto che ribolliva per il calore, la fatica a respirare in determinate celle, la notizia che non sapevo, che in quel carcere non c'è l'acqua corrente perché è stato progettato senza pensare agli allacciamenti necessari e quindi l'acqua arriva ai detenuti nelle taniche ogni giorno. Possiamo noi pensare che un ambiente così degradato sia un ambiente favorevole allo scopo che il carcere ha? Possiamo noi parlare di rieducazione quando le strutture sono in queste condizioni? Possiamo noi immaginare le condizioni di lavoro, di un lavoro difficilissimo che viene compiuto da chi svolge le più varie funzioni dentro il carcere? La polizia, l'amministrazione, gli educatori? Il personale medico? Visitate un'articolazione mentale. È veramente un'esperienza indimenticabile che chiede, chiede, chiede un intervento. Occorre rimodernare, aggiustare ciò che c'è ma anche ampliare per il problema del sovraffollamento. Sapete che nell'ambito dei fondi del PNRR sono state previste la costruzione di otto nuovi padiglioni e ci tengo a ribadire, perché su questo ho chiesto alla Commissione dell'architettura penitenziaria che sta lavorando su questo, non solo per ampliare i posti letto pur necessari, ma per ampliare spazi di socialità. Abbiamo chiesto di intervenire con il cablaggio, con interventi che permettano una videa sorveglianza capillare. Guardate com'è stato importante che quei fatti potessero emergere alla luce dei nostri occhi, proprio in virtù della videosorveglianza, che è qualcosa che chiedono tutti. Lo chiedono i detenuti e lo chiedono gli agenti, perché è a tutela di tutti. Le aggressioni colpiscono il personale che lavora e colpiscono i detenuti. Quando c'è tensione nessuno esce vittorioso. E poi occorre intervenire in modo significativo sulla dotazione del personale. Ci sono carenze gravissime in tutti gli organici. La polizia, gli educatori, il personale dell'esecuzione penale esterna. Abbiamo ripreso i concorsi che erano bloccati per la pandemia. Si stanno concludendo, ma moltissime carceri italiane non hanno un direttore, perché i direttori sono pochi e si devono dividere due o tre istituti penitenziari. Voi potete immaginare strutture con novecento, mille persone, con problemi diversissimi, perché altro è il 41 bis, l'alta sicurezza, altro è la salute mentale, altro è il problema delle donne. Ancora ci sono i problemi delle donne con i figli in carcere. Potete immaginare strutture così che non hanno un punto di coordinamento, un vertice ultimo e sottoposte a continue criticità. E poi, permettetemi l'ultimo punto che mi sta particolarmente a cuore, anche perché di nuovo è una riflessione che è frutto dell'ascolto dei protagonisti. Il personale della polizia, il personale dell'amministrazione, tutti gli educatori, chiedono formazione. E non solo una formazione iniziale, quello studio che ti serve per superare il concorso e magari ti dà un'istruzione di come muoverti nei primi passi dentro realtà così complesse, ma una formazione permanente, una formazione che nutra la cultura di che cosa vuol dire rieducare dentro un carcere, ma che dia anche indicazioni operative su come misurare, quando necessario, per esempio, l'uso della forza, come reagire di fronte alle più varie situazioni di crisi. Formazione. Formazione perché questo è un lavoro, lo dico sempre, quando incontro soprattutto gli agenti, ma il personale tutto con cui peraltro condivido quotidianamente la mia vita, perché fanno anche parte della mia tutela. Lo dico sempre che trovo che il loro lavoro sia un lavoro delicatissimo, molto più delicato anche di quello delle altre forze dell'ordine, perché il loro compito, per ricordare un famoso titolo di un libro di Foucault, non è solo sorvegliare e punire. Il loro compito è accompagnare nel percorso di rieducazione tutti i detenuti, garantendo ordine e sicurezza e partecipando a un lavoro essenziale, non solo per tutte le persone che vivono dentro il carcere, ma per tutta la società. Perché chi vive in modo costruttivo il periodo della pena della reclusione è anche una persona meno incline alla recidiva. Non dimentichiamo questo aspetto. È anche per ragioni di sicurezza generale che dobbiamo conformare sempre di più il tempo della pena a quello che la Costituzione ci richiede, che la pena sia rieducativa. Anche per questo abbiamo avviato un gruppo di lavoro presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per riflettere su cosa è stata la formazione fino adesso e che cosa deve diventare. Appunto, lungo linee di direttrici che nutrano la cultura ma diano anche indicazioni pratiche. I fatti di Santa Maria hanno sollevato un velo, hanno squarciato un velo, forse in un modo un po' drammatico, un po' violento. Ma adesso la realtà del carcere italiano è davanti agli occhi di tutti. È davanti anche agli occhi del Governo. Il Governo ha visto anche con la visita in prima persona del Presidente del Consiglio, un fatto che non è passato inosservato in tutta la realtà carceraria. La visita del Governo, oltre che essere un fatto simbolico anche di vicinanza, di presenza laddove c'è stata una ferita così grande, è anche un'assunzione di responsabilità. Il Presidente del Consiglio ha concluso quella sua visita dicendo che il Governo sa e non vuole dimenticare e per non dimenticare bisogna incominciare subito un'azione anche concreta di miglioramento e di risanamento di problemi endemici delle nostre carceri italiane. Grazie. Grazie Ministro. I documenti cui ha fatto cenno saranno sicuramente legati alla sua relazione. Ha chiesto di parlare il senatore Grasso ne ha facoltà per cinque minuti. Presidente, colleghi, gentile Ministra, abbiamo sentito dalle sue parole la ricostruzione di quanto avvenuto a Santa Maria Capoavetere e i provvedimenti che intende prendere il Governo per ricucire la ferita nello Stato di diritto che il pestaggio giuridicamente qualificato come tortura e i tentativi di depistaggio successivi hanno inferto nell'opinione pubblica, nella coscienza collettiva o almeno in quella parte, spero vasta, che considera anche i detenuti soggetti di diritto. So che lei ha a cuore questo tema e lo ha dimostrato da Presidente portando la Corte Costituzionale nelle carceri. Non è inutile da parte mia in premessa ribadire l'importanza del Corpo di Polizia Penitenziaria nella gestione di un mondo complesso, difficile come quello delle carceri. Lo ha detto anche lei, strutture spesso fatiscenti, sovraffollamento, carenza di personale, di direttori, di educatori, psicologi, mediatori culturali, proprio per queste motivazioni, al ringraziamento per tutti coloro che si adoperano con coscienza e dedizione e che ho potuto apprezzare nelle mie precedenti funzioni di magistrato, non può non corrispondere. La più ferma e determinata condanna per quanto avvenuto a Santa Maria Capoavetere, temo, magari in forme meno gravi, ma comunque sempre inaccettabili in altri istituti. Le immagini, lo scambio di messaggi tra gli indagati denunciano non un momento di follia, l'ha detto lei, una fredda azione, ma un sistema collaudato di violenza con un suo nome in codice. La complicità e la connivenza di funzionari di ogni ordine e grado, la consapevolezza della gravità dei fatti, il tentativo di cancellare le tracce, la determinazione nel depistare le indagini, la rabbia nel non esserci riusciti. Ma com'è possibile che a seguito di tutto ciò il DAP e il Ministero non siano intervenuti per più di un anno? Lo ha chiesto anche lei. Com'è possibile che i principali responsabili siano rimasti al loro posto per tutto questo tempo? Gli avvisi di garanzia dell'11 giugno 2020 avrebbero dovuto consigliare in via cautelativa almeno il trasferimento degli indagati, che così hanno avuto la possibilità di fare pressione sui detenuti e indirettamente sui loro familiari per ritirare le denunzie. Come si può fastare vittime carnefici a convivere nella stessa comunità? E aggiungo il paradosso che ora a pagare le conseguenze dei pestaggi siano gli stessi detenuti, alcuni dei quali trasferiti a centinaia di chilometri dalle loro famiglie, non certamente i camorristi detenuti che sono rimasti fuori da tutto questo. Dispiace, al di là del cambio di governo del Ministro, che nulla sia accaduto prima dell'intervento della magistratura. Avremmo tutti preferito che fossero l'amministrazione petenziale e il Ministero a muoversi in anticipo, in autonomia, sulla scorta delle particolareggiate denunce del garante dei detenuti della Campania e non con una gestione burocratica di relazioni evidentemente non corrispondenti alla realtà, viste le imputazioni di falso, che hanno portato il suo predecessore a parlare di una doverosa azione di ripristino della legalità. Per il rispetto che abbiamo della legge, per l'amore che nutriamo verso i principi costituzionali, non possiamo derubricare tutto questo a un episodio, non possiamo cavarsela con la retorica delle mele marce. Siamo ancora in tempo per intervenire, con forza. Le crediamo di prendere al più presso i provvedimenti annunciati, come previsto dalle norme, nel contempo di accelerare i concorsi, aumentare il numero degli agenti di polizia penitenziaria e degli altri operatori e di migliorarne la formazione. Sappiamo che sono molti i problemi delle nostre carceri, li ho elencati in premessa, abbiamo il dovere di intervenire per risolverli, per ripensare completamente il sistema carcerario da tutti i punti di vista, o come ha giustamente sottolineato lei l'intera architettura carceraria, a partire dalle funzioni che vanno certamente contemperate di sicurezza sociale e di educazione. Non possiamo accettare che chi è chiamato a mantenere l'ordine, a garantire la correttezza della vita degli istituti... Grazie Senatore, può consegnare tutto, può consegnare tutto, la ringrazio. Ha chiesto di parlare Senatore Mirabelli, ne ha facoltà per cinque minuti. Abbiamo stabilito una regola, l'abbiamo stabilita insieme, l'abbiamo stabilita in capigruppo, che non ci sarebbero stati più minuti aggiuntivi per nessuno, visto che ho sempre lasciato parlare tutti e questo aveva dato i tempi supplementari e questo aveva dato adito a varie contestazioni. L'abbiamo stabilito, la pregherei di rispettare le regole come le rispettano tutti. Grazie. Senatore Mirabelli, ne ha facoltà per cinque minuti. Grazie, grazie Presidente, grazie Signora Ministra, grazie per questa relazione che fa un'analisi spietata ma vera della situazione delle carceri del nostro Paese. E grazie anche perché di fonte a fatti gravissimi come quelli di cui abbiamo sentito, che abbiamo visto di fronte a questi fatti gravissimi il Governo, lei Signora Ministra, il Presidente del Consiglio, avete dato un segnale molto forte. Io penso che la presenza in quel carcere, la forza con cui si è sostenuta a quell'iniziativa, sia una cosa importante, non solo perché credo che dimostri la volontà del Governo, del Parlamento, delle istituzioni di fare piena luce e fare giustizia su quello che è successo. E credo, Ministra, che noi vogliamo fare piena luce su quello che è successo a Santa Maria Capoavetere, ma anche su altre vicende che sono aperte. Ci sono ancora i tredici morti che ci sono stati durante le rivolte, su cui serve chiarezza. Io penso che questa iniziativa, aver acceso con tanta forza questo faro può e deve essere anche un'occasione per un sussulto, per mettere mano in fretta e concretamente alla situazione delle carceri. Certo, dobbiamo impostare anche riforme più complessive, ma credo che servano anche misure a breve da mettere in campo. Il Parlamento deve fare la sua parte. Abbiamo chiesto e proposto una mozione per istituire una commissione di inchiesta proprio sulle violenze nelle carceri, perché credo che non possiamo ignorare ciò che è successo, non possiamo aspettare di succedere. Sono vittime delle violenze nelle carceri, non solo i detenuti, gli agenti. Una recente ricerca dice che si sono aumentate le aggressioni agli agenti. Gli stessi operatori. C'è un clima di violenza all'interno delle carceri di cui ragioni vanno indagate. Non basta giustificarle con la sovrappopolazione. Sicuramente c'è un problema di spazi trattamentali insufficienti e benissimo che nel PNRR si sia stabilito di finanziare non solo più posti, ma soprattutto più spazi trattamentali. Certamente ha pesato il Covid, l'ha detto anche lei, Ministra. Ha pesato l'isolamento in cui si sono trovate le carceri. Ha pesato la noia, l'assenza di lavoro, l'assenza di spazi e di incontro. Dobbiamo interrogarci su questo. Dobbiamo interrogarci anche su cosa dobbiamo tenere dei momenti di comunicazione con l'esterno che si sono creati durante il Covid. Dobbiamo sapere, l'ha detto lei, signora Ministra, e l'ha detto bene, che c'è bisogno che il territorio si occupi del carcere, che le istituzioni si occupino del carcere, gli enti locali abbiano rapporti con il carcere, i carceri devono diventare quartieri delle città in cui si trovano. Questo garantisce, io credo, molto controllo e prevenzione. E pesano sicuramente le condizioni di lavoro difficili in cui si sono trovati spesso a operare i lavoratori. Io, Ministro, voglio dire solo una cosa. Come si riparte dopo il Covid? Credo che dobbiamo fare questa riflessione adesso. Bisogna riaprire le attività, il lavoro, la vigilanza dinamica. Bisogna, io credo, valutare, se non sia il caso, dopo quello che hanno passato in questi due anni, di aumentare gli sconti di pena per chi ha avuto buona condotta. Bisogna valutare le misure dei semiliberi e dei domiciliari che abbiamo introdotto, se renderle permanente. E voglio dire anche, Ministro, voglio dire subito, se lo stato di emergenza si proroga, serve anche prorogare le misure che hanno funzionato e che abbiamo inserito per ridurre il sovraffollamento nelle carceri. Grazie ancora. Ha chiesto di parlare la senatrice Nunez, ne ha facoltà per cinque minuti. Grazie, Presidente, ma grazie soprattutto a lei, Ministro, che ha detto delle parole che condivido moltissimo. Ha toccato dei temi che assolutamente sono vicini a quella che è la sensibilità di una certa parte anche politica, citando Calamandrei, Foucault e l'articolo 27 della Costituzione, andando a confermare una cultura della giustizia riparativa che condivido molto e ho molto apprezzato in questa sua informativa. E come lei saprà, come dice Foucault, appunto, nella sorveglianza e punire del 75, chi ha il potere e chi ne abusa a scapito di chi non lo fa è difficilissimo. E prendere atto di questo è importante, se vogliamo essere considerati una società civile che si prende cura degli errori che la società stessa mette in atto. Lei ha citato un'interrogazione, ritengo che fosse la mia, quella appunto di marzo, no, di aprile, dicendo giustamente che c'erano già indagini in corso e quindi non è stato possibile rispondere sui fatti specifici di Santa Maria Capovetere. Ma purtroppo io avevo avuto modo già di presentare a marzo un'altra interrogazione sui fatti accaduti a Modena, a Pavia e sulle agitazioni che riguardavano già i carceri di Salerno, di Napoli, di Frosinone, di Vercelli, di Alessandria, di Palermo, di Bari e di Foggia. E ancora prima, nel decreto cura, avevo avuto modo di presentare emendamenti perché la situazione già grave, come lei giustissimamente ha detto, delle carceri veniva aggravata nel marzo 2020 dalla situazione della pandemia, quando tutti noi ricevevamo indicazioni sul distanziamento e sull'igiene, sulla cura, nelle carceri il sovraffollamento e la mancanza di sicurezza rispetto al Covid era altissima. E lei infatti ha detto che il 5 di aprile i fatti gravissimi che sono accaduti e che lei stessa ha denunciato erano stati preceduti da una rivolta. Ma cosa chiedeva quella rivolta, quella agitazione, perché è stato chiarito che non si trattava di una vera e propria rivolta, ma di un'agitazione, chiedeva sicurezza sanitaria, distanziamento, chiedeva che nelle carceri il sovraffollamento venisse, come dire, ovviato, grazie. Devo dire che sono abbastanza agitata perché questa situazione e anche il suo intervento mi ha colpito molto e quindi la mia emozione dipende proprio dal suo discorso. Lei è stata anche molto chiara nel dire che oltre a capire bisogna agire e ha dato delle linee di priorità importanti, quella della formazione, della cultura per il personale e sul sovraffollamento. Ha parlato di costruire nuove carceri, anche se la questione chiaramente è brutale nel costruire nuove carceri. Noi abbiamo 6.123 detenuti su 4.727 posti, però dobbiamo tener conto che 8.682 detenuti devono scontare meno di 12 mesi di detenzione, 8.142 da un anno a due anni. Noi dovremo, prima di costruire nuove carceri, pensare alle pene alternative, perché come lei stessa ha detto Ministra, la recidiva quando ci sono pene alternative è molto al di sotto di quella di chi invece sconta la pena nei carceri. Quindi noi dovremo seguire questa linea prima di mettere mano alla costruzione dei nuove carceri, perché una società che costruisce nuove carceri è una società che ha fallito. Noi dobbiamo cercare pene alternative, dobbiamo provare... Grazie Senatrice, grazie. Ha chiesto di parlare. Il Senatore Caliendo ne ha facoltà per 5 minuti. Grazie Presidente. Signora Ministro, io devo ringraziarle per le sue parole non solo, ma quelle che ha pronunciato immediatamente, appena saputo dei fatti, con un richiamo forte ai valori e ai principi della Costituzione. Devo ringraziare anche il Presidente del Consiglio, che con lei è venuto a Santa Maria Capovetra, che significa una cosa molto importante. Il Governo italiano tratta i detenuti come tutti i cittadini e di fronte a tragedie è presente interamente nella loro casa, nella loro attività, dove il carcere. Un carcere che mi dispiace dire non è necessario costruire nuove carcere, ho sentito poco fa, è sbagliato. Perché per poter affermare i principi della Costituzione occorre che le carceri siano vivibili. occorre che vi sia uno spazio fondamentale per ciascun individuo. Noi non dobbiamo pensare che il detenuto deve avere una qualche afflittività superiore a quella che già ha della privazione della libertà. Dobbiamo invece garantirgli delle strutture e delle necessità. Io ho visitato circa 43 carceri nel nostro paese. Quello che lei ha descritto esiste abbastanza variegato nelle varie regioni. Le faccio l'esempio della Liguria, dove c'era addirittura il carcere di Savon, non so se è stato aggiustato, ma era una cosa assurda visitarlo e vederlo. Ma vedere anche che un provveditore era riuscito a realizzare le docce in tutte le celle della Regione. Aveva un grande significato per i detenuti. Ma nello stesso tempo tutto questo, devo dirle, ho fiducia nella sua capacità di garantire sanzioni necessarie, adeguate agli accertamenti di responsabilità individuali. Perché solo di quello possiamo ragionare. Vale, allo stesso tempo, aspetta a noi, a Parlamento, darle un contributo. Il contributo è realizzare le misure di prevenzione necessarie perché questi fatti non avvengano. E bisogna realizzare una capacità di dialogo all'interno delle strutture carcerarie, tra detenuti e polizia penitenziaria. Lei sa meglio di me che oggi stiamo ragionando di un episodio molto grave commesso da alcuni della polizia penitenziaria. Però io non dimentico, e lei lo sa meglio di me, che circa 400 poliziotti all'anno sono vittime di violenze forti all'interno del cancere. E allora dobbiamo realizzare e stare attenti a che cosa sono le norme che abbiamo approvato. Abbiamo approvato qualche anno fa una norma scelerata, che era quella che introduceva come prevenzione se per caso ammazzi fai qualcosa di grave nei confronti di un poliziotto penitenziario e non hai diritto alle benefici di Ragozzini per due anni. Questa era la norma. È stata abolita. Perché? Perché era un automatismo. Io sono contrario agli automatismi, ma nella realtà carceraria questi automatismi sono tali da garantire che ciascuno assuma la propria responsabilità e avere cognizione dei diritti. Ma il diritto significa anche sapere che se hai sbagliato devi certamente spiare la pena nel mondo più polito e più corretto possibile. Nello stesso tempo non posso accettare che se per ipotesi sovraffollamento, gravità, calore in questo periodo dell'estate, non possono giustificare atti di violenza dei confronti o della polizia presidenziale o di altri detenuti, perché ci sono anche per altri detenuti. Allora, noi non possiamo continuare a fare grandi, bei discorsi. Io credo che il Parlamento deve assumere l'impegno a rispondere alle eventuali richieste di norme che possa il Ministro portare in Parlamento, ma nello stesso tempo valutare quali sono le norme attuali e la loro adeguatezza per quelle aspettative a cui ho fatto riferimento, ma essenzialmente per garantire attraverso misure di prevenzione un clima diverso. Occorre il dialogo, occorre la capacità di... Grazie, grazie Senatore Caliendo. Ha chiesto di parlare il Senatore Simone Bossi, ne ha facoltà per cinque minuti. Grazie Presidente. Sono felice che finalmente si parli del sistema di detenzione, di polizia penitenziaria, di situazioni che più volte noi come Lega Salvini abbiamo cercato di portare in queste aule. Mi spiace avvenga solo per fatti spiacevoli e non per le centinaia di segnalazioni consegnate proprio da quel mondo alle istituzioni. Purtroppo, però, spesso la politica non va nella direzione del buonsenso. E questo lo dico a malincuore, ma qui tutti quanti lo sappiamo, è una battaglia contro i giganti ogni giorno, perché diversamente se così fosse avremmo già risolto il problema molto tempo fa. Purtroppo questo non è accaduto. E magari oggi quei video assurdi che tutti abbiamo visto mesi fa, commentato, che hanno riempito i giornali, i telegiornali per settimane, non ci sarebbero neppure stati. Ed invece eccoci qua oggi a discuterne. Ognuno, per carità, farà la sua parte, avrà la sua teoria da mettere in campo, ci dirà più o meno le sue ricette. E la giornata politica del mercoledì parlamentare finirà a commentare l'ennesima informativa letta in aula dal ministro. Questa è la prassi. Per carità è legittimo, fa parte del nostro lavoro, ma ci rendiamo conto che siamo qui a parlarne non perché il problema c'è, ma perché è successo l'ennesimo episodio spiacevole, sbagliato e da condannare. Per carità di Dio, io non voglio giustificare nessuno. Chi ha sbagliato pagherà. Ancora una volta non siamo in grado di anticipare i problemi, ma dobbiamo rincorrere l'ennesimo disastro. Vede, ministro, io non entro nel merito di cosa sia successo. Lei ce l'ha spiegato benissimo. Lo farà chi di dovere, non certo io oggi. Tuttavia, sui fatti di Santa Maria Capoavetere, mi limito ad osservare che non credo sia da paese civile vedere nomi e cognomi di poliziotti sbattuti sui giornali. E lo è ancor meno prima di un processo serio. Ritornando al ragionamento iniziale, al quale tengo molto, voglio ribadire a chiare lettere che stiamo dando un messaggio sbagliato, perché dietro alla nostra retorica parlamentare, e l'ha sottolineato anche lei, oggi si nasconde un messaggio di rassegnazione del Parlamento nel non voler affrontare questo tema nella sua totalità. Totalità che inizia proprio da quel campanello di allarme che le sigle sindacali della Polizia Penitenziaria più volte hanno espresso. Basterebbe ascoltarli un po' più spesso. Caro Presidente, caro Ministro, cari colleghi, non siamo qui a parlare perché vogliamo porre rimedio a tutte le falle che negli anni hanno reso impossibile gestire il sistema calcerario. Non siamo qui a parlarne perché abbiamo colto, dopo esserci confrontati con chi svolge questo servizio sul campo, i problemi, il disagio quotidiano nel far andare avanti proprio la quotidianità all'interno di queste strutture. Parliamo di situazioni che vanno oltre il limite umano di sicurezza sul lavoro degli operatori stessi. Abbiamo un agente attivo in media ogni 70 detenuti, in alcuni casi ogni 100 detenuti. Parliamo di un alto numero di detenuti psichiatrici e autolesionisti che necessitano di cure diverse dagli altri detenuti. Oggi tutte queste tipologie sono rinchiuse, ammassate negli stessi istituti di detenzione e quasi sempre sono seguiti dalla Polizia Penitenziaria e non da persone formate per seguire questo tipo specifico di patologie più complesse. E da qui una riflessione sulle falle della legge Basaglia io la farei perché ne scaturisce un disagio che va a discapito della sicurezza degli operatori e dei detenuti stessi. Non si può più far finta di niente. C'è un dato allarmante crescente di cui nessuno ne parla che ha visto gli agenti di Polizia Penitenziaria togliersi la vita per quella che in psicologia viene definita sindrome da burnout, grave problema oggi degli agenti che lavorano negli istituti di detenzione. Non solo, parlando di Polizia Penitenziaria scopriamo che mancano divise idonee, mancano le protezioni di difesa adeguate, così come altre dotazioni in generale dovrebbero essere riviste. Potrei continuare per ore a mettere sul tavolo problematiche per cercare di parlarne, ma qui più che contenuti sul tavolo servono risposte immediate ed urgenti. Gli agenti di Polizia Penitenziaria sono persone, ragazzi e ragazze, che si arruolano con la speranza di poter migliorare la loro vita, mettendosi a disposizione del prossimo. Non lasciamoli soli e non facciamo di tutta l'erba un fascio di fronte a un episodio spiacevole ed ingiustificato, ma entriamo seriamente nell'ottica di sistemare il sistema di detenzione italiano proprio per evitare che queste situazioni avvengano ancora. Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Pierulli, ne ha facoltà per cinque minuti. Grazie Presidente e colleghi, Ministra. Voglio ringraziare per aver mostrato unitamente al Presidente Draghi particolare attenzione a queste problematiche, lei in precedenza anche in qualità di Presidente della Corte di Cassazione. I fatti di Santa Maria Capovettere sono abominevoli. Certamente non possono essere giustificati, soprattutto nei confronti di soggetti vulnerabili e soprattutto quando chi accompiere questo tipo di violenze sono coloro che rappresentano lo Stato. Questi comportamenti offendono non solo gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, ma tutti gli operatori penitenziari che con mille difficoltà quotidianamente cercano di far funzionare gli istituti penitenziari, con scarsità di risorse umane, finanziarie e strumentali. Sono molto preoccupata perché constato il fallimento dello Stato. Lo dico con il cuore in mano perché prima di fare il politico sono un tecnico. Ho dedicato tutta la mia vita professionale e privata alla legalità. In qualità di direttore di carcere, io il carcere non l'ho visto, l'ho vissuto e a grande voce posso dire che se non c'è il singolo operatore, il singolo direttore che con caparbia cerca di portare avanti quei percorsi di inclusione, di legalità, certamente quella rieducazione e risocializzazione prevista dalla Costituzione è certamente un'attività ardua. Un'attività ardua perché teniamo presente che la Costituzione parla di rieducazione, quindi il carcere interviene laddove la società con la scuola e con la famiglia, ha fallito e l'opera di rieducazione è certamente molto più complessa. Come diceva Voltaire, non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri perché da esse si misura il grado di civiltà. Purtroppo le carceri nel corso degli anni è stata una realtà scomoda, è stato più semplice adottare indulti, amministie, svuotacarceri, ma in realtà non abbiamo affrontato il problema reale della necessità di agliamento degli organici, di spazi. Abbiamo avuto le condanne da parte dell'Europa, parliamo di educazione, ma l'Europa ci ha segnalato come gli spazi erano ridotti, dove c'era una scarsa illuminazione. E non dimentichiamoci che ci sono ancora celle con bagni a vista, quindi parliamo di pena dignitosa e ne parlava il legislatore del 75, il legislatore del 2006, il legislatore nel 2018. Questa legislatura ha portato avanti i decreti legislativi 123, 124 e 128, dove abbiamo sottolineato la dignità della persona umana, la dignità del detenuto. Abbiamo sottolineato che il trattamento non deve avere differenze né di sesso né di genere, però dall'altro canto visitiamo le carceri, andiamo nelle celle, ma non con visite preordinate. Verifichiamo che una cella di 21 metri quadrati ci sono sette detenuti, perché molto spesso i dirigenti penitenziari, i direttori con tutto lo staff si trova a dover misurare la cella, si trova a dover verificare se viene rispettato i tre metri quadrati a detenuto. Questa è la realtà delle carceri. Quindi oggi cerchiamo innanzitutto di trovare delle misure che possano innanzitutto implementare quelle misure alternative, facendo in modo anche di prevedere misure di comunità, perché anche le misure alternative, molti di fatto non riescono a fruirle per assenza di domicili idoni e in questa assenza sono compresi tutti gli stranieri che continuano a restare nelle carceri. Parliamo di soggetti psichiatrici, un emendamento a mia prima firma, c'è un milione di stanziamento di fondi per implementare i posti letto, per evitare che i soggetti psichiatrici stanzionano negli istituti. Quindi mi auguro che si metta mano a questa norma e si applica. Non servono nuove leggi, serve le acconcretizzazioni delle leggi esistenti in questa attività di collaborazione con tutte le istituzioni. Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Cucca, ne ha facoltà per dieci minuti. La ringrazio signora Presidente. Signora Ministra, la voglio davvero ringraziare per la sua presenza oggi in quest'Aula. La voglio ringraziare principalmente perché con le sue parole ha dimostrato che veramente stiamo affrontando un cambio di passo su questa materia che più volte noi avevamo richiesto, ma che eravamo rimasti inascoltati. Le sue parole su quello che è accaduto sono effettivamente confortanti e danno il segnale del suo impegno e soprattutto del rispetto di quello che di quell'impegno che lei aveva assunto fin dal primo incontro con noi quando ci aveva detto per me il faro e la Costituzione. E in quest'Aula io più volte ho chiesto che prima di tutto esiste l'osservanza della Costituzione. Con lei credo che siamo e abbiamo anche altri segnali che sono molto attuali. Crediamo che siamo arrivati finalmente sulla buona strada che è mancata fino ad oggi. E certo a noi non ci si può rimproverare, a noi del gruppo che rappresento di Italia Viva, Partito Socialista Italiano, non ci si può rimproverare, che non avevamo fatto presente in altre circostanze, la situazione difficilissima che si era venuta a creare nelle carceri. Non solo per quel che era accaduto durante l'anno della pandemia, e lei in maniera assolutamente esaustiva ha ricordato quegli accadimenti, ma anche in precedenza avevamo avuto segnali del poco interesse nei confronti di quel settore. Basti pensare al fatto che la riforma Orlando, che necessitava dei decreti attuativi, quando si era parlato dei decreti attuativi del sistema relativi all'ordinamento penitenziario, era stata sostanzialmente svilita nei contenuti principali. Finalmente ho sentito da lei parlare di giustizia riparativa, finalmente si è risentito parlare dopo tre anni, di giustizia riparativa nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, perché vede quel che è mancato fino ad oggi, è l'attenzione verso quel mondo. Di questo non possiamo prenderne atto e non possiamo che farcene carico. E ribadisco, da parte nostra le voci le avevamo fatte sentire, perché fin dall'anno scorso noi avevamo anche chiesto le dimissioni dell'allora responsabile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e siamo rimasti inascoltati. Quindi, voglio dire, questi fatti ci hanno sconvolto, i fatti di questi giorni, hanno sconvolto tutti quanti noi, anche come cittadini comuni. Le violenze all'interno di Santa Maria Capuavettere hanno messo in crisi l'intero assetto sociale di uno Stato di diritto e segnalano quindi lo spasamento della collettività verso quella parte della cittadinanza. È stato ben detto che finalmente anche i carcerati vengono trattati come normali cittadini e voi, lei assieme al Presidente Draghi, ne avete dato ottima dimostrazione. Però c'è tanto, veramente c'è tanto da fare. C'è tanto da fare perché dobbiamo prendere atto della situazione del disinteresse manifestato in quest'ultimo, soprattutto negli ultimi anni. Vogliamo accentuare questo aspetto, soprattutto per anche ringraziare, porgere il ringraziamento agli agenti della Polizia Penitenziaria, nonostante quel che è accaduto, perché il più delle volte, questo è un fatto sicuramente isolato, perché il più delle volte si trovano ad operare in condizioni veramente di disagio, di disperazione e solo grazie allo spirito di abnegazione e allo spirito di sacrificio si riesce a portare avanti anche il settore carcerario. E in questo senso le misure che lei ha annunciato sono sicuramente misure estremamente importanti che noi appoggeremo, appoggeremo in maniera chiara, perché è ciò di cui si ha necessità. Offrire una nuova vita a quel sistema. Vede, mi aveva colpito anche, oggi l'ha ripetuto, mi aveva colpito molto quando si era parlato a suo tempo di, noi eravamo abituati fino ad allora a parlare di edilizia carceraria, lei ha detto invece, usa il termine architettura penitenziaria. E questo è significativo, ancora una volta, del cambio di passo che stiamo affrontando. È significativo perché vuol dire conoscere le realtà carcerarie. Io faccio l'avvocato e quelle realtà le conosco, ho girato molte carceri in Italia. E quel che è stato detto forse effettivamente non rende assolutamente l'idea di come si viva all'interno delle carceri. E noi dobbiamo prendere atto che quelle sono persone, sono esseri umani che hanno semplicemente sbagliato percorso di vita, talvolta in maniera gravissima. Però se lo Stato non si fa carico degli errori dei suoi cittadini è evidente che non possiamo che continuare con la degenerazione di queste persone. Ebbene ha detto lei ancora una volta oggi sul fatto che con una buona educazione si può avviare un percorso di reinserimento secondo quei principi che sono dettati dalla Costituzione e che purtroppo spesso vengono dimenticati e messi da parte. Perché ancora non abbiamo le carceri nelle quali si è consentito, a parte gli ambienti per la socializzazione di cui lei ha parlato, ma anche gli ambienti in cui si possa lavorare, si possa insegnare un mestiere. Spesso grazie a direttori di carcere molto illuminati, si riesce ad avere una situazione nella quale i detenuti imparano un nuovo mestiere e sono pronti a rientrare nella società. Sappiamo, e lei le conosce sicuramente meglio di me, dei progetti che esistono per cui i prodotti che escono dal carcere vengono venduti, vengono comunque, per quanto a prezzi ovviamente molto molto bassi, però comunque il prodotto del lavoro all'interno delle carceri viene poi utilizzato anche all'esterno. E tutto questo non fa che formare le persone che sono lì dentro e prepararle a una nuova vita quando saranno fuori dalle carceri. Bene, infatti lo sappiamo, tutta quella situazione di cui lei ha parlato e che io molto brevemente ho richiamato, purtroppo sappiamo anche che non sono fatti isolati. Ci sono stati altri episodi che forse non sono stati neanche denunciati. Ci sono stati anche degli altri episodi in senso inverso. C'è oggi sui giornali il fatto di un noto appartenente alla criminalità organizzata che ha malmenato un agente di custodia all'interno del carcere e non era la prima volta. Ma questo è un clima che si viene a creare proprio per le condizioni di disagio. Il problema del sovraffollamento delle carceri è ormai annoso. Era stato affrontato in maniera adeguatissima la scorsa legislatura. Avevamo ottenuto dei grossi risultati ma non si era fatto abbastanza. Non si era fatto abbastanza perché non si era pensato al fatto che c'è necessità di un ampliamento delle carceri stesse, delle dimensioni delle carceri. C'è bisogno di un nuovo sistema, quello di cui lei ha parlato. C'è bisogno di nuovi agenti di polizia penitenziaria. C'è bisogno di mettere in condizione di lavorare adeguatamente all'interno delle carceri. Ora il sovraffollamento è una criticità e noi siamo convinti che lei abbia messo le basi, come dicevo, per un percorso nuovo che consenta di andare, di guardare al futuro con un po' più di ottimismo, diciamo. Però ovviamente ci si trova ad affrontare questi problemi anche dopo un anno emergenziale come quello pandemico e con tutte le condizioni che si sono verificate, le rivolte che ci sono state, che hanno messo a nudo finalmente la vera realtà del sistema carcerario. Ora, purtroppo, l'articolo 27 della nostra Costituzione spesso e volentieri è rimasto solo sulla carta. Si è sempre di fatto ricorso alla pena detentiva come unica risposta alla commissione di un reatto e questo per rincorrere demagogicamente il principio della certezza della pena. Questo ovviamente non può continuare, non può essere così e io finalmente sono convinto che ci stiamo avviando a un percorso nuovo. Bisognerebbe investire ovviamente prima di tutto sulle strutture adeguate, come lei ha già annunciato, che siano in grado di accogliere la popolazione carceraria in condizioni dignitose e più che dignitose, ma in condizioni soprattutto di metterci, di mettere quelle persone all'interno, in condizioni di avviarsi a un percorso di vita nuovo e consono alle regole del diritto. E ovviamente questa dignità spesso viene negata, è stato ricordato anche in precedenza che si vive spesso in condizioni di scarsissima dignità, i bagnavista, la mancanza dell'acqua calda, la mancanza della possibilità di farsi una doccia se non in condizioni particolarissime. Mille problemi che conosciamo, che sono venuti ormai alla luce in maniera estrema. E ovviamente c'è necessità di badare al numero degli agenti di Polizia Penitenziaria, anche l'annuncio suo sull'ampliamento della pianta organica sarà un fatto estremamente importante per tutto, fino poi agli istituti che consentiranno l'utilizzo di pene alternative alla detenzione. La smettiamo quindi di rincorrere all'utilizzo della carcerazione come primo... Grazie. Grazie, grazie, grazie molte. Grazie, senatore. Ha chiesto di parlare il senatore Totaro nella facoltà per dieci minuti. Grazie, presidente, signora ministro e onorevoli senatori. Il gruppo di Fratelli d'Italia, intanto la ringrazio, ministro, per essere venuto qui in aula prontamente a riferire su questi fatti, a parlarci di quello che avviene nei nostri penitenziari. È un argomento importantissimo per una nazione che deve essere, diciamo, modello a livello internazionale. Noi dobbiamo avere, come ha detto qualche collega che ha parlato precedentemente a me, dei penitenziari all'altezza, non posti dove la faticenza e il degrado sono, diciamo, un fattore ormai comune da molti anni, da troppi anni in questo Paese in cui la politica ha pensato a fare altro. A volte si sono costruiti anche i penitenziari, sono lasciati lì come cattedrali nel deserto e non si sono nemmeno aperti. Questo è quello che è avvenuto in tutti questi anni. Il carcere è come pattumiera della società, in realtà questo è quello che è avvenuto. Un po' di sporco lo buttiamo là e poi qualcuno lo gestirà. In questo noi vogliamo esprimere come gruppo di Fratelli d'Italia il nostro apprezzamento, la nostra vicinanza, la nostra gratitudine ai 40.000 agenti della Polizia Penitenziaria, donne e uomini della Polizia Penitenziaria che tutti i giorni rappresentano lo Stato nei nostri penitenziari. Lo fanno veramente con grande abnegazione, non avendo un grandissimo stipendio ma avendo grande volontà di rappresentare le istituzioni, di rappresentare la divisa, di rappresentare il nostro Stato e la nostra Italia. Lo fanno tra mille difficoltà, lo fanno tra mille difficoltà di strutture fatiscenti, come dicevamo prima, lo fanno tra le difficoltà di avere a che fare anche con persone che sono lì dentro e ovviamente non in tutti i casi, c'è anche una percentuale di persone che sono lì dentro ingiustamente o altri che si vogliono redimere, ma molti altri sono plurirecidivi, sono delinquenti che hanno commesso dei reati gravissimi fuori e molto spesso abbiamo mafiosi, camorristi o stupratori o violentatori che lo erano fuori dal carcere e continuano a farlo dentro il carcere e ad usare le stesse tecniche, la stessa violenza, lo stesso atteggiamento minaccioso che usavano fuori, lo usano dentro il carcere nei confronti degli agenti della polizia pretenziaria. E allora se a Santa Maria Capoavetere qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi perché quello che si è visto non è accettabile, però bisogna anche prendere le distanze da tutta una canea che abbiamo visto in questi mesi e in questi giorni in cui si è accusata la polizia pretenziaria, si è puntato l'indice e il dito contro la polizia pretenziaria a prescindere, dimenticandosi della situazione di gravità in cui loro operano, in cui devono avere a che fare con certi elementi, con certi soggetti, non è facile. A volte la gente di polizia pretenziaria non fa soltanto il militare, non rappresenta solo lo Stato, fa anche l'assistente sociale perché abbiamo tantissimi casi di donne e uomini che fanno questo tutti i giorni nei nostri penitenziari ed è ingiusto dire tutti sono violenti o tutti usano violenza, come è stato detto su certa stampa, perché ci si è ricordato solo di quell'episodio, solo di quel fatto di Santa Maria Capoavetere e ci si è dimenticati, tutti se ne sono dimenticati, caro Ministro, che ad esempio nell'ultimo anno e mezzo, e questi sono dati che non fornisce Fratelli d'Italia ma li fornisce il suo Ministero, ebbene ci sono stati 1.234 casi di aggressione e violenza nei confronti di appartenenti alla polizia penitenziaria nei nostri penitenziari, 1.234, nessuno mai ha fatto un dibattito su questo qui in aula per dire cosa avviene lì dentro, certo i nostri uomini in divisa lì dentro non hanno a che fare con gli studenti della Bocconi, perché qua si parla di conoscere il carcere, io lo conosco bene il carcere, lo conosco molto bene il carcere, da tanti anni, e so bene anche il personale che c'è lì dentro, il personale in divisa, il personale non in divisa e anche gli utenti che frequentano i nostri penitenziari, che in parte noi dobbiamo cercare di redimere, di portare sulla retta via, di costruire un percorso che possa rientegrarli nella nostra società, ma purtroppo sappiamo benissimo che lì dentro ci sono sacche fortissime di persone che commettevano dei reati gravissimi fuori e lo continuano a fare lì dentro, francamente la soluzione che qualcuno ha proposto di dare pene alternative, di uscire dal carcere, bisogna vedere a chi e per quale motivo, perché altrimenti poi non è che possiamo venire qua in Parlamento o in televisione con la lacrima sul viso a dire che la tale donna è stata aggredita perché il tale uscendo dal carcere impermesso è andato lì e l'ha fatta fuori, l'ha uccisa o l'ha violentata o gli ha fatto del male o gli ha dato fuoco, è dopo troppo facile fare il pianto del coccodrillo, queste cose vanno prevenute e quindi ci sono personalità malavitose all'interno del carcere che non devono uscire fuori dal carcere, devono stare dentro e scontare la pena. E poi, Ministro, uno dei motivi che porta alla redenzione, al recupero dei nostri detenuti nel carcere è quello del rispetto delle regole. Nel carcere ci sono delle regole, non può vigere la situazione in cui lì dentro ormai abbiamo percorsi di vigilanza attenuata per cui i detenuti sono liberi di fare quello che vogliono. Spesso ovviamente offendono, e questo non fa parte dei 1.234 casi di aggressione nei confronti degli agenti della polizia pretenziaria, spesso sono vittime di minacce, sono vittime di offese lì dentro, ma neanche vanno a denunciarle queste cose. E allora uno deve parlare, prima ovviamente il senatore Caliendo ne ha parlato di questa questione, è bene che chi si comporta in un certo modo nel carcere non debba avere degli sconti o delle facilitazioni di pena, anche per quanto riguarda la legge Cozzini. Perché altrimenti, se uno lì dentro si comporta così, oppure dà fuoco alle strutture, spacca tutto, come è successo nelle rivolte che sono state antecedenti ai fatti di Santa Maria Capavetore, non solo lì ma in tutti i peritenziari d'Italia, se uno fa quelle cose e non paga mai per quello che ha fatto, perché sarebbe interessante, chiedere e sapere, anche nei confronti della magistratura, quanti di coloro che hanno commesso quei reati dentro i penitenziari, hanno spaccato tutto, hanno sfasciato il carcere, hanno aggredito gli agenti e le rivolte che ci sono state, ha pagato in qualche modo per quello che ha fatto, ha pagato in termini finanziari o ha pagato in termini penali. Io penso molto pochi, a me risulta quasi nessuno e questo è inaccettabile, perché altrimenti se non si fanno rispettare le regole nei penitenziari è impossibile percorrere strade in cui si porta alla redenzione del reo, al fatto che possa essere reinserito in un percorso che porta al fatto di poter rispettare le regole fuori dal carcere in un momento in cui uno uscirà fuori dal carcere. Questo non avviene, lì vige l'anarchia nel mondo dei nostri penitenziari e si trovano i nostri agenti a avere a che fare molto spesso, lo diceva un collega prima, in uno o due con 70-100 detenuti nelle sezioni. Anche questo del personale che manca, è una storia vecchia. Qui abbiamo, signor Ministro, un concorso fatto nel 2019 che riguardava 745 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, che è fermo da due anni. Questi ragazzi hanno passato l'orale e devono fare le proprie attitudinali ed è due anni che aspettano di farle perché non vengono assunti. Le volevo dire, Ministro, lei lo saprà meglio di me, che nei prossimi cinque anni ci saranno 12.000 agenti di Polizia Penitenziaria in meno perché andranno in pensione oppure saranno riformati. Bisogna cominciare a parlarne e a pensare adesso a quello che sta succedendo perché già sono pochi i nostri penitenziari, nei prossimi anni saranno ancora meno. Un intervento su questo va fatto. Io penso, volendo a metterla in positivo, che il fattore importante anche del suo venire qui alle Camere, alla Camera prima, al Senato adesso a parlare di questi problemi, è che voi volete vedere cosa sta succedendo e ve ne state rendendo conto. È certo che non possiamo dare la colpa a lei per quello che è avvenuto negli ultimi decenni in cui una certa politica se ne è fregata di quello che è avvenuto nel mondo del carcere. Ha preferito dare indulti, sconti pena, svuota carceri. Questo è stato fatto, ovviamente colpendo anche i cittadini che poi hanno subito il reato e hanno visto semmai coloro che gli hanno fatto il reato uscire facilmente dal carcere o stare in giro a commettere altri reati. Quindi questo sarebbe molto facile fare così e rispondere a quello che l'Europa ci dice o ci impone. Però noi dobbiamo fare ben altro. Lei, Ministro, penso che in questo caso si sia reso conto di quello che serve. Io sono convinto che anche da parte di Fratelli d'Italia, noi stiamo all'opposizione di questo Governo, se lei lavorerà in quella direzione di affrontare i problemi, di intervenire su quelle che sono le realtà del mondo carcerario, troverà da Fratelli d'Italia come al solito non un'opposizione fino a se stessa ma un'opposizione propositiva e ovviamente troverà il nostro appoggio perché noi vogliamo la risoluzione dei problemi e non la polemica fino a se stessa. Le ringrazio. ha chiesto di parlare la senatrice Rosso Mando, ne ha facoltà per cinque minuti. Sì, grazie Presidente. Signora Ministra, le sue parole sono state chiare ma sono state soprattutto parole pesanti, inequivoche. E a lei ha toccato un argomento scomodo per la politica. E su questa scomodità vorrei poi tornare. Direi che nella sua chiarezza c'è qualcosa di molto di più di identificare in qualcosa di fatti spiacevoli avvenuti non solo nel carcere di Santa Maria a capo a Vettere. C'è in ballo l'articolo 13 della Costituzione, è stato ricordato da molti che esordisce col dire che la libertà personale è inviolabile e dice anche che è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. E sul tema della libertà, sancita dall'articolo 13 e dall'inizio di questa legislatura che ci torniamo e la attraversiamo, perché è un tema importante che attraversa tutta la Costituzione e nell'articolo 13 viene sancito con estrema chiarezza. Però vorrei sottolineare quando lei ha parlato di responsabilità del contesto. Allora, la politica non può essere lo spazio per comodi accessi al consenso e questa è la responsabilità del contesto. Sempre. Noi anche durante la pandemia abbiamo occupato questo spazio scomodo della politica. Non è stato semplice. Oggi i fatti ci dimostrano che purtroppo avevamo ragione. E allora noi non soltanto siamo contro l'affermazione che bisogna marcire in galera. In galera non si marcisce. Se si ha l'idea che chi va in galera marcisce, è questo l'impianto da rovesciare e cambiare. È questo il senso dell'articolo 27 della Costituzione, dell'articolo 13 e di tutta la Costituzione. Ma è questo il senso della sicurezza a cui tutti noi teniamo. La sicurezza è legalità. È legalità fuori dalle carceri come dentro le carceri. Ma la sicurezza è un concetto di protezione, di tutela. Ed è ancora più grave quando chi è il tutore della libertà, della nostra sicurezza, si macchia di questi fatti molto gravi, essendo in una posizione di autorità. Quindi noi non possiamo accontentarci di parole postume di vicinanza o di impegni astratti. E la ringraziamo per questo delle sue parole, per averci richiamato alla responsabilità del contesto. E allora ci sono molte cose da fare. C'è da riprendere la riforma dell'ordinamento penitenziario, investire sul trattamento, sul personale, sulle risorse, perché sì, carceri più umane sono anche più umane perché ci lavora. Se non vogliamo retoricamente rivolgerci indossando qualche felpa o qualche mezza divisa a seconda delle stagioni, se vogliamo parlare sul serio anche ai custodi penitenziari, dobbiamo occuparci delle condizioni delle carceri e dobbiamo occuparci del fatto che la pena sia modulata a seconda del percorso e che non ci siano automatismi. E anche su questo non è da oggi che noi lo scopriamo. Ci siamo battuti per eliminare tutti gli automatismi sulla pena e sugli aggravamenti di pena e continueremo a batterci perché questa è la strada da battere. E allora sì, più spazi, più risorse, ma più spazi per il trattamento, per la rieducazione, più spazi per la formazione anche degli agenti penitenziari, sempre per sfuggire da quella comoda retorica dell'attenzione a questo o a quello. E gli sconti di pena è già così. Chiunque frequenta, oltre che qualche carcere, qualche tribunale di sorveglianza, sa che c'è un'osservazione del detenuto. Ma è il punto che ci sono pochi psicologi, pochi assistenti, c'è poco personale dedicato a questo. Concludo. Noi abbiamo una straordinaria occasione, che è quella già della riforma del processo penale, dove già ci sono pene alternative al carcere, che non è l'impunità. Ed è questa la cultura diversa. Questo è il garantismo, vero, non a correnti alternate. Il garantismo è un concetto globale, è la legalità nel processo, è la legalità nelle sanzioni, è la legalità nelle carceri. Questo è il garantismo. Allora riscutiamo di questi ultimi vent'anni di giustizia e sul garantismo, ma su tutto, eh, però. Su tutto. E tutti vengono all'appuntamento e mettono in discussione qualche posizione. Altrimenti evitiamo di evocire. Grazie, senatrice. Grazie, grazie molte. Grazie. Allora. Ha chiesto di parlare il senatore Ruotolo, ne ha facoltà per cinque minuti. Grazie, signora Presidente. Grazie, signora Ministra. Perché le sue parole sono state parole di verità e senza reticenza. Per questo io la ringrazio, ma davvero, perché abbiamo segnato in questo momento, in quest'Aula, grazie a lei, un primo passo. E ha fatto bene a ricordare questa coincidenza, 21 luglio di vent'anni fa. Accadde ieri e accaduto oggi non deve più accadere. Abbiamo ascoltato con attenzione la sua informativa sull'orribile mattanza avvenuta il 6 aprile di un anno fa nel reparto Nilo, dove 292 detenuti sono stati vittime di violenze di una pluralità di azioni contrarie alla dignità e al pudore, degradanti e inumane, inaccettabili per uno Stato di diritto. Lei, quando è andata a Santa Maria Capoavetere, si accorta che mancava l'acqua corrente. Beh, lo Stato deve fare autocritica, ma lei lo sa che quel carcere è stato costruito con le aziende della camorra casalese, è stato messo in piedi una struttura dello Stato e non sono i retroscena giornalistici, ma ci sono inchieste della magistratura. Vede, noi siamo tutti preoccupati. Altro che perquisizione straordinaria e generalizzata è stata davvero una mattanza, organizzata nei minimi dettagli e con la copertura, evidentemente, della catena di comando. Se lei ha ricordato il 21 luglio di vent'anni fa, una ragione ci deve essere stata. Ecco perché con altri colleghi, con la senatrice Valeria Fedeli, con il collega Franco Mirabelli, chiediamolo, chiediamo al Senato, alla Presidente, ai gruppi di una commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema di carcere, a 360 gradi. Perché non c'è ombra di dubbio che i detenuti sono vittime di violenze, ma non c'è ombra di dubbio che anche il personale penitenziario viva in condizioni drammatiche. Ci sono realtà dove è applicata la funzione riedicuativa della pena e il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti, ma c'è bisogno di risposte immediate alle tante domande che ognuno di noi si pone dopo aver visto quelle immagini scioccanti che hanno spinto proprio lei ad affermare che è stata tradita la Costituzione. Le scene diffuse nei giorni scorsi si riferivano a 15 mesi fa. Nel frattempo, in quel penitenziario, hanno vissuto insieme detenuti e agenti, gli stessi agenti e gli stessi detenuti, anche se l'allarme era stato lanciato nell'immediatezza. Poi abbiamo sentito dell'interrogazione parlamentare e questo, come dire, il vulnus. Perché il Ministero, il DAP, non è intervenuto? Poi certo le immagini sono state sequestrate dall'inchiesta della magistratura e c'è il segreto istruttorio per cui siamo venuti a conoscenza un anno dopo perché la magistratura con i suoi provvedimenti restrittivi. Ma noi sappiamo che in quel carcere ancora oggi ci sono agenti che non sono stati identificati e che hanno partecipato alla mattanza. Mentre sappiamo oggi che i detenuti sono stati trasferiti per misure, diciamo, di protezione. Eh, ma sono stati trasferiti a centinaia di chilometri. Io voglio ricordare, chiudendo questo intervento, che ci sono anche agenti e direttori uccisi per difendere la legalità. Mi piace ricordare il vice direttore del carcere di Poggio Reale, Giuseppe Salvia, l'agente Pasquale Campanello, l'educatore del carcere di opera, Umberto Mormile. Lei ha parlato di un detenuto con la sua fragilità, la salute mentale, no? Con dei problemi. Ci sono le questioni sanitarie. Abbiamo bisogno di più agenti perché sono soli, pochi e malpagati. Abbiamo bisogno di formazione, di più educatori, di più assistenti sociali. Mai più fatti come quelli avvenuti. Grazie. Grazie, senatore. Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Modena, ne ha facoltà per cinque minuti. Presidente, Ministro, colleghi, io mi unisco ovviamente ai ringraziamenti al Ministro, sia perché ha avuto la sensibilità di venire alle Camere, ma soprattutto per quello che ha detto. Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi. Vorrei pormi una domanda, che pongo ovviamente collettivamente, è che cosa può fare oggi concretamente il Parlamento per dare delle risposte. E mi sono data anche una risposta, perché è nelle stesse parole del Ministro, credo, una risposta, se volete, pragmatica e concreta. Gli interventi che si possono fare in termini di edilizia giudiziaria sono collegati al recovery. Quindi questo Parlamento, se vuole concretamente avere, diciamo, fare qualcosa perché si migliorino le nostre carceri, gli edifici, le condizioni di vita, deve assumersi la responsabilità di fare quello che peraltro si è già impegnato a fare, cioè approvare rapidamente le riforme chieste dalla Unione Europea e dalla Commissione in materia di giustizia. Al Senato sappiamo che la prossima settimana la Commissione Bilancio comincerà a dare i pareri sugli emendamenti del processo civile. La situazione a livello di processo penale la conosciamo e quella della Camera. Ma noi abbiamo il dovere di rispondere con atti concreti che sono appunto quelli di dare seguito all'impegno che il Governo ed in prima persona il Presidente del Consiglio ha assunto in ordine alle tempistiche di approvazione delle riforme. Questa è la nostra responsabilità collettiva e questo è quello che dobbiamo prima di tutto fare, anche perché l'edilizia giudiziaria è nata da un atto di indirizzo del Parlamento. La Commissione Giustizia, con Mirabelli e Caliendo, quando ha fatto l'atto di indirizzo per il recovery, ha indicato espressamente tra le questioni la vicenda ovviamente della edilizia giudiziaria. Mi permetto anche di dare un piccolo contributo, volendo ricordare che gli attori all'interno del carcere sono tanti. Giustamente si è detto che non si deve colpevolizzare la polizia penitenziaria, perché fa un lavoro terribile, in condizioni terribili, ma non dobbiamo neanche dimenticare l'opera che svolgono i funzionari giuridici pedagogici e gli assistenti sociali, che sono il tramite tra i detenuti e la magistratura, soprattutto quella ovviamente deputata. Dobbiamo anche ricordare che una riflessione collettiva sull'esecuzione della pena è stata fatta con gli Stati Generali dell'esecuzione della pena, lo ha ricordato giustamente il Presidente delle Camere Penali, che è stata una riflessione che ha dato una serie di indicazioni su un tema sicuramente scontante e complesso, che andrebbe ripreso perché i fari, giustamente, ricordati dal Ministro e da tanti interventi che dobbiamo sempre tenere presenti sono da una parte le norme costituzionali, ma dall'altra anche, permettetemi, il monito del Presidente del Consiglio, il quale quando è andato alla visita del carcere ha detto che noi siamo qui a celebrare un fallimento collettivo. Quindi io vorrei, e chiudo l'intervento, che la materia così delicata delle carceri non fosse più affrontata come un qualcosa che oscilla. Io ho iniziato una legislatura dove c'era il problema di mettere le persone appunto a marcire in galera. Poi nel corso della legislatura è venuto fuori il problema degli agenti penitenziari, allora è oscillato tutto quanto da un'altra parte. Poi si è parlato del fatto che uscivano i mafiosi e si oscillava di qua, neanche tra garantismo e non garantismo, sull'onda di un'emotività che però non centrava i problemi. Questo è il dovere, secondo me, che noi abbiamo. E per centrare i problemi, siccome servono necessariamente le risorse, sappiamo anche che cosa dobbiamo fare per ottenere queste risorse. Ha chiesto di parlare il senatore Urraro, ne ha facoltà per cinque minuti. Grazie Presidente, Ministro e colleghi. È davvero un'occasione importante, seppur prendendo le mosse dai fatti tragici di Santa Maria Capoavetere, per un focus beneficiando anche della sensibilità da sempre dimostrata dal Ministro su questi temi. Santa Maria rappresenta la cifra estrema di quello che abbiamo visto tragicamente, di tutto quello che è stato rappresentato. Io parlo da Campano e da chi vive anche la vita nei penitenziari attraverso delle ispezioni che più volte abbiamo portato avanti. Parlo di Poggio Reale, parlo di Secondigliano, parlo degli istituti di pena minorile, di nisida, realtà con delle criticità dal punto di vista sociale, ambientale molto delicate e significative. Per cui oggi si parla di costituzione tradita, di responsabilità collettiva, di un sistema che va riformato. Ci attendiamo però che a questo punto e da questo momento in avanti, anche in vista della prospettiva europea, che alle parole seguono i fatti, perché il carcere e l'esecuzione penale nel suo complesso siano plasmate in una maniera efficace e definitiva verso un sistema rispettoso della dignità, dei diritti fondamentali e realmente teso alla risocializzazione del reo. Oltre a quanto immaginato dal Governo con il Piano Nazionale di Ripresa e con l'impiego delle risorse straordinarie europee sul versante strutturale del carcere, è giunto il momento di una riforma complessiva. Non si tratta di implementare soltanto nuove carceri, occorre con forza realizzare un carcere tra virgolette nuovo, cioè rinnovato quando ad assistenza, trattamento, produttività, formazione per renderlo finalmente conforme alla nostra Carta Costituzionale. Da sempre abbiamo visto già dai nostri padri costituenti, dal 1948 quando scrissero che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, una frase chiara che non si presta a pluralità di interpretazioni. Il sistema penitenziario è riuscito solo in poche occasioni a rispettare tali imperativi costituzionali e normativi e nonostante i tanti anni trascorsi i luoghi di detenzione hanno costituito sempre una spina nel fianco nel nostro Stato di diritto che nessuno è riuscito ad estirpare nonostante la sottoscrizione di trattati internazionali, raccomandazioni e condanne diverse provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Chiaramente alcune linee di intervento sono emerse, il Ministro ha parlato in maniera molto chiara di interventi sulle strutture, sul personale e sulla formazione. Penso anche a un nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario. Il regolamento penitenziario del 2000 andrebbe riscritto tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nel mondo esterno, della riforma dell'ordinamento penitenziario entrata in vigore nell'ottobre 2018, degli insegnamenti appresi dalla crisi sanitaria, della necessità di rendere il carcere un luogo responsabilizzante dove la vita scorra nel modo più simile possibile a quella esterna in vista di un ritorno in società delle persone detenute. Più risorse anche per le misure alternative per la giustizia di comunità, progetti educativi e sociali che riducano i rischi della devianza, trattamenti socioterapeutici esterni per chi ha problemi di dipendenza. Più risorse per modernizzare e migliorare la vita interna. Le ristrutturazioni sono necessità non più rinviabili, così come il potenziamento di strutture mediche ed infermieristiche. Più risorse da investire nel capitale umano. Gli educatori presenti sono il 18% in meno di quelli previsti. 733 risultano invece di 896. Questo vuol dire un educatore ogni 73 detenuti. Il trattamento economico a loro riservato è nettamente inferiore rispetto a quello degli agenti. I funzionari amministrativi sono il 21,6% in meno di quelli previsti. Ugualmente medici, infermieri e psicologi sono insufficienti al pari degli assistenti sociali. Con il recovery arriveranno in Italia oltre 200 miliardi di euro. Una parte andrà alla giustizia e al sistema penitenziario. È davvero un'occasione da non sprecare con una serie di interventi che analiticamente sono stati già rappresentati in sede di rappresentazione delle linee guida e delle linee programmatiche del Ministro in Commissione Giustizia e siamo certi che daremo seguito in questa fase così delicata in uno snudo essenziale per la vita del Paese. Si è così conclusa l'informativa ma prima di sospendere la seduta vorrei dare il benvenuto ad Elena Dora Tosato e fare le mie felicitazioni al mio papà senatore Paolo Tosato a nome di tutta l'Assemblea e a nome mio personale. Sospendo quindi la seduta che riprenderà le ore 16.30 con il seguito della discussione del decreto legge numero 73 in materia di imprese, lavoro, giovani e salute. La seduta è ripresa. Proseguiamo la discussione generale sul disegno di legge 23.20. È iscritto a parlare il senatore Zaffini che ha nove minuti. Caro Zaffini a lei la parola. La ringrazio Presidente. Colleghi, siamo in discussione sul cosiddetto decreto sostegni bis, un decreto che partiva nella prima stesura con circa 78 articoli, arriva in Aula del Senato con 160 articoli circa, un decreto che utilizza una cifra di circa 40 miliardi che poi è l'importo dell'ultimo scostamento, ultimo scostamento di una serie di scostamenti che ha incrementato cifra più cifra meno di circa 200 miliardi da montare del nostro stock di debito pubblico, un decreto che una specie di mostro, come ormai siamo abituati a dover vedere, valutare e considerare, è una specie di mostro normativo che spazia, una volta c'erano i mille proroghe, poi c'erano gli omnibus, poi c'era la finanziaria, adesso diciamo quello che prima era eccezione, come in tanti altri campi e atteggiamenti, quello che prima era eccezione, adesso è diventato sembra regola, un decreto che proroga, ripropone pezzi di decreti emergenziali della coppia Conte-Arcuri, tanto per confermare che in gran parte dei suoi provvedimenti concreti di questo governo, altro non fa che rimettere mano, diciamo, quasi sempre senza determinare grandi mutazioni su provvedimenti già adottati dal precedente governo Conte. Gli esempi non mancano, ad esempio, io colleghi, come sapete, cerco di occuparmi soprattutto di temi sanitari, in questo decreto ci sono molti articoli che trattano della materia sanità e in questo momento, peraltro, materia particolarmente sensibile rispetto alla vita quotidiana degli italiani. Bene, c'è una parte, il comma 2 dell'articolo 26, che rimette mano alla necessità di rendicontare circa le prestazioni in recupero di quella che viene definita la sanità sospesa, quella che è rimasta appesa in tempi di Covid, cioè circa 50 milioni più o meno di prestazioni tra diagnostica e trattamenti sanitari, rimasta in sospeso che le regioni debbono recuperare. Sono state destinate risorse con due successivi provvedimenti legislativi, praticamente fotocopia, e le nostre obiezioni rispetto a quei provvedimenti vengono prese per buone in questo provvedimento che proroga i termini per la rendicontazione. Noi dicevamo che era impossibile spendere quel danaro fin dall'inizio, dicevamo che era impossibile spendere quel danaro nei termini come erano stati posti, e infatti viene prorogato il termine per rendicontare per le regioni. Però non cambiano i criteri, colleghi. Viene solo prorogato il termine per rendicontare, ma non cambiano i criteri per l'utilizzo di queste risorse e soprattutto per il piano di riparto tra le regioni di queste risorse, che non tiene in alcun conto del grado di aggressività del virus nei confronti del loro rispettivo territorio. Mi spiego, vengono date maggiori risorse alla campagna rispetto alla Lombardia e con questo ho detto tutto. L'articolo 28 di questo decreto fa un'operazione che, colleghi, io richiamo tutti a capire, se qualcuno ce la sa, 500 milioni di euro vengono destinati a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento di beni pubblici globali in materia di salute e clima. E qui già serve il traduttore, no? Poi però spiega che per i profili inerenti al settore sanitario questo provvedimento fa riferimento alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta alle pandemie e al contrasto del covid-19. Ora, colleghi, io sfido chiunque di noi a saper decifrare in modo da poter votare con cognizione di causa il provvedimento. Io non so questi 500 milioni dove andranno a finire. Altro tema è quello che le regioni e le province possono accreditare istituti anche privati per il sequenziamento di nuova generazione, definito con un acronimo. Ora, noi abbiamo un problema serio di atavica incapacità di sequenziamento. Questa cosa è stata ammessa anche dai responsabili in audizione, in commissione, lo dissi in un precedente intervento. In questo momento il problema delle varianti si aggredisce che, a detta di tutti, da ultimo oggi sulla stampa illustri virologi ne fanno anche loro materia, si aggredisce facendo finalmente i tamponi che ancora non stiamo facendo, ma questa cosa la diciamo da ormai 15-18 mesi, ma soprattutto si aggrediscono tracciando e sequenziando. L'Italia non sequenzia e quindi benissimo di mettere a disposizione, di prevedere un provvedimento legislativo che aumenta la nostra capacità di sequenziare. Però il problema, colleghi, è che non è che serve chissà cosa per sequenziare. Bisogna spendere danaro, bisogna comprare i sequenziatori. Esistono sul mercato, vengono forniti da numerosi operatori e se noi riteniamo che un provvedimento che intende incrementare la nostra capacità di sequenziare è sufficiente investire 46 milioni per il 2021 e 23 milioni per il 2022, significa che siamo veramente molto ottimisti, al limite degli poveri illusi, come verremmo definiti, qualora qualcuno potesse giudicare correttamente questo stanziamento, perché è praticamente briciole per un problema veramente gigantesco e serio. C'è invece una cifra corposa che non è per nulla chiarita a disposizione del commissario, straordinario, 1.650 milioni di euro per il 2021, attenzione, quindi per lo scorcio di anno, 1.650 milioni di euro. Ora, colleghi, vedete, noi siamo in presenza di un problema serio, abbastanza originale, noi effettavamo quasi 500 mila dosi a due mesi fa circa, due mesi fa. Oggi, nei giorni scorsi, abbiamo somministrato 60-70 mila dosi. Questo è un problema serio, attiene anche alla gestione della struttura commissariale. Ecco, questa enorme cifra ci viene documentata? Come sarà utilizzata? Ci viene documentata? Temo che questa cosa rimane nell'immaginazione collettiva, insomma, noi non sappiamo che cosa accade in questo momento, quindi ci mancherebbe, nessuno di noi, se la sente, di criticare l'operato del generale, ma vorremmo capire perché abbiamo abbattuto così drasticamente la quantità di vaccini somministrati. E non è pensando di introdurre un obbligo sul rettizio al vaccino, quale quello del Green Pass, che noi possiamo pensare di risolvere questo enorme problema. Questo enorme problema lo dobbiamo affrontare con una campagna seria di informazione, coinvolgendo adeguatamente i medici di medicina generale, insomma, provvedimenti di sistema che hanno la capacità di misurare la loro efficacia. Quindi il nostro atteggiamento rispetto a questo decreto è quello della critica spinta nei confronti dell'ennesimo provvedimento che viene portato a scatola chiusa, senza possibilità di modificare nulla e senza possibilità di migliorare neanche le cose più palesemente sbagliate o inefficaci. E rispetto a tutto ciò, evidentemente, poi ci sarà chi farà le dichiarazioni di voto per il mio partito, ma rispetto a quello che ci riguarda, per quanto attiene alla vicenda sanitaria, per la parte che si occupa della vicenda sanitaria, il nostro giudizio è dichiaratamente negativo rispetto a questo provvedimento che non esercita, che non mette niente di nuovo rispetto a quello che già conoscevamo, che erano i provvedimenti vecchi della coppia Conte-Arcuri. Grazie, Zalfini, Lanzi è iscritto a parlare, prego. Senatore. Grazie, grazie Presidente. Il decreto sostegni bis che convertiremo definitivamente in legge vale persino più di una legge di bilancio se andiamo a guardare i numeri. Si tratta di un provvedimento imponente nato con l'interno prioritario di puntellare il tessuto economico e sociale del nostro Paese, fortemente fiaccato da questo ormai anno e mezzo di pandemia. Attenzione, se questo Governo in questa fase riesce a finalizzare misure di tale portata, è anche grazie al grande lavoro che è stato fatto a partire dal febbraio del 2020. Quello del sostegno bis è solo un capitolo della saga dal Curitalia al decreto liquidità, dal decreto rilancio al decreto agosto, passando per tutti i vari decreti di storia. E il solco su cui poggia il puntellamento del nostro sistema economico è stato tracciato da un signore di nome Giuseppe Conte, a cui deve andare il nostro più sentito ringraziamento per come ha saputo imbastire questo immane lavoro nell'ora più buia per il nostro amato Paese. Quindi chiariamo subito che se oggi riusciamo ad ottenere molto per le nostre imprese, per le nostre famiglie, per il nostro sistema sanitario e anche grazie a quanto di buono è stato seminato durante il 2020. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Il decreto sostegno bis punta a dare una spinta alle attività produttive del nostro Paese. Sono quasi 15,5 miliardi destinati a fondo perduto alle piccole e medie imprese, ai commercianti, agli artigiani, agli operatori turistici, agli agricoltori e a tantissimi altri compatti produttivi. La novità principale è che di questi 15,4 miliardi, oltre tre sono dedicate alle imprese che decidono di calcolare la loro perdita di fatturato dall'aprile 2020 invece che da gennaio. Altri 4 miliardi invece verranno erogati sulla base del risultato di esercizio, tenendo conto dunque dei bilanci consuntivi e non del fatturato. Dopo aver superato i codici ATECO, strumento che purtroppo si è reso necessario ma che non ha contribuito a semplificare la vita degli italiani, abbiamo raddrizzato lo scenario anche sul fronte del fatturato, grazie al grande lavoro fatto dal Movimento 5 Stelle durante l'interparlamentare del provvedimento. Poi siamo riusciti a prorogare per altri cinque mesi il credito d'imposta per gli affitti a uso commerciale per quelle attività che hanno visto andare in fumo oltre il 30% del proprio fatturato. Abbiamo prolungato ulteriormente anche lo sconto sulle bollette energetiche per le nostre imprese e finanziato con 600 milioni di euro per l'anno 2021 una riduzione dell'Atari da parte dei comuni in favore delle categorie colpite dalle chiusure. Per il settore sportivo è prevista la riproposizione per tutto il 2021 del credito d'imposta al 50% sugli investimenti pubblicitari delle realtà sportive che investono nei settori giovanili, come già precedentemente previsto per quelli effettuati nel secondo semestre del 2020. In più si è incrementato poi con ulteriori 180 milioni per tutto il 2021 il fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. In questo decreto mettiamo un'argine anche all'emorragia di giro d'affari dei settori cruciali come quelli del tessile, della moda e del wedding. C'è la proroga per tutto il 2021 del credito d'imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino per le imprese del tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Ci sono poi 120 milioni per l'anno 2021, il fondo per il sostegno delle attività particolarmente colpite dall'emergenza come gli eventi catering, i parchi tematici e acquari, i parchi geologici e i giardini zoologici, wedding, attività commerciali o della ristorazione operanti nei centri storici. Ed eccoci al settore più colpito in assoluto, vale a dire quello del turismo per il quale viene incrementato di 150 milioni il fondo per il sostegno del settore, in particolare agenzia di viaggio e tour o petro. C'è poi un altro fondo da 50 milioni per l'anno 2021 per erogare contributi in favore di iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici dei comuni in cui sono ubicati siti riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Abbiamo infine voluto prolungare anche il credito d'imposta del 65% per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Infine, Presidente, mi faccio esprimere la soddisfazione per l'accordo raggiunto sul fronte delle compensazioni per quelle imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche che si trovano a dover combattere con oscillazioni folli dei prezzi dei materiali. La pandemia, tra le tante cagure, ci ha portato in dote anche rincari indiscriminati di tantissime materie prime e per questo aspetto ci sta rivelando una vera e propria zavorra per moltissimi segmenti produttivi. Dopo aver fatto questo spazio in mane per dare precise garanzie a chi opera nel settore delle grandi infrastrutture, è necessario individuare prima possibile anche strumenti per aiutare altri settori, anche all'interno dell'edilizia stessa. Un anno fa, quando il sottosegretario Fraccaro iniziò a ipotizzare l'idea di un super bonus al 110% per la riqualificazione energetica e il miglioramento antisismico degli edifici privati, alcuni in questo emiciclo si presero per pazzi visionari. Ora invece tutte le forze politiche sono ben consapevoli di quanto quel meccanismo fiscale sia una locomotiva cruciale per la ripartenza della nostra economia e in particolare del settore dell'edilizia. Una misura che dà concretezza a un termine quello della transizione ecologica, sul quale per ora questa maggioranza si è potuto produrre soltanto tante chiacchiere e pochissimi contenuti. Infine mi preme sottolineare un comportamento davvero disdicevole, ma che non può essere sottaciuto in alcun modo. Mentre nelle commissioni e nelle aule parlamentari ci sforziamo a dare il massimo per formulare e migliorare decreti colossali come quello oggi al voto, fuori c'è gente che si attiva per abolire il reddito di cittadinanza. E questo non per reale convinzione politica. I signori che blatterano certe fesserie, canoneggiando il reddito di cittadinanza, non lo fanno certo per ideologia o perché hanno un'alternativa. Lo fanno solo per andare contro il Movimento 5 Stelle e per interessi piccoli, piccoli di consenso e di bottega. A questi signori non importa nulla se i precettori del reddito di cittadinanza nei mesi più difficili della storia repubblicana siano riusciti a mettere in fila di pranzo con la cena. A questi signori non importa nulla se il nostro paese ha uno dei tassi di proprietà più alti dell'Unione Europea. Unione nella quale tutti i paesi o quasi hanno meccanismi simili di politica di sostegno al reddito, a dimostrazione che certi partiti qua dentro guardano l'Europa soltanto quanto fa loro comodo. Ecco, una volta per tutte, il reddito di cittadinanza non è assistenzialismo, è dignità. Quella dignità che chi chiede di abolirlo dimostra di non avere. Non dedico che poche righe a chi obietta che vi sono dei precettori abusivi che non ne hanno diritto. Bene, quando scoperti la legge fra il soccorso, pensate che tutte le pensioni di invalidità siano dovute o che qualcuno sotto un aspi non sia scorretto, vanno incentivati i controlli e puniti i comportamenti legali. Ma non per questo si può mettere in discussione questo prevedimento. Lo ha pensato il Movimento 5 Stelle e per questo deve essere demolito. Ma basta, basta. La Meloni, senza vergogna, lo definisce metadone per tossici. Ma si possono sentire le dichiarazioni di questo tenore? No, non si possono sentire. Ma ringraziate che la vita non vi ha posto in situazioni di difficoltà. Chiudo, signor Presidente, dicendo che portiamo a casa questo decreto che tocca milioni di italiani in diverso modo. Imprenditori, insegnanti, medici, infermieri, negozianti, piccoli e grandi imprenditori, ristoratori, proprietari di palestre e tanti altri ancora. Smettiamola una volta per tutte di prendercela con chi non ha nulla e la notte perde il sonno nel pensare come arrivare a fine mese. Sarebbe un atto di maturità per tutti e qui l'età della maturità ce l'abbiamo davvero tutti. Grazie. Allora, sarebbe da fare una piccola modifica perché una collega non può raggiungerci, quindi se è d'accordo chiederei alla senatrice Paola Boldrini se è pronta per parlare immediatamente. Certo. Allora, se è d'accordo grazie. Prego senatrice Boldrini. Grazie Presidente. Gentili colleghi, rappresentanti del Governo, questo decreto che va nel solco di quelli precedenti va nel segno della concretezza delle azioni da parte del Governo che con approfondimenti e integrazioni fatte dal Parlamento, devo dirlo però in particolare alla Camera perché noi qui ora stiamo solamente, diciamo, ratificando, ma che ha visto appunto importanti aggiornamenti su questo decreto. Ci ha visti anche però collaborare, lo abbiamo imparato a collaborare con i nostri colleghi deputati in modo tale da portare a casa comunque dei risultati importanti. Di fronte alla profonda crisi economica dovuta in maniera inscindibile dalla pandemia e della quale proprio in questi giorni vediamo ancora degli esiti che ci fanno preoccupare, vediamo purtroppo l'incentivarsi dei contagi, vediamo purtroppo che ci sono dei ricoveri e questo ci preoccupa moltissimo, ma ci preoccupa moltissimo e qui lo devo dire, determinate esternazioni di parlamentari che ci dicono che non è necessario vaccinare le persone, allora stiamo andando controcorrente. Il Governo Draghi dice ci dobbiamo vaccinare, il Generale Figliuolo dice ci dobbiamo vaccinare e qualcuno dice no, è lo stesso se non ci vacciniamo tanto possiamo fare perché lo fanno gli altri. Non va così, non va così perché dobbiamo tendere tutti dalla nostra parte. Scusate ma sono in aula parlamentare e questo mi sento di dirlo ai nostri cittadini che invece vanno continuamente a vaccinarsi. Quindi gli esiti di questi giorni ci fanno preoccupare ovviamente perché se torniamo indietro si riapre tutto, invece stiamo facendo dei provvedimenti che cercano di aiutare le persone. Il Governo ha messo in atto ulteriori formi a disposizione per quelle categorie ancora più svantaggiate perché vi dovrei fare l'elenco di tutto quello e di tutti i provvedimenti che sono stati valutati ma mi riservo di dire quelle categorie veramente le più svantaggiate. Parlo per esempio delle partite IVA, chi di voi non conosce una persona che è a partita IVA e che in questo periodo purtroppo ha avuto dei grossi problemi. Ma riferisco anche, e lo ha anticipato il collega Lanzi prima, ma io mi aggiungo anche il reddito di emergenza. Con tutte le critiche abbiamo comunque salvato delle persone, abbiamo salvato comunque delle famiglie che hanno sofferto tantissimo e delle famiglie che hanno bisogno, hanno bisogno di essere aiutati nella loro sofferenza che non è solo economica perché quando manca un sostegno economico spesso lascia il passo alla sofferenza psichica e di questo mi voglio soffermare perché abbiamo lavorato molto sia nel precedente sostegni ma anche attraverso sostegni bis anche con Ordini del Giorno dove abbiamo messo l'attenzione davvero sul bisogno psicologico delle persone ed è qui che vorrei soffermarmi in particolar modo perché la battaglia che abbiamo fatto come PD, come la nostra capogruppo Simone Labvesti che ha voluto proprio questo Ordine del Giorno e che si è tramutato in un emendamento importante alla Camera, abbiamo messo a disposizione dei fondi proprio per sostenere il sostegno psicologico per i figli, adolescenti, per le famiglie che hanno bisogno appunto di essere supportati in questo periodo terribile. Sono stati messi a disposizione per assumere nel sistema sanitario nazionale psicologi e assicurare prestazioni psicologiche anche domiciliari a cittadini minori e gli operatori sanitari che ne hanno bisogno anche loro e garantire finalmente ILEA perché c'è bisogno sì di diritti civili ma abbiamo anche bisogno di diritti sociali e questo è un diritto sociale allo star bene. Quindi noi abbiamo bisogno perché vi saprò dire che la resilienza di cui tanto ci riempiamo la bocca si costruisce e si costruisce insieme ai professionisti che ci danno la guida per poterlo fare. Quindi questi diretti devono essere garantiti. Inoltre un altro pezzo importante che abbiamo visto in questo decreto sostegno è quello di avere aggiunto ulteriori fondi per i servizi territoriali ospedalieri di neuropsichiatria infantile. Anche su questo devo dire pre-covid avevamo grossi problemi però intanto anche qui piccole azioni di concretezza. Non meno l'importanza del supporto alle persone più fragili come ad esempio i pazienti affetti da patologie oncologiche. Anche su questo noi abbiamo fatto una grande battaglia anche con mozioni andando a rivedere anche quel nuovo piano oncologico dove davvero ci sono delle azioni che devono essere a supporto di queste persone. Anche su questo abbiamo ottenuto qualcosa. Il totale di tutti questi provvedimenti e emendamenti importanti sono 38 milioni. È un inizio. È un inizio ma è una concretezza. Dove però sta la critica e di conseguenza l'auspicio? È anche una richiesta. Questi provvedimenti hanno un termine che è il 31 12 2021. Ecco allora la richiesta è che si trovino fin dai prossimi provvedimenti al fine di strutturare questi questi professionisti perché i problemi di salute e benessere purtroppo non avranno una scadenza. Ahimè magari fosse una scadenza così ravvicinata. Credo che non sarà così perché se penso solo e colleghi lo sappiamo molto bene a cosa dovremo affrontare con le perdite di lavoro che ci saranno prossimamente. Io mi auguro che il governo saprà affrontare. Lo abbiamo fatto con la programmazione dei licenziamenti più avanti con le proroghe. Però è un tema che noi dobbiamo affrontare perché noi abbiamo bisogno di sostenere i nostri cittadini. Perché anche i fondi della ricerca sono importanti e qui una chiosa. I fondi della ricerca devono prevedere anche investimenti perché se penso ai farmaci innovativi non possono essere considerati un costo, non possono essere considerati spesa corrente. Se noi pensiamo di guarire perché farmaci innovativi significa guarire delle persone nel tempo noi dobbiamo pensare un ritorno delle economie che si verranno fatte perché le persone se guariscono grazie a loro non abbiamo più bisogno di investire ulteriormente dei fondi. Quindi anche dal punto di vista del bilancio e c'è la nostra sociosegretaria appunto al MEF chiedo che si vedano anche queste nuove metodi per considerare i fondi che mettiamo a disposizione soprattutto anche per i nuovi farmaci. Poi altri investimenti importanti sono stati fatti per esempio gli sgravi fiscali per quanto riguarda la produzione di farmaci ma anche di vaccini. E qui devo dire che la pandemia qualcosa ci ha insegnato. Finalmente dobbiamo anche essere autonomi nella produzione di farmaci in modo tale di non correre sempre ripari dagli altri. Un altro tema che qui vede davvero la collaborazione con i miei colleghi della commissione e soprattutto i miei colleghi del PD della commissione alla camera. Finalmente abbiamo visto dopo tanto tempo, ci avevamo provato già due o tre volte, un emendamento approvato che vede, devo dire anche insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle perché è una battaglia che abbiamo fatto tutti insieme e lo dico per onestà intellettuale. Finalmente ruolo socio-sanitario per i profili professionali di assistenza sociale, sociologo e operatore socio-sanitari. Finalmente siamo riusciti a dare anche a queste persone il loro ruolo che era già definito dalla legge 3 del 2018 ma ancora era rimasta sulla carta. Ebbene questo emendamento che mi ha vista partecipe con la prima firma già nei precedenti provvedimenti non era mai riuscito purtroppo per motivi di inammissibilità arrivare a buon fine. Alla camera c'è riuscito, ora io mi auguro che questo sia definitivo. Abbiamo avuto l'appello di tantissimi operatori socio-sanitari affinché questo emendamento arrivasse alla fine del suo processo. Io credo che oggi potremmo dire che siamo certi che questa cosa sia avvenuta e quindi ce ne facciamo carico. In più un'altra cosa importante che vorrei aggiungere è che la reorganizzazione del nostro sistema sanitario, vedete colleghi, noi possiamo comprare tutte le attrezzature più importanti, possiamo avere gli ospedali migliori ma se noi non rafforziamo il nostro personale, i professionisti, se non gli diamo le competenze, non gli diamo anche le motivazioni per andare avanti come il riconoscimento di questo ruolo, io credo che non faremo un grande lavoro. Io penso che la sanità abbia bisogno di strumenti, abbia bisogno di tecnologia ma abbia bisogno soprattutto del fattore umano ed è quello del quale noi ci dobbiamo occupare perché saranno loro che ci acudiranno quando noi ne avremo necessità. Quindi, signor Presidente, io credo che questo provvedimento abbia messo qualche punto basilare. Ovviamente dobbiamo lavorare affinché nei prossimi cerchiamo di mantenere queste concretezze che pian piano abbiamo messo in questo provvedimento. Grazie, Presidente. Grazie a lei, Senatrice Paola Boldrini. E la Senatrice Bianca Laura Granato è invitata a intervenire, prego. Sì, grazie Presidente. Intervengo qui in aula per questo decreto sostegni bis, soprattutto per la parte che riguarda l'istruzione, perché mi pare che sul resto sia stato detto più o meno molto. Certo, ci sono diverse criticità che riguardano lo sblocco dei licenziamenti, per esempio che purtroppo sta mettendo in grave crisi migliaia di lavoratori ed è una cosa estremamente grave. Però anche sulla scuola non si è perso tempo e quindi si sono compiute le solite schifezze, così come dico io. Purtroppo mi si consenta di nuovo, sono state create procedure di reclutamento per docenti differenziate, quando si sarebbe potuto tranquillamente dare la parola anche a tutti coloro che avrebbero dovuto affrontare il concorso ordinario. Sono tre anni ormai che i aspiranti docenti aspettano il concorso ordinario. È dal 2018 che ci stiamo lavorando, ma purtroppo le forze politiche sul concorso ordinario, laddove praticamente procedure selettive possono riguardare tutti e sono quelle previste dalla Costituzione, le forze politiche non trovano la quadra perché ognuno deve accontentare chiaramente qualcuno che gli interessa o qualche categoria che gli interessa. Così facciamo veramente il male della scuola, ma lo testimoniano anche i dati dell'invalsila, dove si richiede formazione ai docenti, formazione strutturale obbligatoria nella legge 107. Però poi invece per i requisiti di accesso si creano corsie preferenziali, creando dei percorsi non selettivi di reclutamento per alcuni, svantaggiando altri, svantaggiando tutti quelli che invece avrebbero potuto e hanno presentato già la domanda, hanno anche pagato la quota di iscrizione al concorso. Tutte quelle procedure ordinarie sono sospese sine die, non si sa quando verranno riprese, mentre vengono varate quelle straordinarie che si sovrappongono ad altre che si sono appena concluse. Quindi ancora più posti andranno ai cosiddetti precari, tra cui anche molti che purtroppo non sono neanche abilitati. Anche per quelli è stata attivata un'ulteriore procedura differenziata dalle altre. Quindi io mi domando se poi tutti dovranno essere docenti, tutti dovranno sedere in cattedra, tutti avranno lo stesso stipendio, per quale motivo si creano percorsi differenziati quando i requisiti poi per insegnare devono essere gli stessi per tutti. E quindi perché si vuole continuamente non solo insidiare il dettato costituzionale, ma anche creare chiaramente delle situazioni in ingresso che poi pregiudicano anche la qualità della formazione dei nostri studenti, che è quella alla quale noi dovremmo guardare prioritariamente. E invece purtroppo non lo facciamo, perché su quello non c'è alcun impegno, se non solamente nominale. Basta pensare al piano estate, che praticamente si basa soltanto su attività ludico-ricreative e di supporto e sostegno psicologico, mentre nulla si fa per i gap formativi. E la scuola sappiamo che è l'organo, l'azienda, l'agenzia, scusa, scusi perché purtroppo ormai la scuola è stata aziendalizzata contro chiaramente il nostro volere, la nostra volontà. Però la scuola è l'agenzia formativa, appunto, che chiaramente è deputata a creare e a formare cittadini liberi, consapevoli, con coscienza critica. Invece purtroppo i dati invalsi ci restituiscono un quadro totalmente diverso e se ce lo restituiscono invece di porci delle domande necessarie per un ripensamento del nostro sistema di istruzione in una direzione ben diversa e contraria rispetto a quella in cui stiamo andando, purtroppo noi non avremo altro che pessimi risultati. Altra cosa che chiaramente è andata, non è stata nemmeno fatta bene, è che questi docenti che poi verranno avviati verso dei percorsi di reclutamento non selettivi verranno presi dalle graduatorie per le supplenze e che non sono fatte appunto per dei percorsi di reclutamento. Nel momento in cui i docenti verranno avviati nei percorsi di reclutamento poi dovranno rimanere nelle regioni dove hanno fatto richiesta per tre anni perché avranno il blocco della mobilità. Anche questa è una cosa che non condividiamo affatto. Poi ci sono stati dei miglioramenti rispetto al testo per come era stato varato dal Consiglio dei Ministri. Finalmente abbiamo visto che è stato ripristinato il regolamento per il concorso per dirigenti tecnici ma ci auguriamo anche che venga bandito immediatamente perché ci sono soltanto 35 ispettori scolastici, dirigenti tecnici in tutta Italia e non si può continuare così perché le scuole sono in balia di se stesse, di abusi di tutti i tipi che restano totalmente non ignorati dall'amministrazione centrale. Per quanto invece attiene alle scuole paritarie non ci sta bene il finanziamento dei 60 milioni alle scuole paritarie perché sappiamo che le scuole paritarie dovrebbero vivere con i loro soldi. Tuttavia l'unica cosa positiva è che quantomeno almeno per questi soldi c'è stata, è passato un emendamento che abbiamo presentato, abbiamo fatto presentare i colleghi della Camera grazie al quale quantomeno per l'accesso a questi finanziamenti le scuole dovranno esibire, dovranno rendere pubblici bilanci e gli organici, cosa che almeno speriamo che eviterà che questi soldi vadano anche ai tanti diplomifici che ci sono in tutta Italia. Ma questo dovrebbe valere per la parità scolastica, cioè la parità scolastica dovrebbe essere concessa solo a determinate condizioni, cioè a condizione che questi istituti abbiano bilanci pubblici e trasparenti, organici pubblici e trasparenti. Solo così si può accettare che delle scuole che sono private possano essere equiparate a quelle dello Stato, così come i titoli di studio. Insomma ci sono tante cose che ancora purtroppo nel nostro sistema di istruzione non vanno, nel sostegno di bis, sono state aggiunte ulteriori criticità ed è per questo che noi voteremo contro questo provvedimento. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare Roberta Toffanin. Prego senatrice. Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghi, governo, nell'affrontare le risposte all'emergenza e alla ripresa del Paese, questo governo ha evidentemente segnato un coraggioso cambio di passo rispetto al precedente. Secondo noi il governo Draghi sta lavorando bene malgrado quello che è stato fatto dal governo Conte, molto diversa la nostra visione. Eravamo abituati al ristori 1, 2, 3, 4, tante misure raffazzonate e confuse l'una sull'altra senza un disegno organico, senza un ordine di reale priorità, svilendo l'efficacia delle comunque tante risorse messe a disposizione, anzi troppo spesso sprecate dal governo Conte. Ora invece al sostegno 1 ha fatto seguito il sostegno 2, la cui organicità al primo è data dalle misure inserite nel decreto, anche dando seguito agli ordini del giorno che proprio in quest'Aula erano stati votati come impegno preciso al governo per il sostegno 2. Come relatrice di maggioranza sostegno 1 esprimo soddisfazione perché il lavoro del Senato non si è esaurito con il primo provvedimento ma è continuato anche in questo decreto. Nonostante la seconda lettura in Senato abbia trovato tempi molto compressi e l'impossibilità di qualsiasi modifica, questo ramo del Parlamento si è comunque potuto esprimere attraverso ordini del giorno impegnativi ed è stato preso in considerazione dall'esecutivo. Ogni ordine del giorno si è trasformato in norma e lo stesso auspichiamo possa avvenire per quelli odierni. Fondamentali pertanto le risposte date per la copertura dei costi fissi su cui ci eravamo molto impegnati per le attività che hanno subito chiusura e che vanno a completare appunto le misure adottate nel sostegno 1 come il credito di imposta per i canoni di locazione, l'esenzione della Tari, ulteriori fondi per il pagamento delle bollette dell'energia elettrica e fondi a sostegno delle attività e dei settori maggiormente penalizzati dalla crisi. Così come ci eravamo impegnati per ulteriori indennità per i lavoratori stagionali e dello sport, per la moratorio sui prestiti fino al 31 dicembre 2021, per la proroga e la rimodulazione degli strumenti di garanzia. Sia attraverso i contributi a fondo perduto, sia attraverso l'accesso al credito non si deve lasciare indietro nessuno. Pena la messa in discussione di un sistema di indotto su cui poggia in modo particolare il nostro Paese. Ad esempio pensiamo ad un settore fortemente penalizzato dalla crisi e che rappresenta un'importante componente del nostro PIL, ovvero il turismo. Non dobbiamo dimenticare che questo costituisce in maniera diretta il 6% del PIL, ma arriva al 13%, quindi più del doppio, grazie a tutto l'indotto ad esso collegato. Togliere un tassello del nostro tessuto produttivo rischia di far crollare gran parte del sistema. In questo momento storico gli equilibri sono molto precari. Alla crisi dettata dalla pandemia e dalle conseguenti chiusure si aggiunge ora la mancanza delle materie prime e l'aumento incontrollato dei costi delle stesse, che stanno creando maggiore difficoltà alle imprese ma anche ai sindaci. Pensiamo alle opere pubbliche e penso all'edilizia scolastica ed è per questo che abbiamo presentato un ordine del giorno ad hoc. Pensiamo al settore dell'automotive. Stanno impattando ora sui ricavi, sui volume e l'interruzione della produzione proprio a causa della mancanza di cip e di materie prime. E questo tra l'altro è uno di quei settori a cui la Commissione europea chiede una riconversione per eliminare le emissioni di CO2 entro il 2035 e quindi bene allora lo stanziamento di 350 milioni a sostegno del settore con 15 milioni di risorse dedicate all'acquisto dei veicoli elettrici e quindi un prolungamento dell'eco bonus. Siamo in una fase cruciale in cui oltre alle misure emergenziali si deve andare oltre per garantire stabilità a tutti i settori in previsione anche della transizione. Transizione che deve avere tempi adeguati e garantire contemporaneamente sostenibilità economica e sociale. E questo Governo ha dato prova di saper rispondere senza rincorrere solo il virus alle esigenze del Paese. Sono mesi e mesi che Forza Italia sostiene la necessità di una maggiore flessibilità nel mondo del lavoro. Finalmente con il decreto sostegni bis si è messo in discussione in maniera strutturale il decreto dignità, aprendo appunto ai tempi determinati, almeno fino alla conclusione del 2022, benché attraverso la contrattazione collettiva. Servono infatti maggiori opportunità che sono date anche attraverso la flessibilità e soprattutto potenziando e riorganizzando la formazione. Il processo di cambiamento lo richiede e in questo senso il PNR diventa uno strumento di primaria importanza. L'occupazione va garantita attraverso la formazione, il sostegno al sistema impresa, gli investimenti, regole certe, le riforme. Il blocco dei licenziamenti è stato utile per garantire la coesione del sistema sociale nei momenti più cruciali di questa pandemia. Tenere però la linea esclusivamente in questa direzione non avrebbe che incancrenito il problema. Le aziende che irresponsabilmente hanno licenziato circa 570 lavoratori senza sé e senza ma, senza nemmeno consentire di usufruire degli ammortizzatori sociali e di concordare un tavolo con i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali, non incarnano i valori etici e morali della stragrande maggioranza dei nostri imprenditori. Bisogna intervenire e non c'è più tempo da perdere per evitare le delocalizzazioni di massa. Che ricordo avrebbero dovuto essere fermate sempre con lo stesso decreto dignità? Tra gli obiettivi originari del decreto appunto uno era quello di abolire il precariato, l'altro di penalizzare le aziende che avessero delocalizzato. Invece ricordo che pur a fronte di un aumento dei contratti a tempo indeterminato nel 2019 rispetto al 2018, l'osservatorio sul precariato dell'Inps ha rilevato una diminuzione dei posti di lavoro. 876.000 2018, 842.000 2019. Quindi è evidente che pur a fronte di una diminuzione del precariato è aumentata la disoccupazione. E non è trattenendo le imprese all'interno dei confini nazionali con gravosi meccanismi sanzionatori che si mantengono i posti di lavoro o se ne producono dei nuovi. L'abbiamo purtroppo visto e l'avevamo previsto. I tavoli di crisi sono fermi al 2018. Troppo e male si è impegnato per il reddito di cittadinanza e troppo poco per le imprese. Diceva l'economista Keynes, se l'impresa è sveglia la ricchezza si accumula, non importa quel che faccia risparmio. Se l'impresa dorme la ricchezza decade, quel che sia la sorte del risparmio. Ora si apre uno scenario in cui si deve avere il coraggio di cambiare, di modificare quello che non va bene, di abbandonare le proprie ideologie e di remare tutti insieme verso il 2026, il 2027, il 2035, il 2050. La transizione energetica avrà sicuramente bisogno di più tempo per concludere il processo rispetto a quanto previsto dall'Unione Europea. Ma queste date segnano obiettivi di grande respiro per il nostro Paese, per stare al passo e non solo perché lo richiede l'Europa, ma perché ce lo chiede il nostro sistema Paese. Grazie. Grazie senatrice. È arrivata la senatrice Santa Anchea, a cui do la parola. Grazie Presidenti, onorevoli colleghi. Ancora una volta ci dobbiamo, purtroppo, e ci ritroviamo a dover contestare il modus operandi di questo Governo, che non si distacca dai precedenti governi, perché il metodo è sempre lo stesso, andare avanti a colpi di fiducia. Noi, di Fratelli d'Italia, questo metodo non potrà mai andarci bene. Fatevene una ragione. Pensiamo anche che ormai non siamo più in un bicameralismo perfetto, ma lo chiamerei un monocameralismo a fase alterne. Una volta fate discutere alla Camera, un'altra volta fate discutere al Senato. Insomma, anche nelle istituzioni si fanno i turni, a causa, purtroppo, del protagonismo di questo Governo, che si dimentica, e questo lo chiedo ai Cinque Stelle, che per me erano quelli degli streaming, quelli della trasparenza, quelli che volevano aprire questo Parlamento come una scatoletta di tonno, ma vi siete dimenticati anche voi che nel Parlamento siedono i rappresentanti degli italiani. Il problema è che voi mettete la fiducia perché avete una maggioranza che è unita solo da due questioni, la voglia di poltrone e di potere, perché su tutto il resto è divisa. Lo vediamo anche in questo sostegno bis, dove sono stati oltre 4.000 gli emendamenti e la maggioranza di questi emendamenti era fatto dalla maggioranza. E allora mi verrebbe da dirvi, fatevi una domanda e datevi delle risposte. Noi oggi non dobbiamo fare altro che prendere atto, perché ci arriva così, blindato, questo DL e il sostegno bis, come arriva dalla Camera, non possiamo proporre nessuna modifica. E ricordo che questa è come una manovra finanziaria, colleghi, perché ha un valore di 40 miliardi di soldi degli italiani e quindi per noi è assolutamente ingiusto che non ci sia un dibattito, perché sono 40 miliardi di debiti che peseranno e graveranno sui nostri figli. Ma ormai intanto questo atteggiamento continua a ripetersi da molto tempo. Io però lo faccio un appello alla Presidente del Senato, perché credo che la Presidente del Senato dovrebbe attivarsi perché sia ripristinata la piena agibilità democratica, perché non mi sembra che siamo in queste condizioni. Ma entrando nel merito, io dico che questo sostegno bis è un testo che manca di ciò che avremo bisogno, cioè di visione, di rilancio dell'economia e di prevenzione alla lotta al coronavirus. Ma di questo non c'è niente. D'altra parte, cosa ci possiamo aspettare da una maggioranza che litiga assolutamente su tutto, da una maggioranza che in queste ore parla di Green Pass obbligatorie per andare allo stadio e forse anche per prendere il caffè. Ma vorrei farvi una domanda. Vorrei sapere se anche gli immigrati che arrivano irregolarmente sulle nostre coste dovranno essere dotati di Green Pass o il vostro accanimento terapeutico e solo ed esclusivamente sugli italiani, sui lavoratori, sugli imprenditori, sulle aziende. Per gli altri il problema non c'è. Anche in questo sostegno bis voi fate questo. Anziché aiutare le imprese e i lavoratori, aiutate altri. Complimenti. Aiutate e portate avanti ancora questo reddito di cittadinanza, che sono soldi che certamente non sono serviti per i fini con i quali voi avete venduto. Non sono serviti per la povertà perché sta aumentando e non lo diciamo noi, lo dice la Caritas, lo dicono istituti importanti. Quindi non ha risolto la povertà e in più non ha manco quello che voi avete venduto col vostro ministro Di Maio essere uno strumento sulle politiche attive di lavoro. Grazie a Dio avete abolito il cash back. Grazie a Dio. Ma vedete, io credo che una verità c'è, che per fortuna gli italiani non vi credono più. E quando arriverà, perché prima o poi arriverà, nonostante le pandemie e governi fatti a tavolino, ma arriverà prima o poi il momento che si andrà al voto e arriverà allora sì il giudizio degli italiani, che sarà commisurato al vostro fallimento nella gestione disastrosa sia di questa pandemia nella vita quotidiana, ma sia del nostro sistema economico. Io capisco che anche adesso voi cercate forse di rendere obbligatorio il vaccino, perché voi siete così, tutto obbligatorio, delle regole contro gli imprenditori, contro le imprese. E guardate che vi parla una, che ho fatto due dosi del vaccino e sono andato un secondo dopo quando era il mio turno. Per cui io dico sempre che il vaccino è uno strumento importante, ma non dovrebbe essere l'unico. Allora, quando io dico che questo governo e questa maggioranza viva la giornata, perché non avete un orizzonto futuro, e quindi lo dico a ragion veduta. Ma voi pensate veramente che tutti i problemi della nostra nazione si possono risolvere attraverso la decretazione di urgenza? No, signori, non è questo il modo. Io credo che c'è un'urgenza in questo Paese, ed è mandarvi a casa il più presto possibile, perché fate tante chiacchiere, pochi fatti e siete anche degli ipocriti. Vi dite preoccupati per la fine del blocco dei licenziamenti, però poi bocciate le proposte di Fratelli d'Italia per dimezzare il costo del lavoro. Vi erergete, abbiamo visto in questi giorni, a paladini dei diritti LGBT e poi siglate accordi commerciali in quei Paesi dove l'omosessualità è un relato, punito addirittura anche con la peda di morte. Lasciate che gli italiani si assemblino ovunque, nelle strade, nei gay pride, nei rave party, ma vi ostinate ancora a tenere chiuse le discoteche. ripetete di essere aperti al confronto con le opposizioni, chi di voi va in televisione, voi siete per il dialogo, voi siete aperti con le opposizioni, ma poi nella realtà bocciate in maniera sistematica tutte le proposte di buonsenso che fa Fratelli d'Italia. Vi nominate democratici ma poi bloccate il Parlamento, imbrigliando il dibattito e l'unica cosa che vi viene benissimo, lo dico al Governo, continuare sul voto di fiducia. Complimenti per il vostro sesto voto di fiducia. Grazie Presidente. Grazie Senatrice Garnero-Sandanchè. Roberta Ferrero, Senatrice, ha sei minuti soltanto. Prego. Grazie Presidente, cercherò di dire tutto. Governo, colleghi, ieri abbiamo discusso ampiamente del PDL ZAN e peraltro l'ampia discussione non è ancora conclusa. Ieri nel mio intervento vi ho parlato di priorità, priorità per il nostro Paese. Ecco, quello che andiamo a discutere oggi, molto velocemente, peraltro con tempi ridotti dall'imminente scadenza, è nella mia scala di priorità una priorità. In Senato c'eravamo occupati del primo sostegno in cui avevamo dato inizio, a una nuova stagione di aiuti alle imprese, famiglie, partite IVA e alla ripresa dell'economia dopo le chiusure forzate dovute alla crisi sanitaria. Il primo sostegno si basava su uno scostamento approvato ancora col vecchio Governo di 30 miliardi, ritenuti da noi tutti colleghi insufficienti, tant'è vero che molte erano rimaste le questioni irrisolte, messe in evidenza da un bell'ordine del giorno concordato tra noi senatori e firmati dai capigruppo di maggioranza. Quell'ordine del giorno, approvato, vi ricordate bene, a inizio maggio 2021, ha trovato la sua realizzazione, ed è cosa rara che un ordine del giorno abbia poi una sua realizzazione nel testo base del sostegno IBIS. Quindi possiamo, colleghi, comunque ritenerci soddisfatti nell'aver svolto un buon lavoro preparatorio. Oggi però ci troviamo ad esaminare velocemente questo testo che è stato lavorato ed implementato invece dai colleghi della Camera. La Lega, quando si tratta di lavorare sodo su questioni concrete, dimostra sempre il pragmatismo delle sue donne e dei suoi uomini ed è per questo, seppur per noi al Senato il tempo di analisi è stato molto ristretto, voglio ringraziare i componenti del gruppo Lega della Commissione Bilancio per il grande lavoro svolto alla Camera e per i risultati ottenuti. In particolare mi congratulo col relatore Massimo Bitonci che ha reso possibile l'inserimento nell'articolato originario di parecchi emendamenti fortemente voluti dalla Lega e concordati con tutta la maggioranza. L'elenco è già stato abbondantemente citato dalla collega Faggi, ma è giusto anche ricordare tutti gli interventi su tasse proroghe, fiere, terzo settore, settore oreca e wedding e poi interventi su imprese con il rifinanziamento della legge Sabatini, il settore terme, il settore agricolo, l'agricoltura con il fondo gelate e il settore apistico, l'automotive con l'estensione degli incentivi anche per l'acquisto di veicoli usati con basse emissioni, questa è una novità. Ancora interventi per le guide turistiche, per i bus turistici, interventi sullo sport, anche con i contributi a fondo perduto su impianti sportivi, in particolare sulle piscine e poi tanto altro che non sto qui ad elencare, questi sono forse gli interventi che più mi stanno a cuore. Un passo avanti è stato fatto anche verso i proprietari di immobili colpiti dal blocco degli sfratti con l'estensione a tutto il 2021 dell'esenzione dal pagamento dell'Imu, come anche è stato prorogato il credito d'imposta sugli affitti anche all'attività d'impresa con fatturato superiore a 15 milioni e situati nei centri commerciali. Alcuni temi sono ovviamente rimasti irrisolti e aperti e qualche ordine del giorno è stato da noi presentato anche in questa sede. In particolare una questione aperta che mi preme precisare è l'estensione della misura della cessione del credito d'imposta ha riferito al bonus 110%, quindi su questo faccio un appello al Governo. Perché quella del 110% sia una proroga reale, sappiamo tutti il 110% è stato prorogato, però perché sia questa proroga reale e fruibile è necessario lavorare affinché si trovi il modo di prorogare la possibilità di cedere il credito d'imposta. Questo è fondamentale. Le questioni aperte sono ancora molte, ma la Lega continuerà a proporre soluzioni concrete e sarà sempre a fianco delle aziende e delle persone che lavorano. Grazie Presidente. Grazie. è iscritta a parlare, è iscritto a parlare il Senatore Pesco. Prego Senatore che è l'ultimo intervento. Grazie Presidente. Sostegni bis è arrivato al Senato in prossimità alla scadenza, quindi è stato esaminato in modo molto rapido. Non abbiamo avuto la possibilità di esaminarlo in modo approfondito, ma soprattutto di proporre delle modifiche e di approvare delle modifiche. questo per via del bicameralismo a senso unico alternato che ultimamente si sta verificando e si sta concretizzando su diversi provvedimenti. Provvedimenti sicuramente poderosi che interessano tutti i studi legislativi, gli uffici legislativi di tutti i ministeri del Parlamento. Su questo dovremmo interrogarci, nel senso che dovremmo trovare la formula adatta, corretta, idonea, per fare in modo che i provvedimenti vengano esaminati in modo concreto da entrambe le Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Il fatto è che questo purtroppo non avviene, probabilmente perché questi provvedimenti sono troppo grossi e sono troppe le misure che noi proponiamo come modifica. Ma giustamente i senatori e i deputati hanno il diritto di proporre delle modifiche a questi provvedimenti. Ma purtroppo la poderosità e l'ampiezza di questi strumenti è così elevata da non permettere agli uffici legislativi della Camera, del Senato, ma anche dei ministeri di poter esaminare in modo efficace, concreto, in modo idoneo tutte le proposte che noi facciamo. E quindi per forza i tempi si allungono. Io avevo pensato di intervenire in modo critico verso il Governo, che ci costringe a questo bicameralismo a senso unico alternato, ma non è una critica da fare al Governo, perché purtroppo dobbiamo renderci conto del fatto che la nostra struttura non è abituata ad esaminare provvedimenti così importanti, così grossi. E questa è la realtà dei fatti. Quindi lamentiamoci del fatto che non dovremmo intervenire in questo modo solo una Camera alla volta, ma teniamo conto della realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che ci sono troppe cose da esaminare, ci sono tanti i nostri diritti nel proporre cose, purtroppo però queste cose vanno esaminate, vanno quantificate, vanno valutate e purtroppo non siamo nelle condizioni di riuscire a farlo. E quindi la colpa, forse è la colpa di tutti, sì, secondo me forse è la colpa di tutti, però dobbiamo renderci conto del fatto che non siamo nelle condizioni di poter fare tutto quello che vorremmo fare. E quindi la critica al governo un po' ci sta, ma la critica dovremmo fare secondo me anche nei nostri confronti, soprattutto quando proponiamo le cose, e la faccio anche a me stesso, che spesso proponiamo delle cose, non dico campate per aria, ma delle cose non sufficientemente studiate per mettere nelle condizioni chi le deve esaminare, di farlo in modo idoneo, in modo corretto, in modo rapido e purtroppo sono delle cose che impariamo giorno dopo giorno stando qui in Parlamento. Ma entriamo un po' nel merito, adesso mi tolgo il cappello da Presidente della Bilancio e mi metto quello da componente del Movimento 5 Stelle, perché è questo provvedimento che è comunque 40 miliardi, ricco di cose per le aziende, per i cittadini, per gli infermieri, per i medici, per le scuole, veramente un provvedimento molto, molto ricco, però alla fine ci sono delle cose che proprio il gruppo del Movimento 5 Stelle non riesce ad apprezzare. La prima cosa, decreto di dignità. Nel 2018 ci siamo impegnati veramente tanto per cercare di tutelare i lavoratori precari e grazie al decreto di dignità siamo riusciti a ridurre il numero dei contratti a tempo determinato, a far aumentare il numero dei contratti a tempo indeterminato, a dar maggior sicurezza ai cittadini lavoratori, a dar magari più sicurezza, a dar più sicurezza senza magari ai cittadini lavoratori che volevano costruirsi una famiglia e adesso invece un passo indietro. Un passo indietro che per fortuna durante l'iter parlamentare alla Camera è stato comunque rivisto, è stata aggiunta una clausola in più, una causale in più, certo discussa a livello di contrattazione nazionale, collettiva, però comunque una clausola in più, una causale in più che permetterà comunque di allungare ancora di più il periodo dei contratti a tempo determinato. E questo non va bene, non va bene per i lavoratori, per i quali appunto dovremmo continuare a impegnarci il più possibile affinché i lavoratori abbiano più sicurezza di un posto di lavoro sicuro e duraturo. Andiamo oltre, cashback, la collega Santanchè ci ha apprezzato il fatto che il cashback sia stato sospeso. Collega Santanchè, non mi rivolgo a lei ma mi rivolgo a Presidente e dico che il cashback è una misura che è servita molto, è servita perché 9 milioni di cittadini italiani grazie al cashback hanno deciso di installare un'applicazione IO e in questo periodo le applicazioni sono molto importanti perché permettono soprattutto all'app IO di creare un'interfaccia tra cittadino e Stato, tra cittadino e pubblica amministrazione, tra cittadino e servizi di cui devono godere i nostri cittadini e senza queste applicazioni, questi servizi non vengono utilizzati e quindi è utile migliorare il dialogo, migliorare la compliance tra cittadino e pubblica amministrazione e fare in modo che sia più semplice interagire, visto che lo chiediamo spesso, di fare in modo che i servizi pubblici vengano erogati con più facilità, ecco l'applicazione IO serve a questo e il cashback è servito a questo ed è servito anche a ridurre la famosa evasione fiscale di cui molto ci lamentiamo spesso e diciamo che va combattuta, proprio l'app IO e soprattutto il cashback consentono di ridurre l'evasione fiscale perché le operazioni vengono premiate se sono tracciate, se vengono utilizzati strumenti tracciabili come ad esempio la moneta elettronica, quindi il cashback è servito, i dati ci dimostrano questo, purtroppo probabilmente chi ha deciso di sospenderlo non ha esaminato in modo approfondito i dati e lo ha pure ammesso e questo non ci piace assolutamente, è stato un attacco al Movimento 5 Stelle che noi qui rivendichiamo e faremo il possibile affinché il cashback venga sicuramente riproposto, venga riutilizzato e magari migliorato perché sappiamo che questa misura sicuramente in alcuni settori può funzionare molto meglio e in alcuni settori magari può essere anche non utilizzato come ad esempio nella grande distribuzione dove già vediamo che vi è ridotta l'evasione fiscale nel momento dell'erogazione dello scontrino, chiaro, magari potrebbe anche non essere utilizzato ma in altri settori dove magari l'evasione fiscale è più facile e sappiamo che ci sono, ecco in quel caso potrebbe essere addirittura un incentivo premiante e magari potrebbe essere anche rivisto il premio magari aumentandolo anche, quindi il cashback sicuramente è una misura che va riproposta e riconfermata. Ma andiamo oltre, ci sono altre due misure colleghi che non c'entravano nulla con il decreto sostegni, che qui al Senato avevamo detto che non c'entravano nulla e avevano state rese improponibili e invece sono andate avanti lo stesso, non c'entravano nulla, spiegatemi che cosa c'entra il contagio, l'epidemia e la necessità di ricostruire un paese, ripartire con il paese, ripartire con l'economia, con la caccia, con la caccia. C'entra la caccia con l'epidemia? C'entrano le esche vive, gli animali vive con l'epidemia? Siamo riusciti a ridurre alla Camera, per fortuna solo per il 2021, con il costo per fortuna limitato pari a 500 mila euro, siamo riusciti, perché parlo come Parlamento, siamo riusciti a ridurre l'IVA sulle bestie vive, sugli animali vivi utilizzati come richiami per la caccia, cioè già si tratta di una barbarie e noi andiamo pure a incentivare le barbarie, io come parlamentare di questa misura sinceramente mi vergogno, anche se è stata approvata la Camera mi vergogno e sinceramente cerchiamo di fare il possibile affinché entro il 2021 questa cosa venga del tutto eliminata, quando il Parlamento e soprattutto il Movimento 5 Stelle è impegnato in questi giorni la raccolta firma per abolire un'altra barbare, la stessa barbare che si chiama caccia. Ma andiamo oltre, vi è un'altra cosa, la caccia è una barbarie, voi sicuramente la pensate in modo diverso, ma secondo me è una barbarie. Vi è un altro provvedimento molto voluto da un gruppo di questo Senato e della Camera che riguarda le sigarette elettroniche, anche in questo caso era stato dichiarato inammissibile al Senato, è stato riproposto alla Camera ed è stato approvato. Ora, la tassazione sulle sigarette elettroniche è una cosa molto delicate perché le sigarette elettroniche contengono anche la nicotina e andare a toccare la tassa sui prodotti che contengono nicotina comunque può influenzare i consumatori, ma non influenzarli attraverso il marketing, ma attraverso il fatto che comunque assumono nicotina. Quindi non è detto che abbassando la tassa sia un maggiore consumo di solo sigarette elettroniche, potrebbe crescere anche il consumo di sigarette vere e proprie, perché contengono la nicotina anche le sigarette normali. Quindi era una cosa molto delicata che andava fatta in un provvedimento a sé e invece è stato introdotto in questo decreto sostegni, sempre con la scusa della pandemia. Ma non solo, questo provvedimento di riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche arriva dopo altri favori che sono stati fatti ai produttori e distributori di sigarette elettroniche nel 2018, quando la tassa era stata abbassata del 95%, adesso la abbassiamo di un altro ulteriore 5%, ma vogliamo far pagare un po' di tasse sulle sigarette elettroniche o no? Interrompo qua e vi ringrazio. Grazie a tutti. Grazie. Fiammetta Modena vuole replicare per caso? No, la ringrazio Presidente. Grazie. Il senatore De Carlo non lo vedo nemmeno, quindi non intende replicare. Il rappresentante del Governo? Intende replicare? No, prima di... Allora, avverto che è in distribuzione il parere della prima commissione. Ha chiesto invece di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento? Onorevole Dincà, ne ha facoltà. Prego, Ministro. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti nei articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge numero 2320 di conversione del decreto legge 25 maggio 2021 numero 73 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati. Grazie, Presidente. Grazie. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia. Sempre stiamo parlando del disegno di legge di conversione del decreto legge. Se chiede di parlare, alzi la mano, onorevole Zaffini. Senatore, ecco. Allora, lasci perdere. Nel testo identico a quello approvato della Camera dei Deputati, commocopertando la conferenza dei presidenti dei gruppi per organizzare il relativo dibattito. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. La conferenza dei capi gruppo ha proceduto all'organizzazione della discussione della questione di fiducia, posta dal Governo sul disegno di legge di legge di conversione del decreto legge imprese lavoro giovani e salute, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati. Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto che verranno luogo domani mattina alle ore 9.30 e a cui seguirà la chiama. Passiamo pertanto agli interventi di fine seduta. Il primo iscritto a parlare è il senatore Bruzzone, che non vedo, vediamo se ci raggiunge, quindi passiamo alla senatrice D'Angelo, che neanche vediamo, al senatore Bruzzone, prego. Presidente, la ringrazio. Io ho chiesto di fare questo intervento per portare all'attenzione del Senato un fatto triste che ha riempito qualche tempo fa i giornali della Sardegna e in modo particolare del Sulcis. Nella parte bassa della Sardegna c'è un'isola che si chiama Carloforte, che è un'isola un po' particolare, che io conosco bene perché ha delle forti tradizioni, soprattutto linguistiche legate a Genova e alla Liguria. Una persona sta male, un elicottero la prende, la porta sulla terra ferma, a terra nel campo sportivo, allo stadio di Carbonia e contemporaneamente l'ambulanza del 118 per poterla portare all'ospedale nel tentativo di salvarla. Se non che lo stadio è chiuso, con un lucchetto lo stadio comunale chiuso, l'ambulanza fuori e nessuno apre la porta dello stadio. I vigili del Comune di Carbonia arrivano abbondantemente in ritardo, si parla non di 5-10 minuti ma molto di più, e la persona muore. Tra l'altro è una persona conosciutissima sull'isola di Carloforte, Maria Bucci, di 70 anni. Si può morire di tante cose, ma non si può morire perché un'amministrazione comunale, quella di Carbonia, è disattenta e non apre le porte dello stadio, le porte del campo sportivo, dove c'è una persona che sta male e che sta aspettando di essere presa dall'ambulanza. C'è in corso un'indagine della Procura, quindi non vado oltre, ma mi è sembrato corretto rappresentare questo episodio tanto per dare un segnale di vicinanza sia alla famiglia sia a tutti i residenti carlofortini dell'isola di Carloforte, per dare un segnale generale al Paese affinché cose di questo genere non accadano e per dare anche un segnale di disabrovazione e anche di contestazione rispetto all'operato del sindaco di Carbonia e dell'amministrazione di Carbonia, che fortunatamente sono sia il sindaco che l'amministrazione uscenti a breve e che usciranno con questa colpa, magari non concreta, non lo so, ma sicuramente una colpa politica e spirituale di aver mancato, di non aver aperto un lucchetto e di aver provocato la morte di una persona. Grazie, senatore Bruzzone. Senatore Pellegrini, prego. Grazie, grazie Presidente. Oggi ricorre il ventesimo anniversario di accadimenti sconvolgenti che rappresentano una pagina nerissima per la nostra Repubblica, pagina che è ricordata come la notte della macelleria messicana, come la definì il questore Michelangelo Fournier, o come la più grande sospensione della democrazia e dei diritti civili dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il 21 luglio del 2001, in occasione del G8 a Genova, dopo una giornata drammatica, le forze dell'ordine fece irruzione alla scuola di Aspertini a Genova, per quella che doveva essere una perquisizione che invece degenerò in una sorta di spedizione punitiva per i manifestanti pacifici e per i giornalisti che erano lì. Ci furono 93 fermati, 61 finirono all'ospedale grondanti sangue, 3 in prognosi riservata e uno in coma. E questa persona in coma, quest'uomo in coma, era il giornalista inglese Mark Cowell, che ebbe poi una mano rotta, otto costole rotte, una emorragia interna che sopravvisse per miracolo. L'unica colpa di questo giornalista, se così si può dire, fu quella di essere lì davanti alla scuola Diaz, da solo e inerme, come del resto accadde a tutti quelli che erano all'interno della scuola di Aspertini. Gli intollerabili atti di tortura e di umiliazione continuarono alla caserma Bolzaneto, poi nelle ore successive. Molti esponenti delle forze dell'ordine sono riusciti a sfuggire alla giustizia, non essendo riconoscibili. E a tal proposito l'Unione Europea aveva raccomandato a tutti i Paesi dell'Unione di dotare le forze dell'ordine di elementi identificativi. A questa raccomandazione hanno poi adempiuto ben 20 Paesi sugli allora 28, però purtroppo l'Italia non ha mai accettato questo invito, questa raccomandazione. Anzi, alcuni esponenti, peraltro apicali, sono stati riconosciuti colpevoli, ma le condanne non sono state scontate anche per via dell'indulto. Dirò di più, nessuno di loro, dei condannati, ha avuto problemi di carriera ed alcuni hanno anche assunto delle cariche importantissime come se avessero ricevuto un premio. Invece i due infermieri penitenziari che erano lì alla Bolzaneto e che denunciarono ai magistrati gli atti di tortura e sevizia i quali assistettero accaduti appunto alla Bolzaneto, chiedo scusa, dovettero lasciare poi il lavoro poco dopo. E che si trattò di episodi di tortura, lo disse anche il prefetto Gabrielli anni dopo. In quei giorni, le chiedo 30 secondi in più, quasi finito, in quei giorni a Gevano si dibatteva su quale fosse il modello di sviluppo più giusto e se fosse idoneo, quello energivaro che ha effetti nefasti sull'ambiente e se fosse appunto giusto adottare una globalizzazione selvaggia che causava enormi squilibri territoriali e ambientali e tra l'altro ingiustizia sociale. E se fosse giusto perseguire e proseguire quello che proponevano i paesi del G8 e le destre che allora erano al governo tra l'altro in Italia. Sappiamo tutti come è andata a finire, la transizione ecologica si sta avviando solo in questi giorni, solo in queste settimane, cioè con vent'anni di ritardo rispetto alle proposte dei No Global del 2001. Cioè avevano ragione loro venti anni fa, avevano torto le destre che invece li contrastavano. Questa è la verità dei fatti, noi auspichiamo che questi accadimenti davvero non si verifichino in più e auspichiamo che l'Italia si doti di una legge contro la tortura e che dia la possibilità di identificare gli esponenti delle forze dell'ordine proprio a garanzia dei tanti, che sono poi tra l'altro la stragrande maggioranza, uomini e donne delle nostre forze di polizia che svolgono con competenza, amore e professionalità il loro lavoro. Lo dobbiamo a loro. Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Angrisani, ne ha facoltà. Grazie Presidente, gentili colleghe e colleghi. La Commissione nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione ha recentemente approvato le linee pedagogiche per il sistema integrato 06 e di notizia di qualche giorno fa l'approvazione dell'intesa in conferenza unificata per il piano di azione pluriennale. Il testo delle linee pedagogiche è stato sottoposto ad un'ampia azione di informazione e consultazione pubblica prima di arrivare alla stesura finale. Secondo il Ministero rappresenta una cornice di riferimento pedagogico, il quadro istituzionale organizzativo in cui si colloca il sistema educativo integrato. Qualche giorno fa la APEI, l'Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani, ha inviato una missiva al Ministro dell'Istruzione, evidenziando l'importanza di un approccio pedagogico nel contesto dell'educazione per tutto il segmento di età da 0 a 6 anni, sostenendo proprio la necessità di inserire nei ruoli professionali, a fianco di bambine e bambini, i professionisti dell'educazione. Ritengo sia indispensabile che il Ministero faccia proprie tali proposte nello sviluppo del sistema integrato, assicurando un pieno riconoscimento del contributo delle professioni pedagogiche, attraverso la scelta del loro utilizzo per tutto il segmento 0 a 6. Ciò in quanto i laureati in ambito pedagogico sono i professionisti più in grado di saper rispondere con consapevolezza e competenza alle esigenze educative dei bambini e delle bambine. Per tale ragione è opportuno inserire la figura dell'educatore e dei servizi educativi per l'infanzia, non solo nei nidi, ma anche nella scuola dell'infanzia, in quanto l'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista che lavora con tutta l'età della vita, da 0 a 6 anni. Si è laureato in scienze dell'educazione e della formazione. Al contempo è necessario affidare il coordinamento pedagogico dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia alla figura del pedagogista, il quale rappresenta il più grande esperto di educazione infantile, essendo proprio conoscitore dei processi di sviluppo dei bambini. La figura del pedagogista appare anche quella più consona all'affidamento della funzione di promozione e valorizzazione delle competenze genitoriali. Se dunque era già necessario l'inserimento al regime di questa figura, lo è ancora di più in questo periodo di emergenza epidemiologica, in quanto c'è il rischio di conseguenze nefaste per lo sviluppo della personalità umana. Se negli ultimi anni si è giunta ad un livello di riflessione e consapevolezza sul tema dell'educazione prescolare, abbastanza maturo, anche a livello normativo, è giunta l'ora di porre basi più solide, in modo da arrivare al più presto alla creazione di un orizzonte educativo nel segmento 06, alla base di un vero e proprio sistema integrato. Senza l'inserimento e l'impiego a pieni regime di educatori e sociopedagogici e pedagogisti, figure ai cui percorsi di studio si pongono l'una in linea di continuità con l'altra, anche in affinità ai percorsi formativi degli insegnanti della scuola dell'infanzia, raggiungere l'obiettivo prefigurato si solterebbe ben più arduo e difficoltoso anche nell'ottica della migliore spesa delle risorse stanziate, che ammontano a 309 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2021-2025. Grazie. Grazie, senatrice Grisani. Ha chiesto di parlare il senatore Taricco, ne ha facoltà. Grazie, grazie presidente. Io intervengo per, cogliendo diciamo così a pretesto, il richiamo dell'interrogazione 404-125 del 5 ottobre del 2020, con cui ponevo il tema dell'accessibilità da parte di familiari e visitatori alla RSA. Nel 8 maggio di quest'anno è stata approvata un'ordinanza di accesso familiari e visitatori da parte del Ministero della Salute. In detta ordinanza, purtroppo, sono rimaste tutta una serie di incertezze interpretative legate alle disponibilità di personale, alle condizioni favorevoli, che di fatto hanno scaricato gran parte delle decisioni sulle spalle del direttore sanitario delle strutture. Questo ha comportato nella maggior parte delle strutture una scarsa disponibilità, diciamo così, all'apertura agli ospiti, visitatori e familiari. Ora, dato che detta ordinanza è in scadenza alla fine di luglio del corrente mese, sono a richiamare, cogliendo a pretesto proprio l'interrogazione cui facevo riferimento prima, il Ministero della Salute a emanare nella nuova ordinanza definizioni più puntuali che non scarichino sulla valutazione da parte del direttore sanitario delle condizioni di contesto, perché questo porterà, come è successo negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, a una difforme, ampiamente difforme applicazione dell'ordinanza nelle varie strutture e in molti casi a ragionare più a tutela, diciamo così, della struttura che non in quelle che sono le finalità dell'ordinanza, cioè di stabilire condizioni e regole per l'accesso di familiari e visitatori alle strutture. Questo anche in un'ottica di benessere complessivo degli ospiti delle stesse. Grazie. Grazie, Senatore Taricco. I nostri lavori si sono conclusi. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22, alle ore 9.30, con l'ordine del giorno comunicato e alle 15 con la consueta seduta del question time. Comunico e sono prevenute interrogazioni, interpellanze e mozioni che verranno pubblicate nell'allegato B e il resoconto della seduta odierna e tolgo la seduta. Grazie. 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 Grazie.